Ben ritrovati, speciale lezione 2014, qualche minuto di ritardo ma ci siamo pronti ad iniziare questa lunga diretta dedicata allo spoglio delle amministrative 2014, naturalmente non mancheranno i commenti al risultato delle elezioni europee. Doverosa la presentazione dei nostri ospiti in studio, saluto subito il collega Renzo De Cesare immancabile la sua presenza nei nostri studi quando si parla di elezioni, poi non ha bisogno di presentazione Antonio Vulo grazie Antonio, grazie di essere qui con noi e poi i nostri primissimi ospiti, saluto e ringrazio per la sua partecipazione l'onorevole Giovanni Fortunato, allora grazie di essere qui con noi, consigliere regionale onorevole Giovanni Fortunato poi giovanissimi esponenti del partito democratico di Vallo della Lucania, Cristiano De Cesare e Dino Ruocco e poi altro volto familiare dei nostri telespettatori Antonio Pesca, primissimi ospiti ma naturalmente poi ci raggiungeranno anche altri ospiti nel corso di questa lunga diretta. Prima di parlare delle elezioni europee, quindi un commento al risultato nazionale, provinciale ma soprattutto locale, vogliamo fare insieme a Renzo e Antonio una rapida carrellata perché i nostri telespettatori ci stanno telefonando per quanto riguarda lo spoglio degli amministrativi abbiamo già dei dati, anche se parziali, però sono indicativi su come sta andando la situazione Renzo, allora quali comuni puoi darci già qualche risultato? Diciamo subito Gioe Cilento, quindi si conferma Andrea Salati, Cuccaro Aldo... Allora, diciamo che sono dati ancora parziali, però le indicazioni sono quelle Ci sono delle sorprese in corso, nel senso che per esempio, delle tette a tette in qualche caso Anche delle sorprese Sì, anche delle sorprese, per esempio Viterale che perde in maniera... Cammarano Cammarano Andiamo però per ordine, perché Viterale parliamo del comune di Rofrano Allora, andiamo un attimo a Renzo, dici tu quali comuni, più o meno Novivelia? Novivelia sta in testa la candidata sindaco oscente, Maria Ricchiuti Maria Ricchiuti è in testa con una buona percentuale al momento Sì, qua posso darti dei dati che abbiamo fino ad ora Allora, Maria Ricchiuti 433, Azziano di Vita 311, mancano ancora però mille schede ancora da scutinare Sì, diciamo che intorno, se questa è l'ultima data che abbiamo, sui 120 voti di differenza Di differenza Poi quale altro comune puoi darci tu? Per esempio la Maida Eros Lamai da Castelnuovo Cilento E' in testa nel comune di Leone di circa 50 voti Quindi sindaco oscente e qui riconfermato Poi Gioia Cilento che sembra... Gioia Cilento ce l'abbiamo detto già Salati Andrea Salati, che lo ascolteremo tra poco in collegamento delle porte E c'è un nuovo sindaco pure nel comune di San Mauro, un comune molto importante Giuseppe Cilento è stato sconfitto Sindaco oscente che non viene riconfermato Da Carlo Pisacane Quindi un nome che... Che non altro era vice sindaco nella precedente Quindi questa è già una grande sorpresa, dobbiamo dire Perché il sindaco, il professore Gioia Pino Cilento ha fatto bene negli anni Amministrato negli ultimi cinque anni, giusto? Poi sappiamo la triste vicenda della zona, il limitro fallì di Pollica, eccetera, eccetera Molto, diciamo, presente E abbiamo anche questo dato su Ascea, su 1.400 schede Ecco, qui abbiamo tre candidati Per Ascea con Antonio Criscuolo, sindaco rappresentante dell'amministrazione oscente Poi il giovanissimo Egido Criscuolo E poi cambiamo Ascea con Pietro Rangiolino Che mi sembra che al momento... È proprio in testa È una novità, perché la sfida sembrava essere... 518 voto cambiamo Ascea su 1.400 schede Poi abbiamo 425 per fare Ascea ai giovani, sarebbero E poi 415 per Ascea, diciamo, la lista del dottore Rizzo Sì, è una novità, perché la sfida sembrava essere tra i due Criscuola Antonio Criscuola e Egidio Criscuola Sì, anche se cambiamo Ascea al momento Sembra essere in vantaggio Ecco, questi altri numeri dai comuni che stiamo monitorando Laureana, Angelo Serra vicino alla riconferma Sindaco Sciente che va alla riconferma Poi abbiamo Giungano, dove è vicino al terzo mandato Palumbo In avanti su Francia Poi dicevamo Di Gioi, mentre a Salento Bella lotta, un bel testo a testa tra Scarpa e De Marco Leggermente in testa a Scarpa però al momento Allora Torri Orsaia... Vicino alla riconferma anche Cicerale Con Carpinelli che sfida corrente Allora Torri Orsaia, diceva l'onorevole Fortunato Prima Torri Orsaia E' in svantaggio il sindaco uscente, giusto? Sì, perché c'è stata una grande liberazione Rivoluzione a Torri Orsaia dopo decenni E finalmente il popolo torrese Si è liberato Vi sarà una nuova compagine Sta stradincendo su Pietro D'Angelo E io credo che era arrivato il momento Di cambiare volta anche quel paese Che era una fase di decadenza totale Quindi auguro al nuovo sindaco La nuova amministrazione Di fare di più, fare bene E far dimenticare presto I passati amministratori Nel Vallo di Diano c'è questa bella sfida Sto alla Consilina con sei candidati Anche qui naturalmente c'è grande attesa Sì, se non sbaglio sono molto vicino Tra di loro E quindi c'è un'altra situazione Un po' Sono sei liste E quindi effettivamente si vince con 30-32% Pare che a Torraca sta in testa Cosentino Diciamo la lista di Daniele Filizola La tua collega Quindi gli faccio gli auguri Speriamo bene Caselli in pittere Pare che la lista del sindaco scende Giambiero Nusso E si è avanti E quindi Tancrede Ce la dovrebbe fare Perché se non sbaglio Sono 70-80 voti in più Caselli in pittere Rofrano Anche lì Si è cambiato Odorevole scusatemi se vi interrompo Perché abbiamo un collegamento telefonico da Ascea Pronto? Maria Rosaria? Sì, ciao Carmela Buonasera Buonasera Grazie a te Stai lavorando ad Ascea Uno dei comuni sicuramente più grandi Del Cilento chiamati al voto Noi abbiamo dato già delle indicazioni Ecco, però ascoltiamo te Qual è la situazione al momento? Allora in questo momento Io sono ad Ascea Paese Dove ci sono le due sezioni Abbastanza grandi Prima quelli di Ascea Marina Che sono la sezione numero 1 e la 2 In questo momento I dati diciamo globali Perché alle frazioni Alpe Terradura, Catona Allia Lo spoglio si è già concluso Già da più di una mezz'ora E con avanti Cioè diciamo con il risultato positivo Per la lista numero 3 Con 175 voti Quella con candidato al sindaco Pietro D'Angiolillo La lista numero 1 Con candidato al sindaco Egidio Priscuolo Con 105 voti E la lista numero 2 Con candidato al sindaco Antonio Priscuolo Con 80 voti Questo per quanto riguarda le frazioni alte Adesso Quello che vi posso dire In modo molto parziale Ovviamente Dei dati raccolti finora Tra le altre frazioni Stampella Ascia Marina E Ascia Paese Vede avanti Globalmente La lista numero 3 Con candidato al sindaco Pietro D'Angiolillo Che è più o meno Un centinaio di voti Davanti alla lista numero 1 Con candidato al sindaco Egidio Priscuolo E la lista numero 2 Con candidato al sindaco Antonio Priscuolo Quindi in questo momento È avanti Hai una sorpresa O no Quali sono i primissimi commenti Sembrava che la sfida fosse tra i due Criscuolo È una sorpresa Oppure ad Ascea Non c'erano dei pronostici veri e propri Ma Si aspettava anche un risultato simile Allora Diciamo che ad Ascea In questi giorni Come anche in questo momento Si respina molta incertezza Cioè Nessuno si è mai sbilanciato Più di tanto Perché appunto È stato ed è tuttora Un risultato incerto Nel senso che Non si sapeva Come non si sa oggi Quale può essere Il risultato finale Di questa competizione elettorale Quindi tu dici ancora Non parliamo Tu dici ancora è presto Per Ecco Dare qualsiasi notizia certa Dobbiamo aspettare Perché potrebbero esserci Delle novità Sì sì Penso che dobbiamo aspettare Perché ad Ascea Marina Hanno iniziato Di spogli un po' in ritardo Per cui I dati che vi ho dato io Guardano Cioè Pochissime schede Per cui Ascea Marina Essendo lì Ovviamente un bacino Molto grande Di elettori Bisogna Aspettare Ancora un altro po' Credo che Già fra una Quarantina di minuti Massimo Un'oretta Potremmo avere Un quadro Non definitivo Sicuramente Però Più chiaro Perché in questo momento Avendo Ascea Marina Iniziato il ritardo I dati Sono abbastanza Così Incerti Allora Grazie Maria Rosario Buon lavoro Tineci informati Non appena hai notizie Siamo qui pronti Per darti La linea Intanto io Vorrei salutare Anche Grazie Il sindaco di Stella Cilento E presidente della comunità Del parco che ci ha raggiunti Antonio Radano Allora le faccio subito Questa domanda A caldo Avrà sentito che Alcuni sindaci uscenti Almeno da questi primissimi dati Non ce l'hanno fatta Tra cui anche il sindaco Di San Mauro Cilento Giuseppe Cilento Viterale Anche Arrofrano Stavente delle difficoltà Da quando abbiamo ascoltato Anche l'amministrazione Uscente da Scea Rizzo Allora sindaco Che cosa sta accadendo? Sono dettate da problemi seri Quindi spesso non prevale Il buon lavoro Ma prevale il messaggio Che viene dato alla gente Quindi io penso che E' cambiata da qualche anno La scena amministrativa Non solo locale Ma dall'alto Diciamo Da Roma in giù E' cambiata totalmente La scena Come arrivare il messaggio Agli elettori Ormai viviamo in una situazione Dove si balbetta Anche nella comunicazione Dall'alto E quindi i cittadini Che stanno in casa All'indanati Spesso vengono abbagliati Da altri fattori Che non sono solo Fattori di concretezza Oppure di Chi ha lavorato bene Ma soprattutto Da altri meccanismi Che sono il meccanismo Appunto E io E qual è il forto rammatico? Di non No Io Giuseppe Cilento Per esempio Io Giuseppe Cilento è un amico Come sono amici tutti Non è che faccia una questione Però io penso che Peppo Cilento Ha rappresentato Mi ha visto Un buon lavoro Se proprio vogliamo trovare Il pelo nel luco E lo sto spiegando Io penso che Come lo può Testimonere anche Fortunato Anche se è stata All'altra sponda Della mia Idea politica Lo può confermare Come lo potete confermare Pure voi Quelli che vengono Da un'estrazione diversa Da quello che oggi Prevale nel mondo Della politica attuale Diciamo una forza di cenere Ma bensì Quelli che prevengono Dalla Dalla sinistra Sinistra E qui Forse prevale Questo dio minore Quindi anche su San Mauro Forse c'è stata Questa attenzione E una domanda Siccome Celle di Bulgaria Che è un po' Un'anomalia Nel senso che Non c'è stata Un'altra lista Non hanno preso il curvo Però Celle di Bulgaria È un comune capofila È una cosa grave Io poco fa Prima di venire qua Avevo Dall'altra parte Su una vostra Concorrente Mi tende C'era Un ex presidente Gino Marotta Eh sì Lo so Marotta Ad oggi E questo Quando lui Magari non è un'accusa Che io faccio Quando si parla Si parla di inerzia Oppure di mobilismo Da parte di tutte Gli enti Sovracomunali Che magari potrebbero essere Il parco Potrebbero essere la regione Potrebbero essere la regione Che purtroppo Pure ci sono delle Forte lacune O noi dovrebbero guardarsi Anche nel proprio interno Perché a mio avviso Può vincere chi vuole Destra, sinistra, centra Ma lasciare Un comune Nelle mani del commissario Vogliamo spiegare Celle di Bulgaria L'unico candidato Non ha raggiunto il corvo Perché non si sono recati al voto Io sono rimasto Sono rimasto allibito Lo dico qui Perché l'amico fortunato Che anche se Rappresenta Ha rappresentato Anzi Qualche idea diversa Noi siamo stati a Roma Qualche mese fa A tutelare L'interesse del cilento Lui magari in maniera diversa Sul problema del gas Io onestamente Del metano Chiedo scusa Noi abbiamo in questo momento Il comune capofila No la dico è una cosa È gravissima È gravissima È gravissima Lui adesso Adondrava colpe Ad altre Diciamo forze politiche Oppure forze politiche Anche dello stesso partito In cui ha partito E io lo dico qui Senza sorte di smettito È una cosa gravissima Gravissima perché Proprio perché Il finanziamento c'è stato E quindi potevamo partire Non è che si blocca Però poteva Abbiamo perso sicuramente Del tempo Il commissario sappiava benissimo Che non è che si lavano le mani Facilmente Perché qua Non è che Il commissario non è che può gestire Una fase di Di straordinaria attenzione Poi chiaramente ci possono essere Idei diverse Ma questo dicevo per questo motivo qua E beh è accaduto lo scorso anno a Futani Hanno aspettato un altro anno E poi su questa cosa Voglio aggiungere una cosa Se è possibile Non di natura politica Perché dobbiamo dirla tutta Ognuno sa le sue cose Però una natura Proprio tecnica Io mi appello anche a Fortunato Ma anche a chi È più forte di me A livello di autorevolezza politica Di far pervenire Al Parlamento Che vada modificata Questa legge Cioè oggi Nell'anagrafe dei comuni Vengono iscritti Quelli dell'Aire E quindi è una cosa È una cosa vergognosa Cioè un comune piccolo Anche di 7-800 abitanti Addirittura Possono essere inseriti Nell'elenco Il 50% Addirittura Io ieri ho saputo Potremmo Mi confermerete Che a Rofrano Non so quante persone Sono venute da fuori Addirittura dalla Germania Non so se è una notizia Si è visto il risultato Non lo so Quindi queste cose Queste cose Mettono in bilico La democrazia di un paese Perché se uno viene Dalla Germania Dall'Australia Non sai veri problemi Ma non Cioè chiaramente Può essere l'amico O l'amicizia di turno L'onorevole non è d'accordo Ascoltiamolo sia su Celle Vediamo l'onorevole Io condivido una parte Della riflessione dell'amico Non è una questione Di colore politico E sicuramente È un grande errore Lasciare un paese Amministrato a un commissario Quindi non amministrarlo È una responsabilità politica Di chi è fatto nome Chi ha rappresentato La politica Nel bene e male Nel passato Gino Marotta Arrivato a un certo punto Si devono ritirare O hanno il coraggio Di sfidare Ho sentito Dalle sue voci Chiedo scusa No 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 Ma no no Lo dico io E quindi io credo Comunque che Bambi Questa lista Non è riuscita Ad arrivare al cuore Ma a vincerà l'elezione Fisiologo Succede sempre così Perché chi si comporta male Contro i cittadini Perché far arrivare Un commissario Significa che viene bocciato Al popolo Il problema qual è È proprio Il problema fondamentale È proprio Quello che diceva il sindaco È della discrizione All'aere Perché il mio paese Paradossalmente Sono più votanti Che residenti Perché ci sono Mille persone all'aere Questo è un fatto Quindi modificare la legge Ma non consentire I nostri compaesani Che sono stati costretti Ad immigrare Ad esprimersi Assolutamente Io non ci sto No 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 Lui dice di non parlare Io ho detto Che vengono portate Anche con i pulpi Ma forse Sì ma anche con il treno Perché loro rappresentano La nostra terra Rappresentano Tanto sta entrando L'assessore Attilio Piro Lo salutiamo E lo ringraziamo Per la sua partecipazione Rappresentano La nostra storia Rappresentano le persone Gli amici I parenti Che sono stati sacrificati Che hanno avuto più difficoltà Che sono stati costretti Ad immigrare Io credo Che chi va fuori Ha il diritto Di votare E ritornare Nella propria terra Altra cosa Farro vince Su Ameleto Farro Mentre a Laureana Cilento Manca davvero pochissimo Intanto chiediamo Subito Subito L'assessore Sono stati confermati I voti dell'elezione scorsa Io credo che Fratelli d'Italia È un piccolo partito È nato È in una fase di evoluzione Ovviamente In percentuale È la stessa Politicamente Come numero di voti Fratelli d'Italia Ha preso 10-15 mila voti Vedo che Antonio Pesca Non è molto d'accordo La percentuale Dico la percentuale È la stessa 7-8% Come alle politiche Io credo che I partiti Con la riforma Che si è da fare I piccoli partiti Non hanno senso L'Italia Ha bisogno Di chiarezza Due partite Centro-destra Centro-sinistra Grillo Fortunatamente È crollato Io sono contento Che ha vinto Renza Anche se io Contro Fonsi Spero che Quello che promette Quello che promette Però io credo Che i piccoli partiti Non hanno più spazio Quindi c'è bisogno Di un grande partito Di centro-destra Di un grande partito Di centro-sinistra Oggi sta vincendo Renza A me fa piacere Che il governo Vorrei rispondere Al consigliere A prescindere dal fatto Di Fonsi Che Fonsi O Ebbetino È molto simile Però voglio dire Che Renzi È una persona Che invece ha autorevolezza Ha dimostrato In Italia E in Europa Assolutamente Di poter portare Un verbo nuovo Chiaramente Tutti voi Immagino Che qualcuno Si fanno sempre Alchimie Lei sta al centro Tra Fratelli d'Italia Allora io dico una cosa Loro fanno le alchimie Io dico i dati I dati dicono Che qui Nella provincia di Solano Il PD ha vinto Non esiste Qualcuno conferma O il partito Degli assenteisti La verità È che sì Anche grazie a Renzi Se non soprattutto a Renzi Però il PD Oggi è un partito Fortissimo Quindi loro Dovranno fare i conti Con noi Possiamo ascoltare Un attimo Antonio No a livello nazionale Bisogna dare altro Vinto il PD Non esiste Poi l'assenteismo Sì L'assenteismo Non giustifica La vittoria O la sconfitta La vittoria del PD La sconfitta E di Grillo I partiti di centrodestra Dovranno inevitabilmente Fare delle riflessioni Intensate Con l'onore fortunato Volevo intervenire Sempre con tu Cirilli Che penso che È stato un grande sconfitto Da questa No no Poi rispondo solo Non è Non è Il problema Non è una questione Della sconfitta Del presidente Cirilli Il problema è che Il modello Che si pensava Tipo proporzionale Non va bene più Con la vittoria di Renzi Che insieme a Berluscona Hanno voluto Il bipolarismo Inevitabilmente Il proporzionale Non esisterà E quindi I piccoli partiti Andranno a morire Inevitabilmente Si devono unire Quindi c'è bisogno Di un grande partito E a Renzi Gli do Una buona fortuna In bocca al lupo Ovviamente È una vittoria Indiscussa Di Renzi Sulle promesse Io mi auguro Che faccia Quello che ha promesso Perché io di solito Io ho vinto Il mio paese Forse il primo partito In Forza Italia In Italia Dove ho raggiunto Il 45% E la gente Mi ha votato Per quello che ho fatto Quindi io mi spero Che Renzi Sarà riconfermato Di più Come consensi Perché quello che ha detto Farà Ho molti dubbi Su questo Però il centro-destra Io credo insieme Fratelli d'Italia Il nuovo centro-destra E Forza Italia Devono ritornare A casa madre Dopodiché Fare un grande partito Fare opposizione Facciamo governare Il partito democratico Perché sono convinto Che governando Loro Se faranno bene I cittadini Lo premeranno E se faranno male Sicuramente Noi saremo prendi All'alternativa Fratelli d'Italia Domanda Aspetta I dati delle politiche scorse Fratelli d'Italia Era al 2% Un po' sotto Il 2% Oggi siamo al 3,66% Comunque Non ha superato Lo sbarramento Comunque c'è stato Un risultato positivo Rispetto Alle elezioni Scorse Se è la sola Tattica Non è vero C'è la legge Tanto salutiamo Il sindaco di Pollica Stefano Pisani Che ci ha raggiunto In Stuma Io volevo cogliere L'occasione Per dire Perché giustamente Tu volevi far dialogare Tra due Tra i detti ai lavori Dello stesso schieramento Ma quello Il dato Forse che Volevi far Trapelare E come mai Forse per bonda loro O per capacità loro In una provincia Che giustamente Dettata ancora Dove forse Italia Se non sbaglio Ancora La maggioranza Tra virgolette Quella del centro-destra Abbia Giusta ragione O torta ragione Non è che sta a me Decidere Forse delegato Un po' troppo La gestione Della cosa pubblica Cioè questo è un dato Che deve essere Diconosciuto No ma non erano Una Allora il problema Che lei ha detto Ti confondi Sai perché La provincia Non esiste più Di fatto è stata Soppressa Non ha risorse E un'istituzione Che una volta L'antipolitica Ha deciso di chiudere Io credo Che Renzi Non gioca Non gioca Ma faccio le cose serie Chiudiamole Perché non hanno senso Certamente alla provincia Non mi riferivo Vabbè Scusate Oggi Oggi Gestire un ente fallimentare Come sapete Da quello che è editato Dai tagli che ci sono stati Sia la provincia Sia l'asle È un fattore negativo Per la politica Amministrare gli enti Se si amministravano Come li hanno amministrato Negli anni addietro Con fior di milioni Milioni di euro E gestire Investire sul territorio Allora la situazione Era diversa Oggi qua Dobbiamo andare A coprire Andiamo a coprire Tutti i vari danni Che abbiamo ereditato Ma su tutto Anche sulla gestione Dell'asle Ma c'è un buco C'è un buco Che fa paura Domani mattina La maggior parte di noi Ci stiamo ai comuni Il sindaco No vogliamo fare una differenza Da come venivano gestiti prima Con i fondi a disposizione E oggi Parliamo di adesso Le risposte che il sindaco Pisani Che qui presente Anche l'altro sindaco lo stesso Vogliono dalla regione E i cittadini che ci sentono Che ci sentono Queste benedette strade Che siamo diventati Una gemacana notevole Quando si risolverà il problema? Posso guardare brevemente No perché Che va a finire Io mi auguro Che anche nella provincia di Selenne In questo Cilento Ci sia un vento nuovo Di renziani Nel senso di giovani Che amano la politica E fare la politica Ma il fatto che Si vota ancora Coloro i quali Hanno distrutto La nostra terra Hanno succhiato Il sangue Dei nostri figli Hanno indebitato Noi E fine I nostri pronipoti Indebitando provincia Regione Ahimè Se una strada è rotta Due sole cose Allora la cosa crolla O perché non è stata fatta la manutenzione O perché è stata costruita male Quindi sicuramente Non è stata la manutenzione Se una cosa crolla Perché negli anni passati Non è stata fatta la giusta manutenzione E se crolla Oppure è stata costruita male Sicuramente il centro-destra Non ha questa responsabilità Viviamo una politica Che da oggi a domani Cambia lo scenario Come è successo con Grille E così via Io credo che i cittadini Campani Sanno distinguere Quello che sta facendo Il governo Caldoro Con grandi sacrifici E quello che ha redditato Ahimè Io farò avviso Ci mancherebbe Io sono contento Chi ha vinto Renzo Non ha vinto Grille Però ahimè Siamo attenti Non dimentichiamo Perché chi è responsabile Della situazione attuale Hanno nome e cognome Chi ha amministrato La nostra regione Nella nostra regione Negli ultimi vent'anni Il centro-sinistra La regione Che il nuovo corso Del centro-sinistra Corrente Ci siano sindaci giovani Che possano Rilanciare Siamo solo Un minuto solo Abbiamo un sindaco Riconfermato E poi torniamo sulle strade C'è Andrea Salati Nicola Sì sì Ciao Nicola Allora Sono già iniziati I festeggiamenti? Siamo Siamo nei festeggiamenti Senti Ti voglio dare un attimino I dati Almeno Diciamo Definitivi Sì Sezione numero 1 Che sarebbe quella Joy 347 per la lista Del sindaco Scente 201 Per gli avversari Mentre a cartile Sezione numero 2 281 per la lista Per la lista numero 2 E 86 per la lista numero 1 In totale abbiamo 628 per Salati E 287 per Maio E quindi Riconfermato Salati Una vittoria nella vittoria Nicola Perché Qualche sindaco Cusciente non ce l'ha fatta Quindi essere riconfermato In questo momento Alla guida di un paese È una soddisfazione in più Abbiamo Tuo padre in linea Sì 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 Te lo passo subito Ecco qua Facciamo gli auguri al sindaco Allora c'è un po' di gente sindaco Buonasera Siamo a casa Davanti alla televisione Ah quindi ci state vedendo Ci fa piacere Che Auguri davvero Da tutti E come dicevo Nicola È una soddisfazione in più Perché in questo momento Essere riconfermati Dalla propria comunità Non è facile Sì sì È vero È vero Sono Emozionato Perché Si sente In realtà è una vittoria Diciamo Schiacciante Una riconferma Per Quasi un riconoscimento Anzi un riconoscimento Dell'opera Dell'azione svolta In questo quinquennio Che me li prometto Di portare avanti Anche nel quinquennio Successivo Volevo Ringraziare un poco Tutti i miei lettori I miei compagni I sani Ovviamente Insomma Anche Soprattutto Soprattutto la mia famiglia Che mi è stata accanto E quindi Sono emozionato Ed è plausibile Questo fatto Però volevo annunziare Soltanto una cosa Poiché Tra Quelli che Mi hanno sostenuto C'era C'era il gruppo Dei lavoratori Afferenti al Consorzio Di rifiuti Che da domani mattina Inizierò Una delle mie Solite battaglie Penso che ormai Il Cilento Ha imparato A conoscermi Per evitare Che il primo Di giugno Questi lavoratori Vadano in mobilità Quindi Lo annuncio stasera Subito Dopo la Vittoria elettorale E penso Di portarla avanti In modo tale Da scongiurare Quest'ulturiore Crisi Nel nostro territorio Vi ringrazio Per tutto Quello che Avete fatto In passato Speriamo che In futuro Continuiamo a collaborare Salutatemi Antonio Radano È qui È qui Mio compagno Di vendura In molte battaglie Voltate avanti Nel Cilento Ovviamente Saluto tutti voi Mi sembra Di aver visto Anche L'onorevole Fortunato È qui 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 Ce lo cuciniamo Lui È Fortunato Quindi Vi ringrazio A risentirci È una vittoria Ascoltata È un sindaco Importante Adesso Sindaco Parlavamo di strada Questa è un'altra Delle sue battaglie Che ha perso Grazie Un grande sindaco Grazie a voi Grazie a voi Geppino Cilento Come mai questa sconfitta Di Il sindaco era di San Mauro Di San Mauro Ho detto sì Di San Mauro Sono ancora io Il sindaco di Pollica Lo so Lo so Ma come mai questa sconfitta Ma diciamo che A San Mauro C'è stato un avvicendamento Perché c'è C'è stata L'affermazione Di forze nuove In un comune Vicino a noi Spero che Si faccia bene Soprattutto Si ricostruisca Velocemente Un clima di collaborazione All'interno Della comunità Di San Mauro Cilento Penso si possa fare Bene E' un comune L'inito Per noi è molto importante Perché fa parte Anche di un'unione Dei comuni Insieme al comune Di Casalverino Insomma vedremo Che cosa succede Nel frattempo C'è sicuramente L'entusiasmo Di giovani forze Che si avvicinano All'amministrazione Andrea Salari E' un esempio importante Perché prima sentivo dire Quando si amministra La cosa pubblica E' difficile fare consenso Ma Devo dire Quando uno invece Amministra bene La cosa pubblica Lo fa alla grande E viene riconfermato Che vogliamo dire All'assessore Per quest'estate Che arriva E' arrivata Ma penso Ne abbiamo da dire Una moltitudine di cose Facciamo fare una promessa All'onorevole Fortunato No più che le promesse Bisogna Una promessa concreta No ci sono degli atti concreti Ci sono dei decreti Di finanziamento Da firmare Ancora Quasi nessuno L'ha ricevuto Sono i decreti Dell'accelerazione Della spesa Finisco Sono i decreti Di accelerazione Della spesa E in più ci sono Delle altre risorse Da impegnare Vorremmo sapere come Però velocemente Ecco Onorevole Allora intanto Rispondo subito Perché ho la fortuna Prima Io ho fatto gavette La politica Sono nato come loro Da piccolo Ho fatto politica Non sono nominato Venco dal territorio Ho fatto prima E sindaco Sono presidente del consiglio Quindi amministro E poi faccio la politica E rilancio Perché bisogna Coniugare Se si vuole il bene Del territorio Quindi rispondo Subito al sindaco Può stare tranquillo Io mi auguro però Che lui abbia fatto Il bando Come l'ha fatto Il mio comune E come hanno fatto Altri comuni Perché io in regione Diciamo che non ci sottraiamo mai Come amministratori Io dico Mi auguro Anche perché Non tutti l'hanno fatto Io ho fatto una battaglia A regione Personalmente Avendo la fortuna Di aver fatto il sindaco Essendo ingegnere Di fare inserire Nella delibera La possibilità Di fare il mando E subordinare L'avvio dei lavori E quindi la consegna Definitiva Al rilascio Del decreto Questo ha consentito Veramente Di accelerare Cioè nel frattempo Che i comuni Fanno Tutta La procedura La regione Ahimè I dirigenti Il sindaco Il sindaco Sarà benissimo Che purtroppo A volte Non dipende Soltanto dal sindaco Chi amministra Però Allora 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 Gravissimo Perché abbiamo Il collegamento telefonico Il collega del mattino Dal Vallo di Diano Pasquale Sorrentino Ciao Pasquale Buongiorno a tutti Buongiorno Salve Ci puoi aggiornare un po' Sull'antamento Nei comuni Che stai seguendo tu Nel Vallo di Diano Su tutti i sali consigli Sì come no Saluto gli ospiti Saluto i telespettatori Ci sono un po' di sorprese E un po' di conferme Qui nel Vallo di Diano Se vuoi vi dico Un po' di l'elenco Dei comuni Se interessa Sì grazie Allora Sto la consiglina Che è il paese capofila Sta vincendo La liste uscente Quella del sindaco Che adesso non si può più candidare Che è Gherano Ferrari E quindi è Cavallone Che sta dominando E ha quasi vinto Possiamo dire Seguito dal gruppo positivo Che è un gruppo Diciamo di idee Di sinistra Che può avere Scusami Pasquale Siccome non eravamo In ritorno in studio Puoi ricominciare Perché non abbiamo capito L'inizio del tuo intervento Perdonaci Allora Vi faccio l'elenco Dei paesi Che sto seguendo Partendo dal comune capofila Del Vallo di Diano Che è Sala Consilina Dove Sala Viva Cioè la lista Della maggioranza Della maggioranza uscente Sta dominando E ormai ha quasi vinto Che ha più di 200 voti Di vantaggio Sulla seconda lista Mi sentite? Sì sì Seguiamo Prosegui velocemente Perché abbiamo altre notizie Vai vai Continua Le più sorprese Sono Sant'Arsegno Dove la lista Del PD Ha perso Contro Antonio Coiro Quindi ha vinto Antonio Coiro Battendo praticamente La lista Appoggiata dal consigliere Regionale Adonato Pica Questa è una grande sorpresa Per il Vallo di Diano Anche perché la differenza È ampia Di voti Altra sorpresa È a Teggiano Dove la lista uscente Del sindaco uscente Di Candi Ha perso Con oltre 400 voti Di differenza Davvero Cimino Queste sono le sorprese Più grandi Del Vallo di Diano Non ho capito Sarà la consiglina Il quale candidato A sindaco Cavallone 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 sta dominando Sì Puoi darci qualche altra curiosità O ci aggiorniamo Ci posso aggiornare Caggiano Conferme il sindaco E Auletta Conferme il sindaco Queste sono le ultime novità E anche San Pietro Altanaco Conferme il sindaco Cocuzzo No 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 Non è Cocuzzo Mi sento lontano Sì Auletta hanno tre liste Auletta E Pessolano Auletta sta vincendo Pessolano Che è il sindaco scende A San Pietro sta vincendo Ha vinto ormai 40 Del partito democratico Che è il sindaco scende E a Caggiano Ha vinto il sindaco Giovanni Caggiano Anche lui sindaco scende E tutte e tre Hanno vinto con Ampio margine Quindi riconfermate Le amministrazioni uscenti Un po' nel Vallo di Diano San Darsenio e Teggiano Soprattutto per l'importanza politica San Darsenio e Teggiano Il cambio al vertice Fa rumore Diciamo Grazie Grazie a voi Ci aggiorniamo a fra poco Grazie Vorrei completare Salve Facciamo completare Non lo vabbè Non lo vabbè Voglio rispondere al sindaco E vale pure per gli altri sindaci No ma quello perciò Tutti quelli che mi ascoltano Allora Spero come dicevo Che tutti i sindaci Abbiano fatto il bando Bisogna fare una premessa Che la prima volta Che succede Che un organismo politico Importante come la regione Finanzia tutti i comuni Senza guardare Se è di centro destra E di centro sinistra Tiene conto delle progetti No però Finanzia tutti i comuni Ma noi stiamo stabilendo Un'altra regola Stasera stiamo stabilendo La regola Che sostanzialmente No no Posso rispondere Io devo rispondere Alla sua domanda Però devo fare Allora La prima volta Che nella storia Della regione campania Un governo regionale Decide Decide di finanziare tutti Perché è giusto Che vengano finanziati Tutti i comuni Senza guardare Il colore politico A differenza Di quello che è successo Detto questo Un'altra novità importante Si è deciso Che niente attuatore Siano i comuni E che la scelta Delle priorità Delle progetti Sia Derivano E vengono E vengono scelte Dalle territori Dalle sindaci Dopodiché Chi ha fatto il bando Ovviamente La regione E gli uffici regionali Stanno facendo I decreti E stanno inviando I decreti A tutti i sindaci Siccome non è un solo Decreto Fortunatamente Da qui a settembre La regione Campania Dopo una crisi profonda Dopo un risanamento profondo Dopo un governo Di centrosinistra Che ha distrutto La sanità E tutta la regione Campania Ma no L'abbiamo finita La campagna elettorale L'abbiamo previta E chiuso Da qui a settembre La regione erogherà Circa 30 Ma che cosa eroghiamo A tutti i comuni Allora guardate E' triste che adesso Non solo sono stati dati I fondi a tutti i comuni Non è stato dato proprio nulla Da qui Voi ci state esponendo Ad oggi ci state esponendo Noi stiamo esponendo Noi chiediamo la serietà A tutte le amministrazioni Di fare i bandi E nel frattempo La regione Campania Eroverà i fondi Da qui a tre mesi Saranno tutti erogati Sindaco prego Allora innanzitutto Abbiamo compreso Che stasera La regione Campania Ha finanziato tutti i comuni Piccolo problema La regione Campania Ad oggi non ha finanziato nulla C'è una delibera di indirizzo Che dice che dei progetti Sono proverenti Però onorevole Mi devi lasciare completare Allora faccio da qui Mi devi lasciare completare Mi devi far completare Onorevole Mi devi far completare Mi devi far completare Allora Davanti a tutti Da qui Non è corretto Da qui A 60 giorni Tutti i comuni Che hanno fatto Io apprezzo tutto il video Avranno assolutamente Il decreto I soldi ci sono E i soldi saranno mandati Questa è la verità Dentro Il 11 dicembre 2015 Se non lo facciamo Tutti questi lavori Rimangono a carico Di bilanci dei comuni Questo è il senso Se io non faccio il contratto Con l'impresa Perché non ho il decreto Ritardo l'attuazione Del progetto E i comuni Se lo ritrovano sulle spalle Però io spenderei Una parola Su un concetto Che a me pare Veramente ridicolo Ci è stato detto Stasera Tutti i comuni Sono stati finanziari Complimenti È giusto Sembrerebbe Che tutti Almeno un progetto Per comune È stato dichiarato Coerenza Io vorrei però Ricordare Quello che è stato fatto All'inizio del mandato Dell'aggiunta Caldoro Avete scelto Di abolire Completamente Il parco progetti Per poi ritornarci Con l'acceleratore Per dimostrare Che cosa Mentre avete proposto I grandi progetti Di cui non si sa nulla Di cui non si sa nulla Ad oggi Ci troviamo Un meccanismo Peggiore Della spesa A pioggia Dei fondi comunitari Con un rischio Ancora più grave Siamo alle porte Del 2015 E ancora abbiamo Una marea Di risorse Da spendere E nel frattempo Nel frattempo Bisogna fare la corsa Per recuperare Forse 28 milioni di euro Per la viabilità Cilentana Allora Prima il sindaco Poi Io 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 ho capito Sono 30 secondi Tu hai calzato bene Le domande Perché andiamo In un discorso Prettamente politico Però oggi Chi ci ascolta Io Mi piace comunicare A chi ci ascolta Non le azioni Che dovremmo fare Noi oggi abbiamo Davanti L'analisi del voto Se vogliamo Tenereci Perché se vogliamo Parlare dei problemi Della regione Che è quello che ha fatto Della provincia No no Ma ragione Io Aspettando i risultati Perché i comuni piccoli No voglio dire solo questo Fatto il decreto E poi non raggiunto l'obiettivo Chi è che paga Quei molti comuni Rischiano Rischiano di andare Al tracollo Guarda Io non voglio Dettare la linea Della trasmissione Però L'area nostra Aveva una quantità Di risorse Significative Senza guardare No di abitare Poi se i soldi La difficoltà E la vostra preoccupazione Che veramente La regione Dopo tanti anni Fa seriamente Io vi garantisco Che la regione campana Il co-presidente Caldoro Fa seriamente Eroderà i fondi Farà i decreto A tutti i comuni Avrete voi la possibilità Perché voi avete presentato Giustamente Avete lavorato bene Quindi da qui A 60 giorni Da qui a 60 giorni Ecco vai 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 I comuni avranno i soldi Un attimo Un attimo Vai Poi facciamo rispondere Se le carte Stanno a posto Cioè che noi abbiamo Trascorso quattro anni Senza che la regione Programma Un soldi Un euro Quindi siamo arrivati A un anno e mezzo Dalle elezioni In cui ci troviamo Una delibera L'accelerazione della spesa In cui ci obbliga i comuni A spendere i soldi Nel dicembre 2015 E che ahimè Per progetti Anche di milioni di euro I comuni Devono realizzare In 6-7 mesi Perché ricordo La rendicontazione E l'onore di Fortunato E l'ingegnere Sa benissimo Che la rendicontazione Vuol dire Che l'impresa Eseguilice dei lavori Non deve appurre nemmeno Una riserva Su dei documenti contabili Quindi che vuol dire Che il comune Deve chiudere Tutta la procedura di gara In 12 mesi Se il finanziamento Arriverà tra due mesi Il che vuol dire Che per un comune Che deve poi Sottoscrivere una malleva Sarà difficilissimo Quindi Questa è pure Propaganda elettorale Ad oggi Ma quali Ma scherziamo Allora innanzitutto I fondi che facevano Riferimento prima Io Per la settimana Proprio per domani Abbiamo già inviato Alla stazione unica Partante Circa 10 milioni di euro Di opere Che devono essere Appaltate Dalla stazione unica Appaltante Già siamo Superiore a un terzo Delle 27-28 milioni di euro E questo Dobbiamo dare atto All'impegno Da parte della regione Noi abbiamo chiesto aiuto Al ministero delle infrastrutture Al governo centrale A tutti Ma questi sono Solo grazie alla regione Campania Quali due anni fa? Sono due anni fa Ma che cosa dici? Sono di due anni fa Ma che sa? Ma quali sono due anni fa? Le frane che sono stati di Stato Fanno riferimento A due anni fa Ma i fondi dove li prendevamo? Abbiamo preso Ma i fondi erano in regione Dove li avete presi adesso? Ma chi te l'ha detto? Dove li avete presi adesso? La regione in decreto L'abbiamo fatta Adesso è stata fatta Ma i fondi sono sempre stati A disposizione della regione Campania L'unica che è stata vicina A questo territorio È stata la regione Campania Gli altri Gli altri L'altro colore Sono polemiche Solo polemiche Diciamo a governare l'Italia Ma se è governata l'Italia Come avete governato La regione e la provincia Sì perché sono due anni Che sapete che Vi apure la cosa Quale due anni? Dove sono due anni? Dove sono Adesso Per cercare di aprire La strada Ad una corsia Parti i fondi Residui che abbiamo Sul bilancio Li abbiamo investiti Sulla cilentana Sulla cilentana Adesso facciamo degli interventi E faremo delle prove di carico Se le prove di carico Saranno positive Noi per prima volta Al fin di luglio A prima ad una Allora Si preoccupa C'è la mente Facciamo sul seno La differenza che nel passato Siamo però tutti insieme Il messaggio arriva Come un'usica Una cosa è bene chiarire La nuotenzione Non si scopre Oggi alla frana Cioè se noi 30 cm di catrame Per il peso che c'è Quel catrame Ha accelerato Il movimento franoso Punto primo Non avete fatto I moracci della frana Meno male Che c'è l'indagine Della parte della procura Poi si sa Chi ha di controllare Il momento dell'esecuzione La strada secondaria Due anni fa Era piena di erbacce Non era manutenuta La facevamo La facevamo Con i fondi Che ci avete lasciato Ma dopo 4 anni E' ancora parlare Di quello che Sto facendo E' passato Come fai La manutenzione Su 2700 km di strada Con 870.000 euro I cittadini I cittadini Scusate Vogliamo parlare La proposta sera Allora Loro sono di centro Sinistra E governano l'Italia E governano l'Italia Allora Facciamo una cosa seria E non parliamo Di politichese Nei e ne loro Facciamo una cosa seria Se vogliamo Il bene di questa terra Allora Le province Di fatto Non esistono Perché senza risorse Un ente Non può essere amministrato Non può fare la manutenzione Chiuso La cilentana Tra parenti L'ho sempre detto L'ho scritto al ministero L'ho scritto anche a noi Non è una stata Che può gestire Una provincia Deve essere passata Allo stato Quindi insieme Dobbiamo far sì Che questa arteria principale Per il cilento Venga ceduta Allo Stato E lo Stato Insieme alla regione Faccia 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 Ma non mi interessa Non mi interessa nemmeno Cioè questo non mi interessa Non mi interessa nemmeno No non mi interessa nemmeno Chi c'era prima Perché oramai Siamo allo stato attuale Sono due anni Che sapete No sono due anni Che sapete Che i piloni Della cilentana Scivolano Sono due anni No avete le relazioni Dei vostri tecnici Sono due anni Che sapete questo fatto E non siete intervenuti Quello che ha detto L'ingegnere Rocco È gravissimo Cioè noi Nell'intervento Di manutenzione Con la ricarica Abbiamo peggiorato Ma questo è un modo di fare Standard È capitato anche Sulla Pioppi Casalberini Si doveva chiudere la strada Allora Sì infatti Come abbiamo fatto Per la Pioppi Casalberini Assessore Non si doveva ricaricare Si doveva chiudere la strada Abbiamo un attimo di pazienza Che poi arriviamo Allora poi chiedevamo la strada Assessore Poi arriviamo pure a questo Assessore Ma uno non si può esimere Uno non si può esimere Dalle responsabilità Voi avete avuto Un'impresa Che ha rinunciato A realizzare Quei lavori di ricarica Perché ha detto Se fate così Peggiorate la situazione E poi si è andato avanti Pioppi Casalberini Non la stessa cosa Ma sei tutte queste cose Ricaricato Mi fa piacere Che fai tutte queste cose Sì infatti Io sul mio territorio Ma le sapevi pure prima Quando intervenivano No guarda Stai parlando Stai parlando Con la persona sbagliata Assessore Stai parlando Con la persona sbagliata Perché il sottoscritto Prima non li vedevate No 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 Guarda Non ti consento Proprio questa cosa Ma per favore No no Ti voglio dire Che sull'acenso Casalberino Non ridiamo Nel 2003 Nel 2003 Hanno acceso 240 milioni di euro Di mutui Sull'acenso Casalberino Non c'è andata La provincia di Salerno Se oggi avevo 240 milioni di euro C'è andata Un comune di Pollica Se oggi avevo 240 milioni di euro Come l'avete speso Negli anni precedenti Ero il primo A metterla Tutte le strade Voglio dare Solo una chicca All'assessore Sì sì La proposta Noi l'abbiamo già fatta Visto che noi Pensiamo di governare E non pensiamo Di fare le promesse Con i decreti Che poi arriveranno Se non perdiamo i soldi Dove dovete Dove avete già La provincia di Regione Avete già No no Sono del governo Nazzonale Sono parlando Non ho capito Scusa Mi è sessore Ci avete rovinato Vi abbiamo rovinato La regione Cioè ti avete lasciato Pieno di teppi Arriviamo alla proposta Grazie Avete speso Anche i soldi Per i vostri riposti Adesso posso fare la proposta Ok Allora 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 C'è in uscita Il decreto Il decreto Ambiente Decreto Legge Ambiente Come Anci E come Comuni di quest'area Ci stiamo adoperando Affinché Ci sia una previsione Per la priorità Di spese Sulle nostre aree Questo stiamo facendo Come governo E ci sono gli atti E le trasmissioni Alla presidenza del consiglio E al ministero dell'ambiente Che è già Accettato questo aspetto Compresso l'accidentale Giusto Speriamo Tutta la viabilità Onorevole Tutta la viabilità Però Però Mi arrabbio molto Mi arrabbio molto Quando per mettere 10 metri cubi di asfalto Bisogna chiamare la provincia 200 volte Senza essere risposto Guardate Io ce li ho messi Con il mio stipendio Da sindaco L'asfalto Tra la pioppica Salvelino Ce li ho messi Con il mio stipendio Da sindaco L'asfalto Questo significa Risolvere i problemi Perché mi sono stancato Pure di telefonare Non c'è una scaletta Non c'è una scaletta Voglio fare un flash Perché mi trovo d'accordo Con Carmela Che dobbiamo parlare Però io voglio dire Una cosa All'amico Pierro Io Trovo Mi sono scandalizzato Non come Si è arrivato adesso Oppure Come Sono stati fatti I decreti Perché sulle strade Che noi abbiamo segnalato L'amico Fortuna L'aveva anche detto Che dovevano essere Integrati i decreti Del dicembre Che cosa Non sono stati fatti C'è una strada Che collega Tutti il mondo stella Che arriva fino a questo L'abbiamo segnalato Più volte A riprese Il pullman Rischiano i nostri figli E nessuno ha preso Un provvedimento Ma non è che te lo voglio dire La richiesta l'abbiamo fatta Ma non è stato inserito Nel decreto Ma chi te l'ha detto Te lo dico io L'ho visto Il decreto Quella è la prima delibera Prima Quella è la prima delibera Quella è la prima delibera Vabbè non voglio Un attimo solo Il punto della situazione Allora Albanella non sappiamo ancora niente A Scea Ci colleghiamo Ecco la regia Se può metterci in contatto Con la collega Maria Rosaria Battagliese Su A Scea Allora Poi Antonio Quali comuni abbiamo? Allora abbiamo Malatesta In netto vantaggio Il sindaco uscente Adominiano Sull'ingegnere Tolomeo A Sant'Arsenio Ha vinto Antonio Coiro Con la lista rinascita civica Battuti quindi Giuseppe Pica E Maria Consiglia Viglione Mentre ufficiale a Rofrano Il nuovo sindaco Questa è una sorpresa Appunto È Nicola Camarano Che scomigge Giuseppe Viterale Poi Abbiamo detto già Caggiano Ti facciamo il punto Se la decisione Perché se qualcuno Si è sintonizzato Solo ora Alla ora Angelo Serio Ufficialmente il nuovo sindaco Poi abbiamo detto già prima Vicino Esatto Allora A Norivelia ci dicono Che Maria Ricchiuti Avanti di 100 voti Però mancano ancora 300 schede Quindi al momento ancora La situazione Non è definitiva Molto difficile Il recupero Cuccaro Vetere Cuccaro Vetere Aldo Luongo Renzo Hai qualche notizia? No Aldo Luongo È sindaco È sindaco già Dobbiamo informarci Su Futani Gioe Cilento Abbiamo ascoltato Il sindaco Ha riconfermato Andrea Salati Su Futani Aniello Caputo È in vantaggio Aniello Caputo È in vantaggio Montano Antiglia Se la stanno giocando Al momento sono quasi In parità Tra Pietro Forte E Alberto Del Gaudio Quindi qui bisogna Aspettare la fine Per poter Magliano Vetere Torraca Abbiamo notizie Su Torraca Anche qui Dobbiamo aspettare La fine Vitale confermato Sindaco a Campora Vitale Casaletto sembra Ecco Ascea Ascea Un attimino Ascea Una alla volta Renzo Sa arrivando adesso 2100 voti scrutinati Di nuovo Cambiamo Ascea 757 Fare Ascea 670 Per Ascea 635 Beh l'amministrazione Uscente Al momento è ultima Questo è un altro dato A Casaletto Spartano Giacomo Mica è sindaco uscente? Era vice sindaco Vice sindaco uscente Casaletto Casella in pitta Non abbiamo ancora Nessuna notizia Dobbiamo San Mauro Cirento L'abbiamo già detto Carlo Pisacano Casal nuovo Non l'hai detto Casal nuovo Stavano ancora in parità Casal nuovo Ce l'ha mai da sempre In vantaggio A Roscino Adesso ci mettiamo In collegamento Abbiamo chiamato Il sindaco Vogliamo ricordare Antonio Sant'Arfè Che Teggiano Stavano là Lo stesso Non è una cosa Allora Teggiano Testa a testa Tra Rocco Cimini E Cono Pietro Di Candia E l'ho già stata una cosa Strana Con due punti Un attimo solo Lorenzo Un attimo solo Parliamo tutti insieme A casa Non ascoltano nulla Allora Stiamo dando i risultati Allora Teggiano Prima il collega Telefonicamente Ci diceva È in vantaggio Ormai quasi fatta Per Rocco Cimini Rispetto a Cono Pietro Di Candia Torchiara Torchiara Massimo Farro Su Amleto Farro Torraca Diceva Qui ancora bisogna aspettare Valle dell'Angelo Non abbiamo ancora Nessuna notizia Cerchiamo intanto Di mettere Sì Prego Allora Proprio per inquadrare Anche con l'assessore Pierro Perché c'è questa Demagogia politica Che spesso Dà la responsabilità Sempre A passate Amministrazioni Mi riferisco Alla provincia Mi riferisco Alla regione Però A me non sta bene Perché io per esempio Che so Sono attualmente Il presidente del circolo PD Sono il renziano della primora Abbiamo costituito Il primo comitato Pro Renzi Che significa Che già in quel momento Noi ci ponevamo In una posizione critica Rispetto al partito stesso Quindi abbiamo fatto Una sorta di rifondazione Abbiamo rottamato Ciò che non funzionava Oggi Lei non mi può Attribuire responsabilità E quindi Io sono in dovere Di vigilare Sul territorio E assolutamente Denunziare Le vostre inadempienze Questo è quello Che io voglio dire Passa il microfono Poi mi presenterò Farò l'amministratore E mi assumerò Le mie responsabilità Però non mi puoi dare Però non mi puoi dare Delle responsabilità Non mi è Un attimo Per cercare di risolvere I problemi Ok Il dottore Antonio Brù Della Secretaria Provinciale Del PD Che è una grande vittoria Del PD Abbiamo visto Buonasera a tutti voi Innanzitutto Grande vittoria Che dire Ho sentito Balle Raccontate Dall'onorevole Fortunato E dall'assessore Pirro La condizione della viabilità Nel Cilento È sotto gli occhi di tutti E se dopo 5 anni Di amministrazione provinciale Ancora si parla Dell'amministrazione Del centro-sinistra Vuol dire Che non hanno argomenti Noi abbiamo perso 5 anni fa Se avevamo governato bene Venivamo rinconfermati Abbiamo perso In 5 anni Abbiamo assistito Al Valzer Degli assessori In provincia 35-36 Ad una condizione Di completo abbandono Delle nostre aree Del Cilento Perché si è pensato Soltanto di mettere Bandierine su questo territorio Nient'altro Mettere bandierine La Cilentana Si parlava prima Sono due anni Che è in queste condizioni Non c'è stato Un solo intervento Immaginatevi Se la Cilentana Stava a Nocera Stava a dovere a Cirilli Qual era L'intervento Ma non è Ma non è Questo il punto Non è questo il punto Non è questo il punto E che se dopo 5 anni Ancora parliamo Di queste I fondi che sono stati investiti Nel Cilento Allora possiamo dire una cosa Nel rispettatore Vi stavamo regolando Sì una volta Infatti Chiudiamo la parentesi Alzate il didino Così vi posso parlare Chiudiamo la parentesi Sulla Cilentana Perché i cittadini Sanno benissimo giudicare Sanno chiudicare la responsabilità Serenamente Abbiamo perso le elezioni Giovanni Abbiamo perso le elezioni 5 anni fa Una alla volta Non avevi speso anche i fondi Che erano a disposizione Di chi veniva a governare I fondi sono alla regione I fondi sono alla regione I fondi sono alla regione Dobbiamo ringraziare la regione Con il rapporto che c'è Tra provincia e regione E ci hanno finanziato I 27 e 28 Perché non l'ha finanziato Il governo Perché non l'ha finanziato Il governo centrale Io vorrei fare un intervento Giusto per chiudere Siamo stati a Pollica Con il ministro dell'ambiente In presenza del sindaco di Pollica E la prima cosa che ci ha detto E i soldi ci sono alla regione Non sono stati presentati I progetti Ed è questa una responsabilità Della provincia Non è una responsabilità Assessore scusate Ma i fatti parlano chiaro Abbiamo una condizione Di abilità disastrosa Perché non gli hai detto Al ministro che contribuiva Anche il governo A mettere a posto le strade Speriamo Tornando al dato amministrativo È giusto per fare una parentesi Questo dato dimostra Una reale voglia Di cambiamento sul territorio Sono saltati Alcuni schemi Presenti sul territorio Schemi sicuramente Che noi Il nuovo corso del PD Non è responsabile Non è responsabile Di questa cosa Qui stiamo parlando Di amministrazioni Fanno riferimento Fortunato e Piero Amministrazioni Bassolino Villani Noi non abbiamo nulla Nulla in comune Con quell'amministrazione Il punto è che Noi stiamo andando avanti Voi guardate al passato Noi guardiamo al futuro Voi guardate al passato Facciamo l'ingegnere Rucco In ogni caso Questo qui È un campanello d'allarme È un campanello d'allarme Perché stiamo suonando La campana Per le regionali Dell'anno prossimo Questo è il punto Benissimo Ingegnere Il discorso Sui finanziamenti E sulle riabilità È sempre collegato A quello che ho detto In precedenza Ovvero La programmazione Dei fondi Se noi ad oggi Abbiamo l'accelerazione Della spesa Che deve spendere X milioni di euro Perché quei fondi Sono stati investiti Prima Su strade Infrastrutture E quello che si deve investire Ed oggi dobbiamo Corriere per spendere Quei soldi Con il rischio Tra l'altro Di tornare i soldi Alla comunità europea E in più che i comuni Con quei soldi a disposizione Ce li rimettono di tasca Quindi Con ricordi sui cittadini Questa è una responsabilità Che la regione E di conseguenza La provincia Per non aver presentato I progetti Sulla viabilità E sulle cose Di cui è responsabile Ne pagheranno le conseguenze Ma senza una delibera Come li presentava La provincia Non ti devo imparare Il mestiere Però mi è arrivato Un messaggio Ma guardate Questi problemi Che sono scottanti E sono necessari Da affrontare Potete anche affrontare Da domani Oggi Chi avviene Questa bella tv Vuole sapere I risultati E come sono Purtroppo Mi dispiace Che non devo dire Io queste cose Mi dispiace E interrumbiamo un altro In tempo reale Ma se vogliamo parlare Di problemi Di sanità Di frutti Possiamo parlare anche Di un altro In tempo reale Giuseppe Parente Il nuovo sindaco Di Bello Sguardo Con la lista Insieme per il futuro Ha battuto La lista di Claudio Pepe 449 voti Contro i 144 Dello sfidante E dobbiamo aspettare Castelnuovo Cilento Sì Castelnuovo Cilento Dove ci sta questa Bella lotta Vincente tra La Maida e Leone Anche se in avanti Il sindaco uscente Che sembra Avviato verso La riconferma Tutto da giocare E Salento E Salento Prima era in vantaggio Leggermente L'avvocato Scarpa Sì Anche qui c'è una bella C'è una bella lotta Cicerale L'abbiamo detto All'inizio della trasmissione C'è Carpinelli Che sta in vantaggio Su Corrente Mancano poche sezioni Ancora Nettamente Vicinissimo Alla riconferma Il sindaco uscente Quindi la novità Diciamo Eteggiano Sant'Arsenio Torossaia E poi Due comuni Che abbiamo detto All'inizio Le sorprese Praticamente Rofrano E San Mauro Cilento Dove hanno perso Rispettivamente E Torossaia E Torossaia Però la sorpresa Non è soltanto Nella mancata vittoria Poi del sindaco uscente Ma anche nella vittoria Perché ci sono Degli esempi Novi Belia Dove effettivamente Questa riconferma Rappresenta comunque Una cesura Rispetto al passato Esattamente come anche Castelnuovo E Rosola Maida Di cui hai parlato prima È un altro Un attimo L'ordizia Dell'ultima ora Futani ha vinto Caputo Aniello Caputo Aniello Caputo Ha vinto L'altra volta Si candidò da solo Non ce la fece Quindi aveva ragione L'onorevole Fortunato A Celle Vingerà il dottore Bato Perché è normale Se tu eviti Che il paese Il popolo Si esprime E fai il commissariamente E quindi blocca Una comunità La comunità Te la fa pagare Quindi diamo Già a questi eletti Quindi Adesso facciamo Il epilogo Della situazione Sì Pronto Intanto ci stanno Raggiungendo anche Altri Amici Ospiti Ospiti Sì Quando voti Sì abbiamo Abbiamo Cono Delia Abbiamo in collegamento Telefonico Cono Delia Sindaco di Morigerati Riconfermato Lo chiediamo Direttamente a lei Eh lo credo Pronto Sì pronto Riconfermato Sindaco di Morigerati Per il terzo mandato Vero La sento Anzi non la sento La sento malissima Allora un secondo Che la regia Ci dà qualche aiuto Tecnico Certamente Riconfermato Pronto 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 Sì Sindaco ci sente? No no Non la sento Non la sento No Se mi richiama Sì Lo richiamo Adesso facciamo Il riepilogo Della situazione Per quanto riguarda Le amministrative Mentre Lorenzo Lentini Del Movimento 5 Stelle Si può accomodare Adesso lo microfonano Ti danno il microfono E poi si accomoda Facciamo il punto Della situazione Renzo Su I vari comuni Allora Quelli che Sappiamo Per certi Il risultato Allora Puccaro Vetere Aldo Luongo Ascea Dobbiamo ancora aspettare Però qui potrebbe Esserci la sorpresa Ma per qualcuno Non è una sorpresa Perché io ho sentito Degli abbiati di Ascea Parlare bene Di questa lista Quindi Non è tanto Anzi mi dicevano Tra i candidati Anche il sindaco Emilietto Puglia Già sindaco di Ascea Prima di Mario Rizzo Non mi dicevano Cambiamo Ascea Poteva avere Dei problemi Proprio perché Fare Ascea Si era candidato I giovani Quindi poteva essere Un problema Ma pare che Alla fine Proprio Questi due Stanno facendo La volata Al momento Perlomeno Allora Buon abitacolo Abbiamo qualche notizia Buon abitacolo Nessuna notizia ancora Caggiano Abbiamo detto Giovanni Caggiano Giusto? La riconferma Di Giovanni Caggiano Campora Allora Campora Giuseppe Vitale Riconfermato sindaco Casalbuono Ancora nessuna notizia Casalimpittari Diciamo Tangredi Maurizio Tangredi Castelnuovo Cilento Matteo D'Auto La maglia era in testa Bastante Dobbiamo aspettare Celle di Bulgario L'abbiamo detto Qui nessun sindaco Si va verso il commissario Cicerale Riconferma Di Francesco Carpinelli Contro l'ex sindaco Domenico Corrente Cuccaro Vettere Aldo Luongo Felitto Ancora nessuna notizia Futani Lo abbiamo detto Anielo Caputo Gioi L'abbiamo già ascoltato Andrea Salati Magliano 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 Carmine D'Alessandro Riconfermato Sindaco Montano Antilia Qui dobbiamo aspettare C'era ancora qualche scheda Da scrutinare Erano quasi in testa a testa Alberto Del Gaudio Sindaco uscente E Pietro Forte Morigerati Stiamo provando Il collegamento telefonico Con Cono Delia Novi Velia In testa per il momento Maria Ricchiuti Manca però ancora qualche scheda Da scrutinare Omignano Non abbiamo nessuna notizia Su Emanuele Malatesta Dobbiamo aspettare Rofrano Sconfitta Del sindaco uscente Viterale Era candidato il papà Giuseppe Viterale Ad avere la meglio Nicola Cammarano Andiamo avanti Sala Consilina Francesco Cavallone Cavallone Quindi l'amministrazione uscente Che si riconferma Salento Qualche notizia Certo L'abbiamo già detto prima Stava in testa Scarpa Scarpa Adesso ci aggiorniamo San Mauro Cilento Sconfitta del sindaco Giuseppe Cilento Il nuovo sindaco Carlo Pisacana Mi dicevano Un giovanissimo amministratore San Pietro Altanagro Si è stato riconfermato Si riconfermato Sant'Arsenio Sant'Arsenio C'è stato un ribaltamento Ribaltamento Inaspettato Torre Orsaia Sconfitta Pietro D'Angelo Neo sindaco Pietro Vicino Torraca Roberta Cosentino Sembra che sia in vantaggio Per pochi voti Roberta Cosentino Quindi dobbiamo aspettare Vale Dell'Angelo Ancora Poi abbiamo Ancora in sospeso La situazione di Roscinio Qui i cittadini Un pareggio I cittadini Eh no Roscinio Sapete la storia di Roscinio Perché c'è stato un ricorso al TAR Per due voti Vinto il ricorso al TAR Dall'avversario Quindi sono due anni No ma anche su queste cose Sono a mio avviso Sempre di natura tecnica Non politica Però sono andati al voto Ballottaggi dopo due anni No ma sono andati A Roscinio Per esempio uno non viene eletto Quale impegno può mettere In una competizione Che quindi non è una Diciamo Un'anomalia Dal punto di vista giuridico Ma Roscinio sono andati al voto I stessi elettori Di un anno o due anni fa Cioè i ragazzi che oggi sono di centenni Non sono andati a votare Non sono tra i papabili Perché diciamo Nella lista degli consiglieri Figurano l'ultimo posto Che impegno posso mettere io Nella competizione elettorale Allora torniamo alle europee Perché ci hanno raggiunto Due amici del Movimento 5 Stelle Allora commentiamo questo risultato Approfittiamo della presenza Nei nostri studio di Lorenzo Lentini E Gigi Reggero Due portavoci del Movimento di Grillo Allora Lorenzo inizi tu Questo risultato 21 virgola qualcosa per cento A livello nazionale In ambito locale Aggiornaci tu Com'è andata? Allora è un risultato Che sicuramente Non ci aspettavamo Ho capito Com'è andata nel Cilento? Un negativo Non ci aspettavamo Un negativo Io poi Avrei bisogno Delle preferenze Dei singoli elettori Mi può essere No 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 Per la verità No L'anno scorso Ti ricordi Per intracciare un onorevole 5 Stelle Era quasi Dovevamo fare una domanda In carta bollata No loro li conosco bene Figurati Ci vengono a trovare spese Ci informano Anzi Sollecitano anche Mi dispiace di questo fatto Sollecitano anche Gli altri esponenti politici Del territorio Su importanti tematiche Come la Cilentà Non apriamo più la parete No 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 Diciamo che in questo Ce l'abbiamo in printing noi Allora Lorenzo Analizziamo questo risultato Allora È un risultato Che non ci aspettavamo Noi eravamo sicuri Di vincere Sul PD Il PD Ha stravinto Renzi Ha stravinto Ne prendiamo atto E quindi Grillo ha perso Perché se parliamo Nella sfida interna italiana Sicuramente la sfida Tra il Movimento 5 Stelle E Renzi L'ha vinta Renzi Con il doppio dei voti Ma perché Lorenzo Il Movimento 5 Stelle Senza Grillo Avrebbe ragione di esistere adesso? Senza Grillo? No no Ma il Movimento 5 Stelle Non Allora Si identifica in Grillo Parliamoci chi anche Lo identificano in Grillo Perché noi siamo Dei militanti Che lavorano sul territorio Degli attivisti Io e Grillo L'ho visto un paio di volte Però lavoriamo sul territorio Il lavoro sul territorio Lo facciamo noi E siamo sempre presenti Non è che a noi Non ci dicono Che non dobbiamo parlare Il problema è uno Ognuno di noi Parla a titolo personale Delle iniziative che fa Ma è vero anche il candidato C'è stato il candidato Camarano C'è stato Luigi Di Maio Ad Agropoli Sono venuti i candidati pure Come sono andati i vostri Rappresentanti in questi Comuni cilentari Allora noi La consiglia Era l'unico candidato Del Movimento 5 Stelle Sì L'unico candidato Del Movimento 5 Stelle Sto sentendo che Non ce la farà Penso Mi auguro che prenda Almeno qualche Consigliere in minoranza No 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 noi liste Liste certificate Nel territorio del Cilento Del Cilento Ho sentito parlare Liste di Grigliere Sufani Mi diceva qualcuno A livello politico A titolo personale A titolo personale Ci sono dei candidati Vicini al Movimento 5 Stelle In più liste Del territorio Ma liste certificate Non ce ne sono Siamo nati da poco Stiamo iniziando a crescere Sul territorio Stiamo facendo un buon lavoro Lo continueremo a fare Allora fino a questa mattina Grigliere non ha fatto Nessun commento Comunicazione Le ultime ore si è espresso Sul risultato Ancora Ha messo Un video In rete Come ha motivato Questo risultato No Non ha detto L'abbiamo perso Stato obiettivo Però continueremo A lavorare Abbiamo preso Il 21 22% L'IVA Vabbè Facciamo parlare All'un giro adesso Gigi Cosa hai da dire Su questa elezione 5 Stelle Ah è andata male Sicuramente C'è stato un risultato Eccellente Nessuno se l'aspettava Così è eclatante Però noi Quello che possiamo dire Noi a livello locale Che noi comunque Siamo sul territorio Comunque Punzecchiamo Le amministrazioni E questo Lo potete notare Tutti quanti Che I nostri gruppi locali Fanno Un lavoro Eccellente Come Noi riprendiamo Il discorso Della Celentana Ma noi Abbiamo fatto un esposto Alla procura Della Repubblica Per il dissesto Di questa No ma possiamo parlarne In tono pacato Cioè forse Siamo stati Gli unici Quindi Sul posto Noi localmente Noi diamo Delle risposte Serie A tutti A tutti i cittadini E se si dovesse Dimettere Grillo Come avrebbe paventato Che succede Ma io penso Che in questo momento In questo momento In questo momento Come voi Potete vedere Dalle reti nazionali C'è un gruppo Di giovani Che si sta formando E si sta formando Pure bene Noi l'abbiamo avuto Qui l'anno scorso L'8 giugno L'onorevole Di Maio Che è una persona Eccellente C'è Roberto Figo Ci sono tanti Esponenti Anche i campani Che sono molto bravi Quindi io penso Che con il tempo Il problema di affrancazione Questo è il problema Il problema Di camminare con i propri piedi Ma questo è il problema Del movimento vostro Penso io No ma guarda Ma Penso che questo sia un problema Ma non è un problema No Questo è quello che esce fuori Perché non è vero Il movimento Cammina con i suoi piedi E Grillo È il portavoce Del movimento Chiaramente Grillo È quello che l'ha costruito L'ha ideato il movimento Ma I deputati e senatori Sono liberi Di esprimere Lorenzo Però è un portavoce Che poi È un portavoce Che ogni tanto Ha l'abitudine Di espellere Poi Fa bene Fa bene Ha due aggiornamenti Sulle elezioni Domignano È ufficiale Il nuovo sindaco Emanuele Giancarlo Malatessa Quindi riconfermato Riconfermato Batte Carmine Tolomeo Mentre a Futani Ferraro È avanti Ah non a Caputo Quindi C'è stato Un bel testa a testa Un'informazione sbagliata C'è stato il sorpasso All'inizio Era in avanti Caputo Poi c'è stato il sorpasso L'ingegnere Paolo Ferraro L'ingegnere Quindi Va bene Quindi Volevo aggiungere una cosa Ma scusate A me fa piacere Che sono disegnati Sui ingegneri Professori Io Guarda Ho idiosincrasia Verso i medici In generale Io vieterei Di presentarsi In generale Proprio io ne faccio Un motivo L'ho sempre detto Quindi Se abbiamo registrazioni Vecchie Che dico che Deontologicamente C'è un ricatto morale Sentivo stamattina Una persona Esatto Allora il problema Io Vieterei Di presentarsi Proprio Di vieterei Lo sapete che non è possibile L'oltre lo facevano con i farmacisti Storicamente I medici condotti I medici condotti Come Ma perciò dico Ma io ho piacere Quando mi dicono Un ingegnere Io ho piacere Quando mi dicono Un avvocato Ho piacere Quando mi dicono Un professore Ho piacere Quando mi dicono Un medico Non ho piacere Con tutta la buona volontà Devono fare bene Il loro mestiere Comunque Come dicevo prima I cittadini sanno scegliere Chi lavora sul territorio Chi lavora nei propri comuni I cittadini Li votano Li premiano A chi A chi si occupa Quotidianamente Sul territorio E sulla loro parte Sando si vede Vari comuni Medici Condotti Che si sono candidati O persone semplici Invece il cittadino Ha saputo scegliere La persona Che lavora Che sta a fianco a loro Per cercare di risolvere Perché abbiamo In collegamento telefonico Riconfermato sindaco di Campora Sindaco Buonasera Buonasera Allora Giuseppe Vitale Riconfermato sindaco di Campora Sindaco Allora In studio le fanno tutti gli auguri Sindaco di Campora Giuseppe Vitale Che non è un medico No È un avvocato Non so bene Perciò lo dico In studio c'era il dibattito Sui medici Che si candidano in questo Allora Sindaco Inchichiamo Come tutto lo visto Perché c'è qualche Interferenza Giusto un minuto Va bene Sì va bene Lo richiamiamo al sindaco In particolare Ma in genere Guardate Io lo dico sempre L'ho detto sempre Come sono per l'unione seria Dei comuni Delle grandi circoscrizioni Io parlavo L'altra volta La volta scorsa Ricorderà pure lei Io parlavo Di Cilento 1, 2, 3, 4 Con i borghi Semplicemente Per avere più forza Tutti quanti Parliamoci molto fracate Qua ci sono comuni Di 350 abitanti Guardate È una cosa Non è Con tutta la buona volontà Quindi Sfruttiamo Non le sfruttiamo Le risorse Quindi se Arriviamo E se dovesse rientrare Una legge Che voleva fare Martelli Ai suoi tempi Con un minimo di 5.000 persone Secondo me Andiamo bene tutti Poi il nostro paese Il Cilento Oramai È diventato una provincia Quando parlavo Che non c'era più bisogno Della provincia Noi siamo un patrimonio Unesco Non è che siamo niente Noi siamo nel panorama mondiale Io quando vado fuori E mi capita spesso Io dico Cilento No no Pericoloso sarà Per voi Perché devi sapere Penso che lo sappiamo tutti Cioè che in Germania Ce ne sono a Bizzeffa In Francia lo stesso Ci sono 30.000 Il problema non è questo Che vogliamo fare del territorio Vogliamo essere Solo dal punto di vista demografico Perché ci sono comuni Io porto sempre Come cavallo Di ritorno Corletto Monforte Che ha Diciamo Più o meno Gli stessi abitanti Del mio comune Però tiene 59 km quadrati Cioè vale a dire Più di Salerno Città Allora a questo punto Se viene fuori Una legge C'è una perequazione Tra territorio e abitazione Sì Ma come Lo stiamo pronunendo adesso Solo per un vatto Diciamo Di abitante Per quartiere Voglio dire Dove ci sono 100 persone Che facciamo Spegniamo la luce pubblica Quindi Dobbiamo Ma dobbiamo rivedere Io dicevo Semplicemente Di fare Delle circoscrizioni Non ho detto Di abolire Ma già ci sono già I luoghi dei comuni Bisogna fare La circoscrizione In maniera più organica Perché noi abbiamo A proposito di questo Abbiamo fatto Un'iniziativa Noi abbiamo La nostra provincia E allora io dico una cosa La proposta che fece Fassino tre anni fa Sotto i 10.000 abitanti Uniamo Vallo lo uniamo Allora con tutti i servizi Che ha Facciamo una proposta Ma io penso che la proposta Sella Le unioni Sono già qualcosa Di passato Perché abbiamo visto Ma forse hai ragione Sono questi Sono naufragati Noi vogliamo parlare Di un'altra cosa Di fusione Che è una cosa diversa La fusione Città territorio Gelbison È un'idea Che da due anni Abbiamo in testa Con cinque comuni Avesse una forza Settifica diversa Ma se questo sì Ma questo È la visibilità Succezionale Volevo rispondere Perché se mai il comune di Pollica Con 20.000 abitanti Va in regione Hai tutto un altro peso 20.000 abitanti È diverso Io volevo tornare Per rispondere all'amico E poi vi taggi Su questo Per quanto riguarda le europee Io ho un parente Che lavora proprio Nei sondaggi Quelli che si fanno Quelli che sbagliano Che lavora a Roma Non voglio dire La società Perché Che è successo Negli ultimi Dieci giorni C'è stato Un avvicinamento Da parte Di Grillo 34 e 31 Poi che è successo È successo che Grillo Ha fatto due autogolle Come l'ha fatti All'epoca Berlinguer Sì Uno Berlinguer Quello detto prima E io ho fatto All'inizio della mia Diciamo Della trasmissione Diceva appunto La comunicazione E poi è andato da Vespa Chi non è abituato A stare Nel salotto Così buono Ha fatto delle gaffe A non venire Quindi questo Ha prodotto Dai sondaggisti Non da Antonio Radano Anche da analisti Stamattina sui giornali Che ha fatto Diciamo Travasare Due milioni e mezzo Da Grillo A Renzi E infatti 8 milioni e 800 Ha preso Ha preso Renzi Anche perché Giustamente Come comunicazione È ancora più bravo Non lo dici Ma è solo comunicazione Però Io dico i dati I dati Dei tre No Non è riduttivo Perché i dati Questi sono dati Due milioni e mezzo Io dico i dati qua 8 milioni Grillo È sceso a 5 milioni PD 8 milioni e 800 È passato a 11 milioni e 2 Quindi Ma questo non significa Allora c'è stato Facciamo dire a loro No ma c'è stato Il cambio Ma la forza di Renzi Sicuramente c'è stata Nessuno la vuole mettere in dubbio Ma il fatto che In pochi giorni Passano 200 300 mila 400 mila voti Da un soggetto all'altro Scusate Abbiamo detto nome Sono due notizie ufficiali Sì c'è una rettifica da fare Ah quindi Caputo ha vinto A Futani A Futani ha vinto Nello Caputo Quindi la nostra fonte Era valida E a 9 sta festeggiando Maria Ricchiuti Quindi si sono Allora auguri Cercheremo ora di contattarla Telefonicamente A casa il nuovo Sono solo 13 voti Di differenza Tra Leoni Ed Eros 13 voti Quindi se la stanno giocando Se la stanno giocando Benissimo Adesso Cerchiamo quindi di contattare Telefonicamente Maria Ricchiuti Poi ascolteremo gli altri sindaci Facciamo indivinire loro Vedete se Il discorso Della mancata Comunicazione O negativa comunicazione Di Gritto Se ne è d'accordo Sicuramente Ci sono stati fatti Degli errori Ma non lo mettiamo in dubbio Che è un movimento Che sta nascendo Un movimento Che si sta fermando Sul territorio Non avevamo sindaci Non avevamo Abbiamo conquistato 17 euro parlamentari Della nostra regione Sono Intreranno sicuramente 4 donne Cioè È tutto un discorso Che va Va crescendo Però c'è da dire Anche un'altra cosa Che noi adesso Dobbiamo rivolgerci A delle persone moderate A quelle persone Che non sono andate a votare A noi Uno su cinque Ci ha votato Quindi noi abbiamo Un'altra fetta Di moderati Che non sono andate a votare Non perché non voleva Perché non hanno Voluto votare nessuno Quindi il PDL Si è avvicinato Al PD Però quest'altra fetta Che noi dobbiamo curare È una fetta corposa Che dobbiamo iniziare A Ma io Sapete Il problema Delle cinque stelle Proprio Grillo Quando fa Quelle informazioni forti Parliamoci molto Fra Ma chiaramente Non posso Parlo di tribunale Popolare Sono andato a noci Sono comunicazione folle Si fa Degli autogol Guardate Io ho sentito Tanta gente Andata a votare Per votare contro Grillo Per la paura Di avere Un Grillo Che va a dire Se vinciamo Napoletano fuori Elezioni Mi pare un po' Alla Alla italiana Ma in maniera Proprio Questa è la comunicazione Che ancora non è pronto Lo sarà pronto No ma non è pronto Grillo Allora Renzo Abbiamo Renzo Ti fermo Allora Pronto sindaco Abbiamo il collegamento Telefonico Maria Ricchiuti Sindaco Allora sono iniziati i festeggiamenti Li sentiamo Sì sì sono già provvissati Auguri 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 Maria Allora anche qui c'è confusione Sì non ne falliamo Abbiamo una platea bella forte oggi Allora ci sono tanti ospiti Le fanno tutti Carmela Saluto tutti i vostri occhi Sì le fanno tutti quanti Gli auguri Allora possiamo Grazie Possiamo tirare un sospiro di sollievo È stata Un attimo solo Renzo Renzo Oggi mi sta Allora Sindaco Renzo chiedeva espressamente Per quanti voti ha vinto Allora la sezione 1 è stata già completata e dovrebbero essere circa 100 voti di differenza Sì La 2 stanno completando lo scrutinio, lo spoglio Quindi non so darvi i dati definitivi della 2 Però la 1 è già chiusa e la 2 erano pochi voti di differenza comunque In vantaggio sempre la mia lista Allora con alla luce dei risultati ottenuti possiamo dirlo è stata una dura campagna elettorale Una vittoria sofferta È stata una dura campagna elettorale ma soddisfacente È stata una bella campagna elettorale perché è stata la condivisione di tutti Di tutta la squadra e tutti i nostri sostenitori Allora Renzo Ma Maria sei il sindaco di tutti lo stesso? Sì sarò il sindaco di tutti lo stesso Quello è importante in questi piccoli paesi Assolutamente Perché poi si creano problemi tra fratelli, sorelle, cognati, compare Divendo un macello No 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 sarò il sindaco di tutti a prescindere dal colore politico A prescindere dai risultati elettorali E quello è importante Poi il resto Penso che con questi numeri veramente abbiamo avuto un cambiamento voluto dal basso Allora che cosa l'ha premiata sindaco secondo lei perché i cittadini hanno scelto la continuità Credo la mia correttezza, la mia realtà, la mia trasparenza Il fatto che ho fatto sempre giusto alla luce del sole E che non ho schietti nell'armadio e non ho tornaconti personali Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il bene del paese Grazie sindaco, buon lavoro, lo lasciamo festeggiare allora Auguri ancora da parte Poi una donna sindaco ancora meglio Grazie 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 E' ritornato a essere sindaco Allora Andiamo partiamo subito da Bello Sguardo dove è confermato parente Poi abbiamo a Caggiano Giovanni Caggiano A Campora Giuseppe Vitale Poi abbiamo a Futani Caputo A Gioia Andrea Salati A Laureana Angelo Serra Magliano Vetere Carmine D'Alessandro Novivelia Maria Ricchiuti che abbiamo appena sentito Mignano Malatesta A Rofrano Nicola Camarano Questo è uno dei risultati a sorpresa che batte Viterale Poi abbiamo San Mauro Cilento Anche qui una sorpresa con Pisa Cane che sconvigge il professore Cilento A Sant'Arsenio Coiro e il nuovo sindaco C'è un altro Torraca bianco Torraca Non ce l'ha fatta la collega Roberta Cosentino Mi dispiace Poi stavamo dicendo Torchiara Massimo Farro Torri Orsaia vicino Torraca abbiamo avuto in tempo reale la notizia Bianco mentre Valle dell'Angelo lo stesso Iannuzio Montano Antiglia siamo lì là Noi abbiamo dato quelli ufficiali Tra qualche istante Allora se intanto la regia può aggiornarci telefonicamente Con la collega Maria Rosaria Battagliese su Ascea Poi avevamo perso il collegamento telefonico Con Mori Gerati e Campora Se possiamo ripristinarli Allora Renzo a te la platea No no quale platea? Aspettiamo Battagliese Maria Rosaria Battagliese sta telefonando Sta chiamando Allora No perché erano 2100 voti scrutinati Quello abbiamo detto prima Casaletto Spartano Giacomo Scannelli Scannelli Nuovo primo cittadino Benissimo 757 voti cambiamo Ascea Fare Ascesa 670 Per Ascea 635 Allora abbiamo il collegamento telefonico? Lo facciamo dire Un attimo solo Abbiamo il collegamento telefonico? Carmela Maria Rosaria Allora aggiornaci su Ascea Così recuperiamo anche un po' di Tranquillità in studio Allora Siamo Carmela Siamo circa il 50% Delle schede scrutinate Ad Ascea? Sì Ad Ascea Parlo di tutto il comune Adesso Adesso si continua a riconfermare I dati che vi avevo dato Allora Maria Rosaria Mi senti? Io ti sento Allora ti interrompo perché Non so se non ti ascoltiamo Noi in studio O anche gli amici a casa Quindi se puoi Ripetere quello che hai detto Sì Allora Dicevo che in questo momento Circa i dati che vi fornisco adesso Sono quelli di più o meno Una decina di minuti fa Sì E si conferma per adesso Il trend che ti ho anticipato Nello scorso collegamento Adesso siamo a circa il 50% Delle schede scrutinate E vede ancora avanti La lista numero 3 Comunitato al sindaco Pietro D'Angolillo Con 686 voti A seguire la lista numero 1 Con candidato al sindaco Egidio Criscuolo Con 684 voti E poi la lista numero 2 Con candidato al sindaco Antonio Criscuolo Con 658 voti Ripeto siamo al 50% Delle schede scrutinate Quindi potrebbero esserci ancora delle novità Secondo te un orientamento è questo Maria Rosaria Cosa ti dicono i numeri in questo momento? Allora diciamo che c'è Asciamarina È un po' Come vi dicevi Questo anche prima Ha recuperato Diciamo che aveva iniziato Un po' più tardi Però Le schede da scrutinare Ce ne sono ancora abbastanza Soprattutto ad Asciamarina Quindi non so Come mai questa lentezza? Come sono questi 100 voti Che adesso avanti La lista numero 3 Non so Se diciamo Si ricontinua a confermare In questo modo Comunque se Probabilmente Ci possono essere ancora Comunque dei colpi di scena Nel senso Essendo che sono Il 50% delle schede Io attenderei un altro po' Ancora Diceva Renzo Secondo te Come mai questa lentezza È normale Per la quantità Delle schede O c'è stato qualche problema Marabellina No guarda Io sono stata Personalmente Sia nelle sezioni Di Asciamarina Che ad Asciapa E anzi Mi sembrano anche Abbastanza Cioè le cose procedono In modo abbastanza Tranquillo E beh lo dicevamo Uno dei comuni più grandi Quindi è chiaro Che c'è qualche scheda In più da scrutinare Rispetto ai tanti piccoli Paesi Allora Renzo Il nostro Grazie Maria Rosaria Teniti aggiornati Sì ok Buon lavoro Grazie a voi Non so Avete già dato la parola Io mi sono distratta No no adesso la diamo Doveva completare Una con l'assessore Completa Prima ho detto Che i cittadini Sanno scegliere Alla fine Se una persona Si impegna Sul territorio Voglio fare giusto Un esempio A Rocca Gloriosa La lista di Fratelli d'Italia Abbiamo ottenuto Il 50% Dei consensi Perché l'ho sostenuto Io diciamo Al mio comune La gente Mi ha visto Che sono operativo Lavoro Sono a disposizione Lavoro viene premiato Se un amministratore Non lavora Non si begna Per il proprio comune Poi non viene riconfermato Come è capitato Ad altri sindaci Solo questo Volevo dire Che cosa cambia adesso Nel Cilento Voi i sindaci Voi due sindaci Soprattutto Con queste new entry Faccio io Dopo una prossima parola Ma Di quello che cambia Perché È un assento Tutto a farsi Però penso Che un dato significativo Sia L'iniezione Di giovani energie All'interno Delle compagini amministrative Del Cilento Se sarà confermato C'è una buona rivoluzione Insomma ci sono C'è una riconferma Di nuove energie Perché in questa lista Non solo C'è Pietro D'Angiolillo Che si è già candidato A sindaco Più volte Sia significativo Al di là dell'appartenenza politica Anche del risultato Di Criscuolo Giovanissimo Sì È riuscito Però ti dicevo In questa scheda Di Pietro D'Angiolillo Oltre a Pietro D'Angiolillo Che si è già candidato Più volte A sindaco Senza essere Riuscito ad ottenere Un buon risultato C'è anche Emilio Puglia Che è già stato sindaco Quindi è una lista Che ha messo insieme Anche due rivali Storici Hanno unito le forze È l'unito Le forze È l'unito Quello che contava Io spero che Da tutto quello Che viene fuori Dalle amministrative Soprattutto si riesca A ritrovare Un'unità di intenti Come territorio Cioè La cosa interessante È che mentre A livello nazionale Passando un attimo All'europeo Grillo e il PD Non riescono a dialogare A livello locale Invece Riusciamo anche a fare Le cose Oddio Facciamo subito Intervenire loro Qui abbiamo un po' Le rappresentanze territoriali Vediamo Vediamo Comunque Per sottolineare questo Nel senso che Tutti abbiamo Un unico obiettivo Cioè quello Interessi della collettività Di un territorio Deve avere Come unico obiettivo Quello del benessere Di quel territorio E dei cittadini Che vivono Se poi non è così Ovviamente siamo di fronte Alle solite sorture Su alcune cose che vanno cambiate Lo stiamo facendo Come Partito Democratico Con l'azione di rinnovamento Di Renzi E penso lo stanno facendo Anche gli altri Al netto Della comunicazione Forza Lei fa parte Del direttivo nazionale Del Partito Democratico È una cosa Che stiamo facendo Anche all'interno Dei vertici Del partito Stiamo cercando Di rinnovare Il modo Di approcciare La cosa bella Che è apparsa Subito In tutte le televisioni Nazionali È il volto Delle nostre Ministre Giovanissime Belle Belle Io direi Io direi Di smetterla Con il giovanilismo Io direi Di Però oggettivamente È un bel volto Le giovani Ministre Hanno soprattutto C'è un dato Di fatto Che molti Soltanto conoscendo Queste persone Che in questa campagna Elettorale Si sono avvicinate I territori Hanno un bel sorriso No Hanno delle competenze Hanno delle competenze E questo è la cosa Più importante Quando un ministro Come Maria Elena Boschi Viene sui territori In particolare E lei Che è venuta In Campania Riesce A capire L'attenzione Delle persone Per quello che dice Allora Avete una grande responsabilità Voi sindaci Soprattutto del PD Quella è una responsabilità Devi dialogare In maniera Pure più forte Dicevo Volevo aggiungere Scusa Sul ruolo Dei sindaci Perché giustamente Stefano ha fatto Un'analisi A mio avviso Diciamo Di natura innovativa Giustamente Globale Però io Che conosco Non più di lui Ma sicuramente Che vengo da Una lunga Conoscenza Con esperienza Forse non è che possiamo Perché anche tu hai partecipato Viene da lungo corso Il problema Dei sindaci Del nostro territorio Non è una Una situazione Di Nuovo Diciamo Di aria fresca Oppure No Perché se noi Andiamo ad analizzare Caso per caso Abbiamo Sindaci Che si ripropongono Da 30 anni Sui stessi comuni Poi ci sono alcuni Che ritornano Dopo 10-15 anni Quindi se proprio Lo vogliamo dire Tutta Ahimè Io Non è che voglio Accusare Né il novismo Né il vecchio modo Di fare politica Non è che c'è questa Diciamo Grande Volontà Di mettersi in campo Da parte dei Cittadini Perché Oggi come oggi Il ruolo di sindaco Ahimè Questo Dobbiamo dire Se è una classe dirigente Che si afferma A livello nazionale Deve avere un ruolo Più importante Si parla di dare Tante competenze Tante Un ruolo specifico Su ogni cosa Però alla fine Diventa solo Un vatto Diciamo di Astratto Quindi quello Che io chiedo E lo dico a Stefano Che può farci Da portavoce A livello di partito Che il ruolo di sindaco E questa è la comunità Del parco Allora Allora La comunità del parco Che non vi mettete mai d'accordo Allora La comunità del parco Io non voglio Aprire questa cosa Perché sono Ottanta comuni Più otto Come otto Purtroppo dopo Vi devo salutare Innanzitutto Vi ringrazio per l'invito Colgo l'occasione Di fare gli auguri Di cuore A tutti I nuovi sindaci Riconfermati I nuovi eletti C'è molto da fare Per il Cilento Ci sono Soprattutto Adesso Degli appuntamenti Da non Poter più procrastinare È la scelta Della classe Dirigente Dell'area Del parco Sono state rinviate Dopo le elezioni Perfetto Oramai le rinviamo Da tempo in memoria È il momento di decidere Penso oramai ci siamo Ma ce la fate stavolta Ma diciamo Al momento Non possiamo fare a meno Il ministro sceglierà Il presidente subito dopo L'elezione europea Oramai le elezioni europee Sono trascorse Quindi aspettiamo Che ciò avvenga Le nomini ministeriali Ci saranno Siamo anche oltre i termini Adesso la comunità del parco Deve esprimersi In tutta la sua interezza Per il consiglio direttivo E per il presidente De la comunità del parco Al di là di questo Secondo me la cosa Più importante Lo ribadisco Noi parliamo Di unioni di comuni Di fusioni Di altri adeguamenti Amministrativi Da scomparsa Delle province Io mi fermo un attimo Con lo sguardo A un livello più basso Cioè guardo il mio territorio L'area del parco nazionale Occidente Abbiamo già tutto quello che ci serve Per la semplificazione amministrativa Per assumere un ruolo Numericamente più importante Come interlocuzione Con gli enti sovraordinari E l'area del parco Per questo motivo Penso bisogna lavorare Per rilanciare Un progetto per quest'area E' inutile che continuiamo a dire E' scomparsa la provincia Manco un tassello No Ce l'abbiamo già La nostra provincia Il parco nazionale Tu l'hai detto prima Sottolineando Il Cilento È già una provincia E' così Abbiamo già un enti intermedio Gli va leggermente corretto Il tiro all'interno Della 394 Questo significa Attrarre più risorse La regione Campania Si deve accorgersi Di accorgere Della nostra area territoriale Guardate Una cosa mi ha fatto Molto sorridere In occasione Della consegna Delle bandiere blu E' stata la solita dichiarazione Di colui che Che bello Il Cilento ha avuto Anche quest'anno Le bandiere blu E' stato merito nostro Ma quale merito nostro Siamo di fronte a un fatto Mentre i comuni I sindaci Come diceva Tonino Lavorano sul territorio E ottengono dei risultati Poi c'è l'ente regione Che ci dice Visto che voi avete Le acque pulite Avete i servizi Le vostre spiagge Sono le migliori d'Italia Ci pagate di più Come dizionale regionale Ma dove viviamo? Io volevo aggiungere A quello che diceva Stella Risolgo l'occasione Visto che c'è Un odorevole consigliere Regionale Di un'espressione politica Ben precisa Che governa Anzi colgo l'occasione La Carmela Già la è conoscendo Non è nulla di particolare Io abbiamo mai Stanguito A proposito Visto che poi Spesso Diciamo sempre Che sul territorio Non si fa mai niente Questa è una La garacchiri Che veramente Sta andando avanti Da tempo E' vero che manca Qualche volta La governance Ma la governance Manca anche a livello Regionale Manca a livello provinciale Manca a tutti i livelli Quindi quando si tratta Del fatto E vengo la domanda Io in questi giorni Mentre gli altri Giustamente erano impegnati In campagne elettorali Io mi sono permesso Diciamo Non a titolo personale Ma come Diciamo Umile rappresentante Di questo territorio Di chiedere A Caldoro E a tutti Diciamo Solo per un istante Perché abbiamo In collegamento Telefonico A Rossella Maida Sindaco Sì Allora siamo Non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Allora la dobbiamo Ritelefonare Ma Quanti voti ballano Stiamo avanti Di 78 voti Trovando ancora 413 Sì Sì 413 Stiamo 68 voti Avanti però Allora La Chiudiamo subito Il telefono La ridisturbiamo Tra una mezz'oretta Va bene Sì Non mi subito mai Non mi subito mai Grazie allora Grazie Buon lavoro Grazie Il sindaco Stava la gialla Sì sì Noi come Sì sì Noi siamo Tutti Per reali A chi da poter Comerare Stratte Per reali In collegamento Telefonico Il sindaco Neoletto sindaco Di Laureana Cilento Angelo Serra Allora sì Scusaci perché È preminente Questa cosa Allora sindaco Prego Antonio Sindaco Sì Allora Si sente poco In studio Adesso la regia Ci da una mano Prego Se alza il volume Altrimenti non la riesco a sentire Ecco qua Perfetto Ci sente adesso Ancora un altro poco Innanzitutto complimenti Da parte di tutto Lo studio Per la riconferma Forse non ci sente Non riesco a sentirla Allora Pronto Sindaco ci sente Adesso Il volume è basso Non riesco a sentire C'è confusione Non riesco a sentire Ma è colpa vostra Allora State festeggiando Sto facendo festa State festeggiando Vabbè abbiamo qualche problema Sì stiamo festeggiando Eh questo Questo è il problema Ecco perché Non ci sente bene Allora Sì sì Allora abbiamo A auguri Sindaco comunque Vabbè vediamo di ricontattarlo Guardi se ci sentiamo più tardi Perché altrimenti non la riesco Va bene Va bene Va bene Grazie Sindaco Ci riproviamo tra un po' Allora Diciamo con chiudere Allora noi abbiamo bisogno Come gestamente diceva Sia stella Sia Di fare sinergia Ora è l'occasione giusta Per partire Diciamo alla grande Per dirangiare questo territorio Anche se Ahimedi Io devo dire Lo devo dire a tutti quanti Perché adesso L'ho sperimentato Quando tu parli Di aria omogenea Come una nuova provincia Io ti posso assicurare Caro Stefano Che non è così Perché noi abbiamo provato Non è una questione politica Ma una questione proprio territoriale E me lo può confermare Anche l'assessore Pirro Quando su un territorio Si cerca di fare sinergia Attraverso l'acqua E noi ci riusciamo Sui rifiuti E noi ci riusciamo Perché c'è anche un vatto No Non campanile Strategico Territoriale Uno di Auletta Prima abbiamo parlato del Sindaco Quando gli ho chiesto Portiamo i rifiuti A Vallo della Lucana Ma io siamo a Eboli Che voglio Che venga a Vallo della Lucana La stessa cosa Sulla gestione dell'acqua Del CONZAC Quindi abbiamo difficoltà A inserire in un discorso Io quando ci metto tre ore Sono stato spesso nel Diano Tre ore La cosa è buona Non è buona No no Aspetta Si devono imporre No Io non stavo dicendo questo Non è una questione politica Stavo dicendo Che l'aria È più facile Arrivare la mattina A Salerno E Pirro Lo può confermare Che arrivare Negli Alburni E quindi abbiamo fatto Non voglio parlare del passato Un'aria vastissima Che non è omogenea Non ce lo dobbiamo dire queste cose Perché dare sempre le colpe agli altri È una cosa Che io non ci sto Ma non è una questione politica Forse sì Perché se vogliamo andare nel politico Non andiamo Era giusto perché so Per andare via Io credo che più che Al Cilento serve una cosa Serve chiarezza È finito il tempo di fare Inciuci e traversversalismi I cittadini devono sapere Che Antonio Bruno Il Partito Democratico E tutti gli altri Il Partito Democratico Sanno da una parte E gli altri amministratori Sanno da un'altra parte Perché la gestione Che è stata fatta Degli enti sovralocali È stata una gestione Improntata Al potere Per il potere E questi cittadini Non lo tollerano più Questo è il punto Se oggi ancora Continuiamo a dire Che alla comunità del parco Abbiamo dei problemi Cari sindaci Vi dovete assumere La responsabilità di dire Abbiamo fallito Su questo punto Perché è inutile Che continuiamo A raccontarci fesserie Perché abbiamo Uno strumento Che è una Ferrari Che viene utilizzato Come una 500 State utilizzando State utilizzando E lo dico a tutti i sindaci Stanno utilizzando La comunità Il parco nazionale Il Cilento Come una comunità Montana allargata Stanno 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 Trasversalmente Trasversalmente E questa è la differenza Per esempio Dal Movimento 5 Stelle E il PD Che io faccio parte Del PD E non ho problemi A dire I miei esponenti Di partito State sbagliando C'è pluralismo All'interno Del nostro partito Allora questo è un ragionamento Che dobbiamo fare complessivamente Tutti quanti Tutte le forze politiche Non possiamo più Continuare a Gestire Gli enti locali Con Clientelismo Di basso cabotaggio Serve una visione strategica A questo territorio Che al momento Non abbiamo E su questo Dobbiamo impegnarci Non a mettere le bandierine Dobbiamo impegnarci A dare Un disegno strategico Al nostro territorio E su questo Vi saluto Perché Allora Facciamo il quale Il PD 5 Stelle Salutato Salutiamo Il dottor Ronello Marsicano Che ci ha raggiunto Il studio Buonasera Grazie Grazie a voi Allora Noi questo lo diciamo Da tempo Non è che Il territorio Non cammina E come ha detto L'assessore Vietro Se ci sono Dei amministratori Che lavorano Sul territorio Vengono premiati Ma sennò È fermo Da anni Quindi non è che Antonio Bruno Dice Ha scoperto l'acqua calda Noi lo diciamo Da tempo Onorevole E adesso Fattiamo Sì Volevo fare Rispondere Prima Rodano Diamo una notizia Risponde Do anche una notizia Positiva Al territorio Per quanto riguarda L'area interna Che forse La prima regione È stata la regione Campania Il presidente Caldoro All'epoca Con il ministro Barca Avevano fatto L'intesa Per l'area interna Ci sono circa 500 milioni Di euro Per l'area interna E la regione Campania È una delle regioni Che fa parte Di questo finanziamento Per rilanciare Soprattutto Le piccole comunità I piccoli comuni Una prima fase C'era solo la zona Della Vellinese E dell'alta Casertano Ti già annuncio Fin d'ora Che anche la zona sud Di Salerno Con mia proposta Accolta dal presidente Caldoro Ci saranno Come aree pilote La zona sud Ritorna Alla tua La tua analisi Perché io credo La zona sud Della provincia di Salerno Quindi diciamo Da Ebre Fino a Sapri E quindi Entrerà come Area pilota Come progetto pilota Anche la nostra zona Per quanto riguarda il parco È stato un valimento Io sono stato sempre Uno di quelli L'ho detto in faccia Ci prendiamo in giro Facciamo demagogia Anche con i Pirap 25 milioni In quell'aula Quando ero sindaco L'unico sindaco Che ha gridato Lo scandalo Sono stato io Perché 25 milioni Si potrebbero fare Tre, quattro Grande opere Infrastrutturali Una negli Alburn Un'altra nel Cilento Un'altra nel Golfo di Ponecast Un'altra nel Valle di Piana Viceversa Tutti i sindaco Tranne il sottoscritto Hanno voluto La ripartizione Qui Hanno No Io non lo so Non so se c'era Allora c'era Non so se c'era tu Non so se Non so se eri sindaco In quel momento Non lo so Però sta di fatto Stati fatto Questa è la domanda C'era Angelo Vassallo Mi ricordo Buonanima Infatti Solo io contro tu Allora Detto questo Detto la verità Perché dico sempre La verità Io condivido in pieno Il progetto Parco Nazionale Alburn Cilente valdianiano E' un fallimento Non ha portato nulla Ha portato vincoli Ha portato il disastro Perché l'ambiente Se c'è Perché noi abbiamo deciso Di viverci Perché noi siamo Le sentinelle Lo Stato italiano Ci ha vincolati Non ha dato risorse Ha dato solo quelle risorse E che è consentito A qualche signorotto di turno Che diventa dirigente Presidente A girare il mondo Con i soldi I cittadini Non ha portato nulla E' un fallimento Altra cosa E' condivido E' impensabile fare Una macro area Nel Vallo Idiano Nel Cilento Golfo Policastro Alburn Non c'è la viabilità E' una viabilità Potenziale Ed è giusto E' giusto che non ci siano più Comune Comune Regione Stato La gente vuole risposte immediate Questi enti intermedio Come il parco E' una vergogna Una pratica Per fare una tettoia Deve avere Prima il parere del parco Può andare alla sovrintendenza Può una la prova Un'altra Non ne usciamo più Dico Allora Se vogliamo fare Delle cose Il sindaco di Campora Sindaco Pronto? Ci sente sindaco? Sindaco allora Auguri Pronto? Sì La sento Sì Allora Riconfermato sindaco? Pare di sì Allora ci dia qualche numero Con quale risultato? Con un risultato Diciamo Soddisfacente Che in qualche modo È il segno Di una Condivisione Di un affrettamento Di una fiducia A questa amministrazione Da parte della comunità Allora Cosa si sente di dire Ai suoi elettori? Innanzitutto Vi ringrazio Per aver partecipato A questa competizione E vi ringrazio Per aver dato Nuovamente fiducia A questa A questa compagine E ovviamente Come dire L'impegno Con l'impegno Da parte nostra Di fare Sempre meglio Nell'interesse Della comunità Insomma Cercheremo Di portare avanti Quelle che sono Le nostre idee I nostri progetti Nell'interesse Comune E parlavamo Di parco Qui insieme Ai nostri ospiti C'è l'onorevole Fortunato C'è il presidente Della comunità Del parco Radano È molto lontana La voce Non ha perso Vabbè È un fallimento Il parco Sì O no Pronto Vediamo così Poniamola così Secondo lei È un fallimento Il parco Sì O no Sindaco No Io non sono d'accordo Con l'onorevole Però Vabbè Ognuno deve dire Quello che vi parlo Allora C'è un momento Siccome è arrivato Salutiamolo Grazie Sindaco Sì Grazie Se vai via Non te la può dare La risposta È chiaro Allora Nella vita Contano i fatti È stato un fallimento Sì Se non ha portato nulla Chiediamo ai cittadini No Se è portato qualcosa Le potenzialità Dal 92 Se ne parlano La gente Se ne è andata via Allora Io credo che il parco Così come è organizzato È un fallimento È una restrizione È un vingolo Per noi cilentani Uno Due Per quanto riguarda Le aree intenne Ti annunci Annunci A tutti i cittadini Che oltre a dare Finanziamento Per opere pubbliche Saranno date Ho fatto la proposta Presidente Caldone Che almeno il 60% Di quei finanziamenti Vengono date Ai giovani imprenditori Per aprire Attività artigianali Commerciale E professionale Fino a un importo Di 100.000 euro Per evitare Che quei pochi soldi Se li prende L'imprenditore Signor Otto Di turno Dopo due anni Fallisce È finito tutto Quindi Detto questo Allora L'area del parco A mio avviso Il Golfo di Policassa È un'entità Parte geograficamente Di collegamento Il Celento Qua è un'altra Entità Di collegamento Di viabilità Di realtà Di cultura Il Vallo di Anno È altra cosa Il Dalburni È un'altra cosa Quindi queste 4-5 macro aree Vanno inquadrate E all'interno Di questo 5-6 macro aree 4-5 macro aree Chiaramente Ha fatto una progettualità Condivisa Tra i regioni Ma mettere insieme Vallo della Lucania Con Teggiano Non ha senso Significa perdere tempo Chiaramente Questi di Vallo della Lucania Vanno prima Salen e non vanno È così Questo è il punto Poi dopo diamo la parola Al Dottore Mazzicano Vorrei che ascoltasse anche Veloce così Facciamo la parola Io non ho detto Che voglio fare Diciamo Pro o contro il parco Perché apriremo Uno scenario Io voglio dire Che cambiare Il modo di scegliere La governance Perché In questo momento Non tutti i cittadini Sanno che il presidente Sono scegliere Il ministro Si mette d'accordo Con il presidente Della regione Vabbè Poi 4 Vengono scelti Uno dal ministero Dell'agricoltura Uno dall'ISPRA Uno dal ministero Dell'ambiente Uno dall'associazione ambientale Io voglio sapere una cosa E 4 dalla comunità Sembra in minoranza Quindi poi Diamo la colpa I sindaci Oppure Diamo la colpa Al presidente della comunità Che non è che altro Ma adesso Diamo la colpa Al romano Quel povero romano Che non funziona Le cose dalla regione Cioè voglio dire Detto ciò Detto ciò Che cosa voglio dire Che non può essere Adesso parliamo Di competenza Attualmente Il ministro L'abbiamo chiesto Al ministro Ecco perché sono state fatte le nomine Perché vogliamo chiarezza Come vengono fatte Quando si parla Di competenza Biodiversità Aria attrezzata Sai chi sono Adesso Chi hanno fatto parte Di questo consiglio Lavorato in scienze biologiche Cioè biologiche Perché tutte le persone Per bene Però alla fine Ci vuole uno strumento Che oggi Quando ho detto prima La comunicazione Strumento di comunicazione Di marketing Noi dobbiamo far arrivare Al territorio Messaggi innovativi Di conoscenza E non lo può fare Un presidente Giustamente Che viene da un'espressione Oppure per ragioni Di carattere politico Allora dobbiamo scegliere Vogliamo la politica Che stia dentro il parco O vogliamo la competenza Che venga Due secondi Ma secondo lei È stata una sconfitta O meno No È come fare una bella Maglietta E poi Facciamo la Segreteria Di Vallo della Lugania Del PD Siccome è il partito Che ha vinto Tutta la provincia Intanto A me fa piacere Anche a Vallo della Lugania Tra pareti Il mio ingresso Il mio ingresso Diciamo così In questo studio È stato quasi contemporaneo All'annuncio Di molti sindaci Ai quali io Porgo i miei Più vivi Complimenti E congratulazioni Nello specifico I ragazzi Di Novi Colgo l'occasione Per fare L'imbocca al lupo Al segretario del PD Di Novi Velia Antonio Di Polito Il quale ha fatto Un grosso lavoro Con tutta la compagine Dei ragazzi E dare vita Ad un nuovo corso Che si spera Possa anche poi Essere un modello Trasportabile In tutto il Ciletto Io ho seguito Anche prima Il dibattito In studio E sinceramente Questa campagna elettorale Sarà bruttissima Perché io Non ho sentito Parlare nessuno Di Europa Anche in questa occasione Ci si attanaglia In discorsi Che riguardano La politica locale Non sappiamo Le idee Di nessuno L'unico Partito Che oggi Ha detto E ha speso La sua Sull'Europa E il Partito Democratico Allora Io dico Una cosa Molto Semplice Oggi La politica Deve Saper riconoscere Ed è questo Che è l'impegno Che la politica Deve assumere Deve saper riconoscere Le competenze E i processi Le competenze Perché A mio dire E a mio avviso Va cambiato tutto Non ci prendiamo in giro Chi ha fatto Chi non ha fatto 5 anni 10 anni 20 anni Qua va cambiato tutto Onorevole Fortunato E' inutile Dirsi Cosa fare E cosa non fare Abbiamo la Polonia Che spedde il 99,8% Di fondi europei Cosa che non fa La regione Campania Questo è il discorso E ce le dobbiamo dire Queste cose Allora L'Europa E' un'occasione Secondo me Fondamentale Sia per il Parco Nazionale Del Cilento Sia per i nostri giovani Ma soprattutto Per dare un cambio Un invito a non votare Un invito al non voto Allora Ascoltiamo il dottore Poi andiamo Un minuto solo di pubblicità E poi ci ritroviamo qui Allora Quindi apriamo soltanto Il discorso con il dottore Perché lei ha invitato Gli elettori a non votare Al non voto Innanzitutto sono in difficoltà Mi trovo a parlare di corda Nella casa degli impiccati E sono ovviamente in difficoltà Anche per un altro motivo Perché parlare di non voto Quando il diritto di voto E' un diritto inalienabile Ed è la più grande conquista Delle democrazie occidentali Diventa difficile Diventa difficile anche per un Personaggio in piccolo politico Sono un consigliere di minoranza Pisciotta Per cui chiedere alla gente Alla quale si chiede il voto Il non voto Diventa quasi un assurdo Ma perché abbiamo fatto Una campagna per il non voto Ed io invito Gli amici qui presenti A rivedersi un attimino Quelle che sono state Le affluenze alle urne A Pisciotta Il 67% non è andato La stessa cosa a Centola La stessa cosa a Camerota E sono perfettamente d'accordo Con quello che si diceva Bisogna valutare quello che si fa Bisogna vedere le esigenze Della gente Le esigenze Di questo territorio Di questo meraviglioso territorio Con delle potenzialità enorme L'esigenza principale E una viabilità Pressoché inesistente Ora si faceva il discorso Non è colpa Della attuale amministrazione È colpa Della vecchia amministrazione È un cittadino Che si ritrova A non sapere Se le colpe Sono prevalenti Per chi c'è stato prima O se sono prevalenti Per chi c'è stato dopo Però non riesce Ad andare in Europa Perché per andare in Europa Si passa Per Rizzico Si passa Per la Cilentana E per Rizzico Per la Cilentana In questo momento Non si passa Ma perché non voto? Perché non voto? Perché questa era un'occasione Eccezionale Per questo territorio Io direi unica Stiamo parlando di elezioni Per il Parlamento europeo Qui Ognuno di loro Mi può insegnare La valenza Del Parlamento europeo Non ha potere Leggiferativo Il potere Della Commissione europea 24 commissari Non eletti Nominati La circoscrizione Del Sud Porta 17 Candidati Io non credo Che il voto Del Cilento Sia indispensabile Preminente O unico Per decidere Chi sarebbe andato O meno Al Parlamento europeo Però era un'occasione Unica Ovviamente Non poteva essere Veicolata Dai grandi elettori Era un'occasione Unica Per il popolo Cilentano Di farsi sentire A livello nazionale E al livello europeo Far sentire La grossa Esigenza Di viabilità Di infrastrutture Che questo territorio ha E in questo momento Gli amici Di centrodestra Di centrosinistra Gli urlatori del centro Non perdevano nulla Non ci sono Comunali Non si discuteva Di regionali Non si discuteva Di politica Per cui si sarebbe Perso poco Anche noi Abbiamo gli amici Sovracomunali Anche noi Siamo stati costretti A dire no Ci dispiace L'abbiamo messo vicino Ai muri Questa volta Per andare in Europa Si passa per queste strade Per queste strade Non si passa Per questa volta Per questa volta Virgolettato Noi non votiamo Mi sarebbe piaciuto Che il Cilento Avesse avuto Un'affluenza Alle urna Prossima Prossima allo zero Provate ad immaginare Su un giornale Della Germania Della Francia Della Spagna Un caso di questo genere Come sarebbe stato Considerato Un minimo di curiosità Forse l'avrebbe destata Forse Forse Dico forse Ci sarebbe stata Anche qualche soluzione Anche questo è un messaggio Perché non esiste Che la regione Campania Negli anni passati Adesso Ha restituito Un euro In un euro Sono tutte Protte Guardiamo le percentuali Sono tutte protte Chiaramente No No dobbiamo fare i fatti Dobbiamo dire la verità Allora L'amministrazione Capaci Le amministrazioni Capaci Hanno progettate Hanno avuto finanziare Hanno realizzate Il problema qual è? La regione Campania Ha fatto una scelta Diamo i soldi Ai territori I sindaci Gli amministratori Locali Sanno cosa serve Io mi auguro Che i 3-4 miliardi Che da qui a poco Saranno erogati I sindaci Hanno fatto scelte buone Perché se io faccio Una piazza Nel mio paese Dove non c'è rimasto nessuno E non mi ristruttura La viabilità È una scelta mia Perché nell'Acelento Nel Vallo di Anno Nell'area del Parco Nazionale Cilento Con l'accelazione Della spesa La regione Campania Da qui a 60 giorni Erogerà Circa 400 milioni Quindi I sindaci Molti hanno scelto Di fare un campetto In una zona Dove non c'è nessuno Quindi diamo la responsabilità A chi ha la responsabilità Non è una questione Di colore politico Quindi nella vita Contano i fatti Quindi non esiste Anche nel passato Quando è governato Il centro-sivista Non esiste un euro Mi sono informato Perché luogo comune Si tornano i soldi indietro Non c'è un euro Restituito In Europa Io dico solo una cosa Peccato che la regione Campania Quindi ci sono Non sono scoperto Io dico peccato Che la regione Campania Non è così I soldi si stanno erogando La risposta veologica Dico peccato Che la regione Campania Ha scelto Di erogare questi soldi In prossimità Delle campagne elettorali È stranissimo È erogato I soldi Dopo aver risanato Il disastro Fatto dal tuo partito È un linguaggio Che tu erediti Qualcosa di attivo Ringraziamo L'onorevole Fortunato Io penso Devi prima risanare E pagare i debiti Come un buon cittadino Un onesto cittadino E poi rilanciare Quindi abbiamo risanato Il disastro passato E stiamo rilanciando Spero Chiaramente I cittadini Sapranno valutare Se la nostra scelta Il nostro lavoro È stato positivo In Europa Io sono Guarda Sono contentissimo Che ha vinto Una parte Io nella vita Sono abituato Attribuiamo anche Un significato Si politico Renzi ha vinto Io mi auguro Però ha vinto Su quello che ha promesso Io nella vita Vingo su quello che faccio Io mi auguro Che quello che ha promesso Renzi Lo faccia Perché come italiano Io sono contento Angolo L'Aurevole Ha promesso qualcosa Quindi Io non lo ero Da due o tre mesi Stiamo commentando Altri dati elettorali Sì 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 Perché le elezioni Sono state vinte Dal popolo Che è stanco No no Il popolo Che è stanco Il 47% Degli elettori Non ha votato La democrazia È quello che va a votare Non condivido La maggioranza assoluta Non è demagogia Il popolo Allora vince Ti va a votare Vingo Renzi Scusate un attimo Se l'onorevole Fortunato Deve restare in istituto Se non apriamo altri scenari No no Chiudiamo No ma dobbiamo dare il microfono No ma dobbiamo dare una risposta L'amico L'amico No no Ma visto che siamo in Sto sbagliando Anche nell'elettorio Perché tagliare il microfono Grazie Alla prossima Grazie Alla pubblicità La pubblicità Dottore Un segno Allora ben ritornati in studio Riprendiamo questa nostra lunga diretta Dedicata al risultato Delle elezioni amministrative In alcuni comuni Lo spoglio è stato già chiuso In altri siamo La LAS Mancano davvero poche Schede ancora da scrutinare Però ecco Come abbiamo visto Nel corso di questa prima parte Della nostra lunga diretta Abbiamo spazzato davvero Su tutte quelle che sono Le tematiche Che riguardano il territorio regionale Allora io risaluto E ringrazio gli ospiti Che sono ancora qui Con noi L'assessore provinciale Lavori pubblici Attilio Pirro Il coordinatore cittadino Del PD di Vallo della Lucania Riccardo Ruocco Poi gli amici del Movimento 5 Stelle Gigi Ruggero Lorenzo Lentini Il dottore Nello Marticano Consigliere di minoranza Del comune di Pisciotta E poi il sindaco di Stella Cilento Antonio Radago Al mio fianco Renzo Decezio E Antonio Bolo E voglio aggiungere una cosa Che ci manca qualcuno Nella trasmissione Dobbiamo ricordare Che è stato sempre con noi Nostro amico caro Per tanti anni Con noi Che è presente in televisione Ci vede comunque Ci sta seguendo da casa Lo salutiamo A Campora Giuseppe Vitale A Casalbuono A Tilio Romano A Casaletto Spartano Giacomo Scannelli A Casella Impittari Maurizio Tancredi A Cicerale Francesco Carpinelli A Cuccaro Vettere Aldoluongo Poi a Futani Abbiamo detto Aniello Caputo A Gioi Andrea Salati A Giungano Francesco Palumbo A Laureana Angelo Serra A Magliano Vettere Carmine D'Alessandro A Morigerati Cono Delia A Novivelia Maria Ricchiuti A Domignano Emanuele Giancarlo Malatesta Adottati Edoardo Doddato A Rofrano Nicola Camarano A Salento Bel testa testa Tra Scarpa E De Marco A San Mauro Esatto Non c'è ancora il risultato Non abbiamo il risultato finale San Mauro Cilento Eletto sindaco Carlo Pisacane Poi abbiamo Sant'Arsenio Con Antonio Coiro A Tegiano Rocco Cimino A Torchiara Massimo Farro A Torri Orsai Il nuovo sindaco E Pietro Vicino A Torraca Invece dicevamo Che Bianco Ha vinto Sulla collega Roberta Cosentino Per pochissimi voti A Valle dell'Angelo 12 voti Esatto 6 quindi 6 Roscinio ancora non Però ricordiamo I amici telespettatori Roscinio non era un comune Chiamato al voto Ma un ballottaggio Per due voti C'è stato un ricorso In riferimento Alle vecchie elezioni Amministrative Allora Volendo realizzare Questi risultati Antonio Possiamo mettere in evidenza Che alcuni sindaci Non sono stati Riconfermati Come San Mauro Cilento Sì due su tutti San Mauro Cilento Giuseppe Cilento Rofrano Con Viterale Sconfitto da Cammarano Torri Orsaia Torri Orsaia Lo stesso con Vicino Invece poi ci sono fatte Delle belle riconferme Tra cui Novi Veglia Allora Cercheremo ora di metterci In collegamento telefonico Con Castelnuovo Cilento Dove La Maida ha vinto Dice Renzo C'è giusto qualche scheda Ancora da scrutinare Però il risultato È quello Allora Prima della pubblicità Stava parlando il dottore Marsicano Nello Marsicano Una domanda Che poi dopo Gli diamo subito La risposta Io conosco Dottore Marsicano Forse la terza Quarta volta Che ci siamo scambiati Condivido Diciamo in parte La sua analisi Però Ah per il non voto No Perché Diciamoci la verità I sindaci Non è che si sono Prodigati a far votare Perché nel Cilento Perché abbiamo dimenticato Il voto del Cilento Carlo Renzo Ci sono comuni Che hanno Si dichiarano Di essere vincitori Ma con il 29% Il 30% Hanno votato Alle europee Mi riferisco Lui ha fatto una tematica Ben precisa Lezioni europee Hanno votato addirittura Solo il 30% In nessun comune Forse del Cilento A meno che Non ci siano state Le elezioni Comunali Che hanno trainato Altrimenti Ci sarebbe stato Un flop Quindi Però Noi abbiamo Un compito Istituzionale Che Se questa analisi Fosse condivisa Da tutta la popolazione Ebbene Io lo voglio dire qui Il Cilento Ha bisogno di tante cose Ma non è la maglia nera Dell'Italia Allora che devono dire Quelli di Taranto Quelli di Bagnoli Perché le tematiche Forse qua L'abbiamo sulla viabilità Ma ci sono altre tematiche Importanti In altri posti d'Italia Che io ho la fortuna Ma tutti voi avete la fortuna Di visitare Che sono altresi gravi Ci sono fabbriche Che anche nel Veneto Ci sono situazioni Imbarazzanti Dal punto di vista Economico e sociale Quindi al voto Quindi il non voto Non si sta bene No È una cosa Che va fatta Ma qual è l'alternativa Perché quando si dice Il voto Anche con la classe politica Ce la vogliamo prendere Io ancora oggi Amici cari Perché prima di essere Diciamo Colleghi Lui è Cinque Stelle Movimento Cinque Stelle Lui è consigliere Lui è un membro di città Lui è addirittura Assessore provinciale Che vogliamo dire Il consigliere di che aree Che non lo sa L'Istacile L'Istacile Allora vogliamo dire Una volta Il mio pensiero No 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 L'Istacile L'Istacile Anche voi come stamba Spesso facciamo Questo carachiri Noi dobbiamo dire Con tutta franchezza Che la politica Che cosa la sostituiamo Solo con la protesta Oppure che cosa Cioè ancora oggi Quando parliamo di rappresentanza Vogliamo cambiare il senato Vogliamo cambiare questo E poi non cambiamo le regole Facciamola il dottore Perché È chiaro che ha bisogno È chiaro contrario Guardate No 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 Ho fatto una premessa prima Che parlare di non voto È qualcosa di estremamente serio Ci sono aree del mondo In cui è un diritto negato Per cui il diritto di voto È un diritto sacrosanto La richiesta di non voto In questa competizione elettorale Era un messaggio Una cartolina Da inviare alla classe politica E mi sembra che non sia stata raccolta Né a livello locale Né a livello nazionale Ho sentito giustamente Il PD non ha vinto Ha stravinto Ma ha stravinto un referendum Tra la politica del fare E la politica del disfare È stato semplicemente Un referendum In questo referendum Il partito Se lo vogliamo chiamare così Che ha vinto l'elezione È quello del non voto La maggioranza assoluta Degli italiani Io invito semplicemente A chi fa politica di professione Come diceva giustamente lei Io non lo faccio Faccio un altro lavoro È poco più di un hobby Io invito chi fa politica Per professione Di analizzare questi dati E ti prende all'inserire Considerazione Tutto qui Era una richiesta di non voto In un momento particolare In una competizione elettorale Nella quale Il voto del cilentano Diciamocela tutta La campagna elettorale è finita Non serviva a nulla Né per Non serviva a nulla Serviva semplicemente Per farsi l'amico dell'amico Dicevo prima Anche noi abbiamo degli amici Sovraccomunali Ai quali abbiamo dovuto dire Ci dispiace Per questa volta non possiamo votare Questa era la volta Di portare A livello nazionale E internazionale Quelle che sono Le carenze del cilento Sono d'accordo Il cilento è meraviglioso Rispetto ad altre situazioni È un paradiso Però non significa Adagiarsi sugli allori Il cilento è un paradiso Mal gestito negli anni Negli ultimi 40 anni Io volevo dire solo una cosa Prima di concludere Che io capisco Il dottore E la protesta Che hanno fatto Perché essendo un cilentano Percorro il cilento Ho anche un'età Quindi da quando ero ragazzino Io mi ricordo La frana di Pisciotta Da sempre Ma è risolta Il problema del non voto E questo è un'accusa Che va a tutti i partiti Ma anche al Movimento 5 Stelle È un voto Che non viene raccolto Cioè io non ti voto Perché non mi rappresenti Questo va detto Poi rispetto Alle questioni di stasera Perché nascono Proteste di questo tipo Perché la gente Si allontana Della politica Perché può esistere Un movimento Che si chiama Il Movimento 5 Stelle Perché la politica Non rappresenta più i cittadini L'abbiamo visto stasera In questa piccola discussione Lo vediamo sempre Appogato 27 Buonasera Eccoci qua Un attimo Scusa che ogni tanto Avvocato Interrompiamo Sindaco Possiamo chiamarla sindaco È caduta la linea Il sindaco di Putani Agnillo Caputo Riproviamo a telefonare Vabbè facciamo pure concludere Questo non significa che il PD Non ha vinto questa tornata elettorale L'abbiamo detto in anticipo Noi del Movimento 5 Stelle Pensavamo di raccogliere più voti Abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente Valuteremo E comunque da domani mattina Siamo di nuovo a fare politica Noi comunque abbiamo Nel sud Italia Siamo andati meno male del resto Ma la cosa importante è che noi Come Movimento 5 Stelle Abbiamo eletto Quattro rappresentanti Che portiamo A Bruxelles Dall'Italia Sud Che sono Adinolfi Sabella Prima eletta in tutto il territorio È salernitana Poi Ferrara Laura D'Amato Rosa È l'unica salernitana Ma il problema è questo Che sono stati eletti Sono contro l'Europa No 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 Il Movimento 5 Stelle Non è contro l'Europa Il Movimento 5 Stelle È contro questa Europa E vuole discutere Alcune cose Che qualcun altro Ha deciso per noi Comunque io mi auguro Che l'avremo presto in zona E ve la porto In trasmissione Nel Parlamento Europeo Del Movimento 5 Stelle Questo non lo so Sì di Nocera Una ragazza di Nocera È di Nocera Sì è l'unica salernitana Che è riuscita No lo facciamo concludere Perché forse vogliono andare via Il parco Io non sono d'accordo Che il parco Deve essere chiuso Però il parco È stata un'occasione Che il territorio Non ha saputo sfruttare Che la politica Non ha saputo Vendere al territorio Sarebbe un'occasione bellissima In altre zone Ci lavorano con il parco No ma noi non abbiamo Solo il parco Abbiamo una costa bellissima Che oltre al fatto Che è difficile Da raggiungere È anche difficile Proprio da vivere E qua ci stanno Anche delle responsabilità Che dobbiamo dirlo Non sono solo politiche Ma sono anche De noi proprio Cittadini No 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 Io proprio le difficoltà Mi fanno piacere Che ci sono Che il nostro parco È un parco De selu Che a voi Guardate Non dobbiamo pensare Ai grandi numeri Non siamo a Rimini Qua O siamo a Iore Mi interrompo un attimo Per due risultati Maurizio Caronna Vince a Felitto Battuto Antonio Salerno Mentre a Auletta Ha confermato sindaco Sì l'abbiamo Pessolano L'abbiamo già detto Su facciamolo concludere Con questo Volevo ringraziarvi Di averci invitato Per la verità Ci invitano Ci seguono sempre Da Rete 7 Questo lo dobbiamo dire Da 7 TV Lo dobbiamo dire Non abbiamo mai avuto Nessuna censura Ci sentiremo Sulle cose che faremo Perché noi Più che fare Interventi Di politica Di chiacchiere Diciamo Di salotto Ci piace parlare Sulle iniziative Che facciamo Piccole Poche Insignificanti Per altri Significative Per noi Ma di questo Vogliamo parlare Grazie comunque Benissimo Io volevo aggiungere Poi Per quanto riguarda L'elezione europea Ha detto bene Il coordinatore cittadino La scelta Come hai detto Giustamente Ma che cosa Andiamo a fare in Europa Noi abbiamo L'abbiamo detto In maniera Anche perché Diciamo come partito C'è gente Che vuole Mandare il rossato Scuo Cioè stare in Europa Così E quindi a noi Non va bene Ma non va bene Nemmeno fuori dall'Europa Perché sarebbe la catastrofe E voglio dire Solo un dato Perché non è che lo dico Antonio Radano Ma lo dice Chi oggi ha una casa Che vale 100 mila euro Domani vale 100 milioni Quindi Dalla sera Ma detto ciò Quello che è importante Noi vogliamo andare in Europa A portare le condizioni Di novità Ahimè mi dispiace Che l'unica cosa Che è lato negativo Di queste elezioni Che nonostante Renzi Abbia avuto Una forza D'urto Diciamo Importante Nel partito Socialista Europeo I suoi colleghi Di cordata Hanno avuto Un Diciamo Un arretramento E quindi La situazione Diventa ancora più Ingarbogliata Perché Che cosa potrebbe succedere Adesso in Europa Può succedere una cosa Che a me Onestamente Mette ancora più paura Di Grillo Ed è quello che tutte Diciamo Le aree estreme Si uniscano Con Con Il partito Popolare Perché oggi ho visto Chi è In 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 No No Non per me In Vol Position Come Diciamo Candidato Alla Presidenza Della Commissione Allora Ruggero ci vuole lasciare Vuole aggiungere qualcosa No 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 Assolutamente No 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 Vogliamo Vogliamo Ripetere una cosa Che se E' cambiato Qualche cosa Che se E' cambiato Qualche cosa Anche gli 80 euro E' dovuto solo A noi Perché fino a ieri Tutto ferma E quindi Qualche merito Ce lo dobbiamo anche prendere per il resto noi facciamo un saluto a tutti un ringraziamento a tutti per averci invitato alla prossima grazie di nuovo arrivederci ringraziamo gli amici del Movimento 5 Stelle il problema serio è lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione perché le imprese stanno fallendo per il patto di stabilità allora la politica oggi è lo sblocco dei pagamenti del patto di stabilità perché così facendo le opere si bloccano, le imprese falliscono e gli operai stanno a casa questo è il problema serio per dire il Presidente Renzi dall'inizio l'ha detto dall'insediamento che sbloccava il patto di stabilità il pagamento della pubblica amministrazione io voglio fare un attimo perché abbiamo il collegamento telefonico il neoletto sindaco di Cicerale il dottor Francesco Carpinelli sindaco auguri da tutto lo studio ma sentiamo i clacson sta già festeggiando 15 voti possiamo dire a togliere sindaco sono iniziati i festeggiamenti sentiamo i clacson eh sì 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 i fanci qua mi stanno festeggiando riconfermato il sindaco un successo importante saranno 5 anni di lavoro e a disposizione della gente per il bene di questi nostri paesi interni che hanno tanto bisogno di aiuto e stavo dicendo che appunto anche Renzi ha vinto speriamo che dia un aiuto alla regione ai comuni perché tutti questi problemi di strade di infrastrutture siano risolti una riconferma importante significa che la gente ha apprezzato il suo operato soprattutto difficile perché ecco il paese è spaccato poi a parte questo il mio avversario era ex presidente della della multiservice della provincia abbiamo qui l'assessore abbiamo in studio l'assessore provinciale ai lavori pubblici Attilio Pierro vuol fare qualche domanda al nostro assessore? io lo ringrazio perché lui lui veramente è una persona istituzionale mentre mi devo un pochettino lavendare dei suoi predecessori una voce è contenta con me è ancora più contenta tu sei veramente una persona squisita e istituzionale forse che non sono stati i tuoi predecessori nonostante che io in quotidiano ho votato per loro e ho appoggiato loro però adesso ha chiesto aiuto a Renzi se tu veramente sei una persona che meriti un futuro e meriti tante cose per il tuo avvenire perché sei una persona istituzionale come dovrebbero essere tutti quelli che occupano i posti della provincia dei comuni va bene lo diceva allora l'assessore Piero lo sta ringraziando sindaco davvero auguri ancora eh grazie auguri auguri è vero di collaborare di che stiamo insieme di che lui è assessore provinciale grazie ancora sindaco rivederci vuole dire qualcosa la sua ricorda di imballo quindi allora lo diceva però l'assessore prima io con tutti gli amministratori sono sempre a disposizione purtroppo le difficoltà ci sono ma quando meno ci metto l'impegno e la disponibilità per cercare di risolvere i problemi io volevo solo perché pure io vi devo lasciare voglio fare gli auguri ai sindaci ma anche a tutti gli amministratori che sono stati eletti con l'augurio che insieme anche agli amici della nuova diciamo classe politica del PD che fanno riferimento al presidente Renzi e gli amici del Movimento 5 Stelle tra un secondo abbiamo in collegamento telefonico la collega Maria Rosaria Battaglisi che ci ha già una sua scena poi la facciamo salutare allora Maria Rosaria cosa puoi dirci sua scena e allora Carmela attualmente mancano circa mille schede per cui ci vuole un altro po' di tempo e si sta però si sono chiuse le lezioni a parte delle frazioni che già da molto tempo ma anche quelle delle frazioni altre scusate anche quelle di Ascea Paese dove c'è stata una prevalenza sempre della lista numero 3 che è compagnata fin da compito l'orientamento è quello? l'orientamento si sta mantenendo quello però il numero totale è ancora quello però la ripeto non c'è una ma Maria Rosaria puoi dirci i numeri registrati fino ad ora? sì allora il totale il totale è di 900 977 per la lista numero 1 il genio per il ruolo la lista numero 2 è 980 sì e la lista numero 3 1102 allora Criscuolo e Giglio dicevi scusa possiamo ripetere Criscuolo e Giglio e invece Pietro D'Angelo 1102 quindi voglio dire c'erano 150 voti in più fino adesso più o meno sì più o meno sì più o meno sì però adesso mancano Stampella e le due sezioni di Ascea Marina è alla Scia Marina per tua conoscenza e la Roccaforte di quale candidato per tua conoscenza allora quello che posso dirti è che a Scia Marina in questo momento la sezione 3 perché sono due sezioni vede a 206 voti la lista numero 1 e Giglio Piscuolo e vede per esempio la lista numero 2 a 125 e la lista numero 3 a 134 quindi per cui vede vabbè non ci sbilanciamo aspettiamo ancora non ci sbilanciamo sì sì ci aggiorniamo ci si aggiorniamo allora ringraziamo Maria Maria Battagliese grazie Maria Rosario buon lavoro grazie a voi allora salutiamo salutiamo l'assessore provinciale a Tino Piero grazie davvero per la sua presenza grazie ringrazio per l'invito che ci avete dato la possibilità di discutere insieme per far capire anche ai nostri cittadini e le difficoltà che ci sono ma come vi dicevo voglio fare gli auguri ai sindaci e a tutti gli amministratori che sono stati aletti con l'augurio che da domani mattina insieme potremo collaborare per cercare di risolvere i vari problemi che ci attanagliano nel nostro territorio ma insieme anche agli amici come dicevo del gruppo PD che fanno parte con il nuovo Presidente posso sapere una promessa prima che lei e con gli amici anche con gli amici del MoVimento 2 su 5 Stelle avvocato noi sulla via video ho sentito prima parlare sono discorsi invito a un voto del dottore Marsicano era principalmente per i problemi del territorio legati alla via non è una provocazione non è una provocazione è una cartolina è un invito alla politica a prendere seriamente in considerazione la gente non è la prima volta diceva giustamente lui alla quale io partecipo a un incontro per la viabilità sul Cilento siamo stati una volta a Castelnuovo in cui c'è stato veramente un teatrino squallido di colpe tue colpe mie le colpe sono sempre degli altri le ripercussioni sono sempre sulla gente è un invito alla politica a fare seriamente a non scaricare la responsabilità sugli altri io mi riaggancio perché noi del PD il circolo di Valle insieme a 60 circoli del PD della provincia sud di Salerno abbiamo con un'iniziativa mirata sulla viabilità proposto avanzata la nostra proposta quindi non di denuncia ma abbiamo proposto uno stato di emergenza perché riteniamo che sia un problema ti posso interrompere probabilmente non hai letto le delibere della giunta provinciale l'ho fatta subito le ho chiese le ho pure inviate alla presidenza del consiglio e le ho inviate anche tramite le ho lette io dico questo secondo me in maniera tardiva la provincia ma non per fare un'accusa è il mio pensiero secondo me si è portato avanti un problema che doveva essere di straordinaria amministrazione subito e invece si è usato un procedimento assolutamente secondo me ordinario ma vengo qui appunto io faccio un'altra proposta all'assessore perché sono sicuro che nessuno prenderà la responsabilità di aprire la strada a una corsiera di questo è un mio pensiero allora io propongo la possibilità di intervenire con la con la 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 protezione civile come si fa nei casi di emergenza con quei ponti di ferro ci vogliono 20 giorni con il genio militare non aspettavo ma è una cosa che si può fare ma già l'ho fatto già ne abbiamo parlato già ne ho parlato anche con il colonnello del genio militare per per il che io io credo affrontate tutte allora in riferimento alla protezione civile la prima cosa che ho fatto ho fatto una delibera di giunta provinciale dove ho chiesto allo stato di calamità pure per il problema parliamo di cose concrete abbiamo scritto abbiamo scritto l'allora presidente del consiglio letta abbiamo scritto al ministro abbiamo scritto allora c'era vice ministro a tutti i parlamentari del salernitano abbiamo chiesto aiuto a tutti l'unica cosa risposta positiva è stata da parte della regione Campania dell'assessore Cosenza e del presidente Caldò ad oggi siamo che fra qualche settimana abbiamo già terminato il progetto definitivo per la risoluzione definitiva del viadotto la frana il rilevato come sapete è in gara il 19 scadrà la gara alla stazione unica appaltante in più abbiamo concordato insieme al provveditorato delle opere pubbliche altri interventi provvisori per cercare di aprire la strada ad una corsia faremo subito questi interventi sono che poi io devo fare le marche la dovremmo fare con le marche già stanno lavorando abbiamo fatto già il prolungamento degli appoggi delle trave dovremmo fare adesso a breve dovremmo fare una gara per dei pali perché vogliamo migliorare la sicurezza per il primo di luglio diciamo una data può essere aperta per un'altra se le prove di carico saranno positive ci sarà questa possibilità sicuramente a me hanno detto che forse è il problema che diceva anche l'avvocato no io ho parlato con l'ingegnere Criscuolo l'ingegnere capo della provincia ha detto abbiamo avviato tutta questa procedura ma è tutto un sistema un sistema di monitor no perché comunque ci sarà il monitoraggio dei piloni ci sarà il monitoraggio del controllo deve essere messo in sicurezza è chiaro ci sarà tutto chi passerà sicuramente passerà in sicurezza se no l'ingegnere Criscuolo logicamente non si prendeva non si prenderà la responsabilità ad aprillo se le prove di carico dopo aver fatto questi interventi saranno positive la strada sarà sicuramente se dovessero essere negativi negativi sono negativi facciamo gli scongiuri perché oggi noi fino a qualche anno fa stavamo discutendo sul problema della frana oggi ci troviamo sul viadotto no il viadotto no no aspetta la frana per non ballare per non ballare della frana c'è il sindaco di Castelluno Cilento eh Ross sei in diretta un applauso da parte mia allora sono iniziati i festeggiamenti un attimo solo possiamo festeggiare allora mentre ci sta raggiungendo nel studio anche l'onorevole Simone Valiante festeggiamo insieme a lei complimenti sindaco allora una vittoria sofferta dura dura una battaglia dura una battaglia dura aspera molto aspera proprio vinto ha vinto la bella politica la politica bella la politica del fare costruttiva che non va su personale la politica ma davanti siamo andati troppo avanti per tornare indietro qua Castelluno molto avanti il popolo l'ha capito ha vinto la speranza ha vinto la speranza Carmela ha vinto la speranza contro la cattivere contro la rabbia ha vinto la speranza fin da conto fino a 323 sono i commenti a caldo è perciò benissimo allora è stata una vittoria sofferta queste sono le parole di una liberazione non parlare un attimo solo ci sono i festeggiamenti pochi d'artificio è meglio per la tua involuzione un attimo solo perché c'è Renzo qui che non mi dà pace allora Eros ti facciamo festeggiare ti lasciamo festeggiare ti lasciamo festeggiare buon festeggiamento ci sentiamo dopo ci sentiamo dopo grazie mille tutti i nostri ospiti grazie grazie il sindaco stava festeggiando si stava allargando un po' commento a caldo espressioni di gioia Renzo espressioni di gioia allora intanto salutiamo buonasera è una brava persona quindi salutiamo volevo solo dire una cosa a proposito mentre ci sta raggiungendo mi voglio spostare sull'aspetto dei sindaci il ruolo che ha detto giustamente Renzo perché la comunità deve essere unita quindi il mio appello e l'augurio a tutti i sindaci eletti e confermati che ci sia una diciamo una via di uscita dove il campanile oppure le vecchie guerre le vecchie fazioni diventino un'unica cosa come ha detto prima Renzo in maniera brillante a Maria uno deve essere il sindaco di tutti quindi da domani il territorio dovrà unirsi per partire un discorso diciamo di sinergia ma deve essere così quando finisce una competizione elettorale c'è sempre un po' di strascio ma deve rimanere lì l'assessore vuole andare via quindi se volevi fare un saluto particolare abbiamo messo un po' in difficoltà tra virgolette vabbè le difficoltà ci sono le affrontiamo insieme come vi ho detto volevo fare un riferimento al problema di pisciotta io l'ho aperto pisciotta perché è importantissimo col dottore Motoni ci siamo sentiti spesso e volentieri sulla problematica di pisciotta noi come provincia abbiamo affrontato il problema delle strade di accesso a pisciotta che pure non sono in buone condizioni sia la pisciotta Palinuro dove c'è un finanziamento di circa 300 mila euro poi c'è la pisciotta Rodio Ceraso Pisciotta Rodio Ascea più o meno sono circa un milione 450 mila euro come sapete c'è stata la discussione con il sindaco non abbiamo ritenuto investire più sul rizzico perché sul rizzico si spendevano circa 200 mila e la strada non riaprirà più? no aspettate da parte della provincia non abbiamo ritenuto investire 200 mila euro all'anno ma la situazione è peggiorata dalle relazioni che sono pervenute all'ufficio tecnico da parte del geologo della provincia però stiamo portando avanti il discorso quando arriveremo a Palinù via Pisciotta? noi stiamo portando avanti il discorso con la regione per il trasferimento delle competenze al comune di Pisciotta che siamo in attesa del parere dell'avvocatura perché il comune di Pisciotta si vuole prendere la gestione di Rizzico va bene avete sentito quindi sta tutto a voi senza soldi no senza soldi ma la bocciatura il non voto suggerito dal dottor Massicano e il voto dei cilentari a bocciatura netta alla provincia va bene non lo lasciamo così perché l'assessore è un po' vabbè ci mancherebbe altro devo concludere anche io volevo salutare anche io perché devo scappare pure io allora innanzitutto un applauso all'assessore perché in un momento difficile a Pisciotta la gente è arrabbiata molto molto arrabbiata giustamente sono 30 anni che ci portiamo dietro questa croce ha avuto il coraggio di venire lì sulla frana e di dire come stavano le cose abbiamo ascoltato anche le parole di stima di affetto il discorso rizzico è complicatissimo io chiudo ringraziando ancora una volta voi ancora una volta avete dato la voce attraverso me ma tante altre volte alla gente e spero che l'invito che abbiamo fatto questa volta a non voto possa essere la prossima volta un invito convinto alla nostra parte elettorale al nostro credo politico grazie ancora caro Renzo con l'elezione di Castelnuovo di La Maida praticamente abbiamo solo tre comuni in bilito che sono Montano Antilia con Alberto Del Gaudio e Pietro Forte possiamo informarci subito su Montano Salento esatto con Scarpa e Gabriele De Marche e poi abbiamo Ascena sarà finita però non riusciamo a contattare i due candidati sindaci in pratica diamo subito la parola all'onorevole Simone Valiante questo risultato buonasera intanto fin qua abbiamo raccolto molte testimonianze adesso però non c'è par condizio perché è tutto PD qua no no ecco è il PD che ha stravinto queste elezioni europee e dà un questo Renzi che dà speranza a tutti a tutti che ha sconfitto il mostro tra virgolette di Grillo infatti c'erano anche gli amici dei 5 Stelle che chiaramente provocatoriamente ho detto delle cose ma non erano riferiti a loro assolutamente che sono l'ultimo ruolo del carro sappiamo benissimo come è gestito il 5 Stelle che ci può dire adesso con questa grande responsabilità che c'ha Renzi che adesso giustamente avete un onere pesante la gente vi ha votato quindi che vi aspetta un duro lavoro sicuramente quindi bisogna fare bisogna dare delle risposte alla gente per evitare quello che diceva anche il dottore Marsicano che ci sia un non-voto che sta serpeggiando che si possa fare in modo che il 5 Stelle non esista più perché solo così con dando delle risposte concrete il PD può sicuramente ribaltare le situazioni poi ci sono regionali che sono vicinissime quindi l'onere va a voi soprattutto voi politici che state sul territorio è così territorio che voi dovete fare il trade union con il governo centrale cosa importante quindi che ci può dire l'onorevole Valiante ma la premessa che condivido in pieno l'hai già fatta tu nel senso che il risultato responsabilizza a questo punto l'azione di governo perché va ben al di sopra di ogni aspettativa e anche la DC dei migliori periodi ricorda risultati di questo tipo evidentemente è una grande prova di fiducia che ovviamente attende anche delle risposte importanti però io mi sento di dire che è anche un riconoscimento anche ad una parte di lavoro già fatto perché alcuni segnali positivi da questa azione di governo sono già arrivati anche un certo dinamismo una certa grinta nell'affrontare i problemi io chiacchierando con tanti amici in questi giorni ho detto di Rezzi apprezzo soprattutto questa sua voglia anche un buon giovane di smuovere gli interessi che stanno in questo paese io mi sono reso conto anche in questo anno presso poco di attività parlamentare che questo paese è ingessato da tante piccole lobby gruppi di interessi che spingono dietro la politica molte volte per non cambiare le cose anche pezzi di giornalismo puntate di report che si inventano storie di vent'anni fa tre giorni prima della lezione guarda caso c'è stato secondo me anche un tentativo sottile di aiutare Grillo da questo punto di vista quando Rezzi ha attaccato non ha attaccato per carità ha detto visto che fanno tutti quanti sacrifici in Italia magari anche un po' la RAI potrebbe farli per aiutare ecco collegamento telefonico il neo eletto sindaco di San Mauro Cilento Carlo Pisacane auguri Carlo grazie 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 a tutti voi da San Mauro Cilento arriva un po' un risultato a sorpresa perché a dirla tutta sinceramente non molti ci aspettavamo questo risultato con il tuo sfidante Giuseppe Cilento che veniva da cinque anni di governance questo sì però noi comunque qua nel paese ce l'aspettavamo un risultato del genere già ci ha fatto un po' di tempo quest'area perché per vari motivi un ricambio generazionale insomma tu sei giovane un motivo un motivo soltanto dei vari motivi un motivo sindaco allora perché secondo lei principalmente questa voglia di rinnovamento da parte della comunità locale perché si sta rinnovando un po' di più dappertutto noi lo vediamo già a livello nazionale questo è successo pure in quarta a Mauro Cilento semplicissimo quale sarà la sua prima azione dell'attività amministrativa ma ci stiamo pensando che sono vari i punti del nostro programma importantissimi e fondamentali diciamo se non oltre voi siamo parlo di tagli la nostra spiaggia perché mezza torre Marina di San Mauro Cilento non è proprio conosciuta tutta la fascia costiera che parte da Montecorice Piuttica San Belino tutta bandiera blu San Mauro Cilento che il 6 e mezzo non ha ancora la bandiera blu nonostante noi siamo a merito che è pulitissimo come ce l'ha come ce l'hanno tutti i paesi in quei confinanti vuole approfittare della presenza e studio dell'onorevole Simone Valiante per qualche richiesta domanda auguri auguri a te c'è la notizia dell'ultimo si è ribaltata la situazione 12 voti avanti l'avvocato De Marco ma sono chiusi? no mancano 200 ancora no veramente è una bella volta quindi 5 voti in più 12 adesso in meno quindi se la stanno se la stanno dando come si sapeva poi si sapeva si 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 sapeva già si sapeva certamente era una cosa l'onorevole valente sarà informato anche un po' sul risultato delle elezioni amministrative qualche bocciatura eclatante c'è stata qualche sorpresa una potrebbe arrivare anche da Ascea come analizza questo risultato per le amministrative sul territorio occidentano? c'è un dato molto locale come sempre capita spesso le liste sono miste diciamo nei paesi però c'è un certo trend di centrosinistra che è comunque prevalente anche a livello di competizione locale adesso aspettiamo quei due o tre comuni che dicevate pure voi sono in bilico perché anche lì ci sono delle posizioni quello che non ce l'ha fatta il sindaco uscente ce ne faremo una ragione da 15 anni che è successo? dopo 15 anni un cambio come dire naturale in Bulgaria invece sì anche in generazione in Bulgaria c'è un giovane bravo Nicola Cammanano adesso speriamo di poter collaborare il sindaco federale avrà fatto i suoi errori e li avrà pagati io non sono stato anche in parte vittima diciamo in questi mesi però come dire il mondo è bello perché la libertà di voto quando si è la certezza ce l'abbiamo sempre a cuccaro perciò ho detto in bucana sì quindi non era casuato al di là delle poi delle battute io credo che queste elezioni anche con le dovute proporzioni ovviamente parliamo di dimensioni europee credo che credo che abbiano dato anche dei significati e secondo me ripeto il concetto di prima la politica deve in questo momento storico saper cavalcare l'onda e riconoscere effettivamente che è in atto un percorso storico un percorso di rinnovamento questo percorso va assolutamente secondo me individuato quindi magari con gli addetti ai lavori insomma i dirigenti di partito secondo me l'analisi deve essere fatta soprattutto nell'interno perché non avrebbe senso un PD a doppia velocità deve esistere un unico PD che possa interpretare le istanze locali andandole a diciamo così uniformale a livello a livello nazionale voglio fare una domanda siccome c'è stata una fase in cui lei sosteneva Bersani vediamoci chiaro senza adesso Renzi oramai è il deus ex machina della centrosinistra le cose sono cambiate quindi deve essere anche un rinnovamento nei vostri quadri presumo cioè secondo me bisogna un po' abbandonare il vecchio e dare ai giovani la possibilità come l'ha fatto in specie a Ballo della Lucania abbiamo dei ragazzi giovani prima c'era pure Bruno che sta nella segreteria provinciale quindi come si può da lei nei confronti di quello che è stato il PD di una volta e nei confronti di questo quindi piace un cambiamento cioè noi siamo in attesa abbiamo dato anche disponibilità al segretario per riaprire dopo l'elezione europea appunto nella gestione del partito una fase di collaborazione di lavoro comune credo che questo risultato che lo legittima in pieno a questo punto io mi auguro possa anche facilitare questo percorso poi aspetta soprattutto adesso il segretario capire se ha bisogno di tutte quindi anche di noi noi siamo disponibili ad aprire insieme questa fase tu sai ho avuto un'esperienza diciamo di governo del partito perciò il segretario dopo il segretario Pifani poi dopo al nuovo congresso mi è sembrato giusto seguire una linea anche che avevo condiviso insieme a Cuglielmo Pifani ed altri amici Beppe Fiorone insomma adesso siamo tutti lì vicino al segretario perché voglio dire la forza del nostro partito è anche questa bisogna essere qui deve essere un partito dove posizioni diverse si incontrano dove c'è un dibattito democratico però dove c'è anche il riconoscimento poi di chi vince di chi guida un percorso no ma io ha vinto il congresso e ha vinto alla grande elezione no io lo voglio dire in prospettiva allora merita questo lavoro ovviamente lo sporgi se qualche sindaco è stato bocciato abbiamo Cono Delia che per il terzo mandato consecutivo è riuscito ad avere il consenso degli elettori è salvato per il nostro emendamento abbiamo in studio l'onorevole Simone Valiante che dice le sta facendo i complimenti ti sei salvato con l'emendamento del terzo mandato grazie Simone è un figlio è un contributo importante con ma è un'emendamento tutto mandato per cui scherze auguri ecco all'amicizia sostegna che non è mai venuto meno grazie Simone allora premiato per il lavoro fatto soprattutto per il lavoro fatto penso credo di sì credo che quello che stiamo cercando di fare insieme con un gruppo di amici comincia a dare dei risultati importanti però come io dico ancora siamo ancora all'anno zero bisogna andare ancora molto sempre una logica anche di coinvolgimento del territorio perché io sono sempre dell'idea tu sai bene Carmela che da sole non ci va da nessuna parte insieme forse probabilmente dei risultati li possiamo ottenere non basta solo essere corretti oggi nelle amministrazioni perché abbiamo anche delle esperienze e questo a me li piace molto Pietro D'Angelo un ottimo amministratore che non è stato più deletto anche qui Rofrano Viterale lo stesso San Mauro Cilento lo stesso ci sono state delle bocciature perciò le dicevo per lei deve essere motivo di orgoglio in più essere stato riconformato per la terza volta Sì io sono entusiasmato soprattutto dalla risposta della mia comunità per cui Ecco puoi darci dei dati per quanti voti ha avuto la meglio insomma 100 credo 110 voti quindi una bella affermazione No no è stata un'affermazione importante per cui anche in una campagna elettorale molto corretta quindi credo che sicuramente oggi da oggi dobbiamo per i prossimi 5 anni continuare a lavorare cercando anche di dare delle risposte importanti a chi oggi ci ha accreditato di questo ulteriore consenso quindi grazie a io voglio intanto anche un po' a tutto il territorio che continua ad avere degli attestati di stima nei confronti miei personali ma di tutto il gruppo e del nostro comune quindi grazie anche a loro a tutti quelli che mi incoraggiano tutti i giorni a continuare e grazie chiaramente anche a voi a Represente a tutta la Stato che ci avvicini perché anche sotto questo aspetto noi piccoli amministratori abbiamo bisogno anche di queste cose che per noi sono importanti grazie stavo facendo un ragionamento con l'onorevole Valiante perché è importante un appuntamento importante sarà fra un anno sono le regionali ma secondo me succederà qualcosa nei quadri generali state pensando perché sarà parliamoci gioco forza con Renzi i quadri devono cambiare perché Renzi io lo dicevo prima ieri sera è stato bellissimo abbiamo visto dei ministri delle giovani ragazzi e no voglio dire nel senso che i nomi voglio che vi risponda non lo vuole dire perché giustamente lui occupa una posizione di gioventù ma anche di un passato facciamo rispondere prima l'onorevole io stavo dicendo che noi abbiamo già ragionato con il segretario prima delle elezioni sulla possibilità di costruire una posizione collegiale nel governo del partito più ampia ovviamente ci eravamo dati appuntamento dopo le elezioni e se il segretario vuole noi siamo disponibili anche di entrare in segreteria e dare una mano nella gestione del partito io credo che questo risultato così importante adesso per lui sia una grande responsabilità nei confronti degli italiani come dicevamo prima ma anche adesso nella capacità di consolidare una posizione e voglio dire le elezioni in altri paesi europei ci insegnano come oggi l'esperienza di governo in generale sia molto difficile rispetto all'opinione pubblica e per i tanti problemi la crisi che ha vissuto la crisi economica dell'Europa e anche la crisi istituzionale del ruolo dell'Europa che hanno pagato tanti governi in tanti paesi europei anche governi di centro-sinistra quindi adesso la sfida di Renzi più difficile sarà quella di consolidare e mantenere un patrimonio così importante come quello di un risultato al 41% ovviamente se lui questo lo vuole fare condividendo anche la gestione del partito gli abbiamo dato già ampia disponibilità per avviare un percorso perché credo che a questo punto ci sia bisogno anche del contributo e tutti sono convinto conoscendo una persona intelligente questo lo capirà lo capirà anche per il futuro quindi noi siamo lì siamo pronti bene vorrei aggiungere a questo quadro anche per dire questa novità da parte di Renzi però io quando un partito arriva al 42% è importante ma deve anche svolgere un ruolo come diceva appunto Simone di collegialità perché io quello che ho notato in questi ultimi tempi quando tu giustamente hai parlato di classe dirigente da cambiare e attenzione perché anche se i voti sono arrivati in maniera esplicita verso Renzi il quadro non è che possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca e mi riferisco anche a una classe dirigente che seppur vecchia tra virgolette ha dato il contributo sia in questa campagna elettorale perché non è che ci dimentichiamo che la Sud Gianni Pittella che al suo quarto mandato non so come si è arrivato al quarto mandato e dobbiamo spiegare che ha combattuto Renzi alla guida ha preso più voti di tutti quindi attenzione quando diciamo che Renzi giustamente vuol far mettere la sua classe dirigente perché non è che si può escludere a priori un'altra no no perché tu hai parlato è un linguaggio un po' diverso Renzo ti interromo perché abbiamo andiamo a bello sguardo perché andiamo in collegamento con noi il neoletto sindaco parente riconfermato sindaco allora una riconferma importante la popolazione la premia per un operato che in questi cinque anni quindi significa che ha lavorato bene a favore della comunità abbiamo avuto una conferma straordinaria che è stato riconosciuto il lavoro fatto e c'è un impegno a lavorare affinché questa comunicazione è sempre più coesa e sempre più unita perché è l'unico modo dei piccoli centri per poter ascoltare le tante emergenti che noi abbiamo di fronte a noi da questa posizione siamo abbastanza soddisfatti a questa posizione è stato soddisfatti che viene l'emergenza sui difiuti che dobbiamo evitare che diventa effettivamente emergenti abbiamo i testi idrogeologici abbiamo l'acquisizione di una normativa smella per quanto riguarda le autorizzazioni palisaggistiche nel parco da qui nasce una struttura di opportunità di lavoro e quindi anche soprattutto risposta ai giovani ai ragazzi che si fa di quanto la formazione sono emergenze di soldi che man mano che passiamo si possono sovragramare se non interveniamo immediatamente e con convinzione ecco allora vuole approfittare anche lei della presenza dell'onorevole variante per fare qualche richiesta particolare c'è più approfitto io della sponda che mi dai sicuro l'emergenza del territorio le conosce benissimo la zona perché è stata un amministratore attenta ma perché intorno a qui ci continuano con gli amministratori quindi le cose da fare sono ben note e quindi ci sta anche lavorando approfitto di questa questione che dicevi grazie approfitto di questa questione che dicevi perché come sai continua la nostra battaglia sulle questioni delle autorizzazioni paesaggistiche io sto tentando da un anno su diversi provvedimenti di far passare un emendamento sull'eliminazione del doppio vincolo nelle aree parco dove ci sono i parchi nazionali per me non ha ragione che ci sia la sovrendendenza e io anche su questo ho chiesto una mano a Renzi perché Renzi sta facendo un decreto importante come sai quello della semplificazione dell'APA come è arrivata questa norma l'attenzione del suo ufficio sono messi addosso tutti questi matusalemme che teniamo nei ministeri dei beni culturali sovrendendenza ovviamente anche quello è un modo per tentare di fermare il cambiamento per questo dicevo io mi auguro veramente che lui abbia la forza di andare fino in fondo perché so che cosa significa combattere quotidianamente con le burocrazie ministeriali enti sotto enti quindi spero che si continui i comprovvedimenti che dino un segnale chiaro all'esterno insomma noi andiamo avanti su questa battaglia sperando ecco di trovare anche lì lo sforzo collegiare del governo e del partito su queste iniziative auguri grazie sindaco grazie ancora e auguri grazie pesca che cosa non ci convince no 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 vince tutto due cose però il dato ovviamente nazionale è quello ha vinto il PD dentro il PD ha vinto Renzi ha vinto quest'idea di cambiamento e ovviamente saranno poi le elezioni future a dire se effettivamente questo cambiamento ha per quanto riguarda invece quello amministrativo c'è da sottolineare questo una volta chi era in carica aveva si diceva nelle elezioni un vantaggio netto rispetto a chi rincorreva questo ormai non c'è più i pochi fondi con cui i comuni devono combattere quotidianamente proprio perché pochi chi li amministra viene vagliato dall'elettore e se l'amministratore è capace di investirli in un certo modo il cittadino lo rivota chi invece non avendo più a disposizione un malloppo tra virgolette grande ma inferiore rispetto al passato e lo amministra in un modo sbagliato viene stromesso questo credo che sia il messaggio che viene da questa elezione amministrativa si preme ma questo dice lunga sul fatto che non c'è semplicemente un voto di protesta ma di analisi i cittadini ormai analizzano bene come si amministra e su questa analisi non voglio dare ragione ci sono neanche i fondi purtroppo ma proprio perché pochi abbiamo in collegamento telefonico Agnilo Caputo neosindaco di Futani sindaco auguri beh ce l'abbiamo fatta abbiamo aspettato un anno però ce l'abbiamo fatta abbiamo qualche problema di collegamento abbiamo fatto a collegarsi ma a parlare molto difficile pronto? pronto? è caduta la linea diceva questo è il messaggio di questa elezione ormai il cittadino vaglia bene come si amministra un determinato territorio come si amministra un comune e a seconda di quel poco che si ha a disposizione viene si danno le risposte quindi si rilegge o non si rilegge in base a come si amministra però in passato scusami se ti interrompo Riccardo avevano avevano a disposizione un qualcosa in più per cui anche se si amministrava male avendolo in più bene o male si riusciva a far condenza invece adesso sono pochi Montano ci manca su 200 schede Salento e Ascea Ascea ancora parlo di 700 schede Marco come si riusciva per lasciarvi Gio che il sindaco festeggiamento in corso concludendo in questo modo continua l'azione di governo speriamo di dare una mano a Renzi al paese ma l'unica volevo dire prima che vada via una cosa importante che tu scusa perché visto che qui da molti sindi stiamo chiedendo a parte il fatto di tutte quelle cose che lui già conosce un altro provvedimento che aveva già messo in cacere Renzi è quello dei debiti della pubblica amministrazione perché i comuni soprattutto Sindaco sono Antonio un credito con la regione fino a 300-500 mila euro significa che hanno fatto già un esborso di 500 mila euro e altrimenti liquidità non ce n'è tutte le imprese i creditori ci stanno addosso e quindi come si può amministrare io penso che anche questo sia stato un danno per molti amministratori visto come diceva prima Antonio con questo versante noi stiamo continuando sul discorso dei pagamenti dei debiti della Pia ovviamente il processo è lento perché c'è il trasferimento alle regioni il limite del fatto di stabilità però dal punto di vista governativo si cammina a una velocità abbastanza forte ovviamente in regione noi scontiamo delle difficoltà enormi le scontiamo anche in questo campo come le stiamo scontando sulla questione della metanizzazione perché mentre il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Tesoro hanno liberato già ampiamente le risorse sulla quota regionale stiamo ancora combattendo con i vari funzionari non ero fortunato prima ha detto che arrivano un sacco di soldi qua ma due mesi tre mesi siccome non è che l'hanno trovato loro gliel'ha dato il Ministero dello Sviluppo Economico se almeno ci consentono di spendere con il Ministero dello Sviluppo Economico siamo contenti speriamo che andrà bene voglio dire però anche questo adesso ci aspetto un lavoro duro per confermare questo risultato ma noi siamo già pronti a batterci per il prossimo anno come dicevi tu perché per noi le elezioni regionali per quello che è successo in questi quattro anni alla Regione sono fondamentali perché quello che ricordava anche Antonio sulla questione dei fondi ai comuni si ripercuote in maniera seria sui fondi strutturali se vi ricordate quattro anni fa Caldoro aveva detto blocchiamo la programmazione dei fondi comunitari dobbiamo fare grandi progetti il risultato di questi grandi progetti è che siamo stati fermi quattro anni senza spendere un euro mi auguro che questo l'abbia detto l'onorevole Fortunato che ovviamente a sei mesi alla elezione adesso cercano di sollecitare la spesa però abbiamo perso nel frattempo quattro anni e adesso chiedono ai comuni ai progetti perché devono spendere i soldi quindi è esattamente quello che si poteva fare quattro anni fa costruendo a questo punto opportunità però noi siamo pronti anche su questa sfida anche i risultati della campagna se sono un po' più bassi di altre parti d'Italia però ci fanno ben sperare e credo che a questo punto dovremo lavorare da subito per elezioni regionali un'ultima nota sulle emergenze territoriali chiudo qui io mi auguro che adesso comincino ad arrivare dei fondi pure alla regione però questo territorio negli ultimi anni sta scontando delle pene enormi sul versante della viabilità della sanità io rispondo quotidianamente ai cittadini del mio lavoro lo voglio continuare a fare anche chi qualche volta ovviamente me lo chiede arrabbiato rispetto ai problemi della viabilità Riccardo sa anche rispetto alla loro iniziativa l'impegno che stiamo portando avanti col ministero ma il ministero c'entra fino a un certo punto io però voglio dire questo a tutti i cittadini arrabbiati lo dico con chiarezza perché le responsabilità vanno distinte non siamo tutti responsabili lo stesso modo ognuno è responsabile le cose che fa allora io dico quando noi abbiamo amministrato provincia e regione le strade le abbiamo aperte non le abbiamo chiusi questo è un dato di fatto quindi io mi auguro che almeno a sei mesi la provincia e la regione si svegliano per affrontare in maniera determinata le gravi emergenze che sono maturate in questi anni anche sulla gestione della sanità come tu sai dove abbiamo sentito di tutti i colori negli anni scorsi però noi l'ospedale anche lì le aprivamo non le chiudevamo le nomine dei dirigenti le facevano pure le faceva pure il centro-sinistra come giusto che sia quando si come è non le faceva solo il centro-sinistra però noi non barattavamo le nomine di qualche direttore con la salute della persona con la funzionalità della struttura e qui ci sono dirigenti compiacenti nelle aziende sanitarie che stanno in silenzio per non farsi cacciare mentre i servizi si perdono e non si battono per la tutela dei servizi dei nostri ospedali e delle nostre strutture questo è un messaggio chiaro che voglio dare perché siamo tutti quanti responsabili di qualcosa per far funzionare meglio questo territorio e noi ci prepariamo all'elezione del prossimo anno sapendo che su questi temi ritorneremo a testa alta rispetto a quello che abbiamo fatto in passato e a quello che vogliamo soprattutto fare per il futuro alcuni risultati e anche di alcuni partiti del centro-destra che in questo territorio sono molto influenti dimostrano molto spesso che il governo se non produce risultati come dicevato pure prima perde però se il governo produce risultati come capita ai sindaci che vengono riconfermati evidentemente dà anche dei risultati sperati quindi un ospicio è una battaglia che si aspetta per il prossimo anno va bene ringraziamo e salutiamo l'onorevoli marianti facciamo un attimo il resoconto della situazione delle singole amministrazioni comunali intanto dovrebbe raggiungerci il sindaco di Vallo se riusciamo con lui a salutare i nostri telespettatori abbiamo nuovamente in linea con noi il collega del mattino Pasquale Sorrentino che sta sedendo i comuni del Vallo di Diano Pasquale ci puoi ricapitolare la situazione a questo punto della giornata nei vari comuni chiamati al voto allora di nuovo buonasera a tutti naturalmente rispetto al collegamento di prima non ci sono novità a livello di scelte ripeto le due sorprese più grandi sono arrivano da Santassegno dove Antonio Coiro ha vinto la tornata elettorale battendo la lista del PD e da Tecciano dove Rocco Cimino ha battuto la lista della maggioranza scende con oltre 700 voti di differenza queste sono le due più grandi sorprese per quanto riguarda invece Sala Consilina che è il paese capofile del Vallo di Diano l'assessore ecco l'assessore Cavallone guidava la lista della maggioranza e ha vinto con un buon margine di differenza rispetto al gruppo positivo di Antonio Santarsie questi sono più o meno gli eventi più importanti nel Vallo di Diano ecco ma sono già stati chiusi i seggi o ancora noi? lo spoglio è finito? allora Santarsie è finito Fassale è ancora in corso Parvezza è ancora in corso ancora sono pochi quelli terminati Caggiano è terminato però l'orientamento è questo l'orientamento è questo ve lo do per certo non c'è nessuna situazione in Bili nonostante ancora non sono tutti terminati a Caggiano è terminato qualche istante prima che mi chiamate voi Giovanni Caggiano è stato confermato sindaco così come a Casalbuono a Tiri Romano per il terzo mandato sarà sindaco di Casalbuono e anche questo dato è in staff concludersi è definitivo grazie Pasquale gentilissimo e buon lavoro buon lavoro a voi grazie allora quindi non è vero che i cittadini cambiano se un sindaco lavora bene per il terzo ecco qui c'è un altro sindaco siamo più lucidi più tranquilli giusto i più grandi del nostro territorio non a caso sono se guardiamo bene attentamente non me ne vogliano gli amici di Cicea e di Teggiano in cui va tutta la mia stima sia i nuovi sia quelli vecchi sono i due comuni più grandi più importanti e poi c'è anche un dato se uno guarda un po' a ritroso ogni dieci anni è cambiata l'amministrazione in questi piccoli comuni un po' più grandi rispetto alla nostra normalità noi parliamo di sconvitta di Ascea ma non ci dimentichiamo che Ascea il sindaco non era più commissario non era più no non era nemmeno più tra i candidati è la stessa cosa dell'amico Candia di Teggiano che non aveva più la possibilità di fare il terzo mandato cosa che io ritengo lo dico qui che forse anche può andare a mio svantaggio perché io ne sono contrario al terzo mandato anzi dirò di più non è che sono solo contrario al terzo mandato ma sono contrario anche alla ricandidatura nel consiglio perché questo impedisce se noi guardiamo attentamente tutte cominciando io forse ho stato il capo stibile di questa situazione che si è creata nei comuni se lei guarda bene tutte le analisi di voto in tutti i comuni del Cilento si è arrivati sempre tra sindaco vice sindaco sono tutte battaglie che hanno un percorso comune quindi quando mi si viene a dire che uno dice io sono stato non ho avuto questo ma io ero vice sindaco non ho mai però detto che io ero diciamo non ero responsabile mi sono sempre assunto la responsabilità quindi quando si parla di cambiamento caro Renzo è una parola molto grande che non sindaco due o tre mandati che siano non potrà più vita natural durante ricandidarsi al sindaco non basta stare in stand by per un mandato fermato c'è differenza tra cambiamento e innovazione o rinnovamento cambiamento si può cambiare anche in peggio per cui io credo che quello che la politica deve sapere interpretare e guardare avanti è proprio le istanze ultime dei cittadini oggi il cittadino non ti perdona te amministratore se tu anziché produrre delle condizioni di sviluppo crei invece situazioni clienterali che sfruttano lo stato di bisogno questo è il discorso allora io sono d'accordo con il terzo mandato oppure con ipotesi insomma istituzionali ma io perdonate mi interrompo un istante abbiamo la collega Maria Rosaria Battagliese che ci aggiorna su Ascea allora Maria Rosaria qual è la situazione? allora Carmela attualmente mancano circa 760 schede e la situazione è un po' ancora rimane quella là di cui vi ho parlato in precedenza cioè che il numero totale ora vi dico i voti totali sulle schede già scrutinante per la lista numero 1 candidato sindaco Antonio Criscuolo 1050 per la lista numero 2 candidato sindaco Antonio Criscuolo 1070 quindi un leggero vantaggio per Antonio però c'è quella di Pietro che è in testa abbiamo perso il collegamento ma la Rosaria ti sentiamo a basso va beh non è cambiato nulla sì dobbiamo richiamare perché il collegamento non va bene piuttosto abbiamo notizia nuova da Montano del Gaudi avanti di 50 voti e mancano quante schede poche schede ancora da scrutinare quindi Alberto del Gaudi dovrebbe essere stato riconfermato mentre ripristiamo il collegamento con Maria Rosaria Battagliese mancano ancora 700 schede salutiamo il sindaco di Vallo della Lucania Tonia la sindaco l'hanno preceduto tantissimi ospiti un bel dibattito anche non sono sulle elezioni amministrative europee ma soprattutto sull'emergenza sulle problematiche territoriali allora le chiediamo subito un commento a caldo sul risultato non solo dell'europea ma anche delle elezioni amministrative sono state molte bocciature sindaci non riconfermati mentre altri sono stati addirittura riconfermati per il terzo mandato consecutivo non tantissimi però i trattanti dove dovevamo per scontata la vittoria allora lei è un sindaco secondo lei che cosa può fare innanzitutto rivolgo gli auguri a tutti i neo eletti e a chi è stato riconfermato perché oggi non è sempre cioè si è riconfermato insieme a Antonio Muro facciamo un po' il riepilogo così informiamo anche il sindaco la voglia su chi è stato riconfermato ecco evidentemente non lo sa reale non tutti non lo sa reale con la riconferma di Giuseppe Parenti a Caggiano conferma anche per Giovanni Caggiano a Campora Giuseppe Vitale a Casalbuono Attilio Romano Casella Impittari Maurizio Tancredi a Cicerale conferma anche in questo caso per Francesco Carpinelli a Cuccaro Vetere Aldo Luongo a Futani invece abbiamo detto Agnello Caputo a Gioi vittoria per Andrea Salati anche qui riconferma per Assalati a Giungano terzo mandato per Francesco Palumbo a Laureana vince Angelo Serra anche in questo caso si tratta di una riconferma a Maiano Vetere anche qui una riconferma quella di Carmine D'Alessandro poi abbiamo Morigerati con Cono De Lia rieletto sindaco a Montano Antilio in leggero vantaggio del Gaudio e staremo a vedere cosa succede insomma da qui alla fine a Novivelia ha vinto Maria Ricchiuti a Domignano Emanuele Giancarlo Malatesta adottati Edoardo Doddato a Rofrano Nicola Camarano che la spunta su Viterale poi a Salento c'è una bella lotta tra Gianfranco Scarpa e De Marco a San Mauro Cilento vince Carlo Pisacane poi abbiamo a Sant'Arsenio le elezioni di Antonio Coiro a Tegiano di Rocco Cimino a Torchiara Massimo Farro Torri Orsai a Pietro Cimino a Torraca invece vince Francesco Bianco a Valle dell'Angelo Angelo Iannuzzi sono 16-17 riconferme quindi non sono poche sono 16-17 per il terzo mandato ha detto la terza proprio promozione in pieno Pietro Delia Sarà qualcuno Giulia Vendo Palumbo Vendo Palumbo anche con un il terzo mandato a me ce l'ha ti sta preparando ti sta preparando al terzo mandato a me ce l'ha ho fatto una premessa due le a sei sono contro il terzo mandato qualcuno ha detto di essere contro anche i medici che si candidano allora abbiamo chi è stato non è sottoscritto c'è stato un po' bel dialogo su questo un dottore ha detto che aveva ragione ma lui non era sindaco però ha detto che aveva ragione Nello Marticano è stato oggi è candidato Nello Marticano sì è quello ha detto che aveva ragione e ha la idea che dopo due o tre mandati uno non possa più candidarsi al sindaco vita natural durante nemmeno dopo essere stato ma questo non mi sembra troppo in verità ma non riesco a capire perché questa libertà questa voglio dire questo non accadimento ma io credo che chiudersi nei recinti delle regole in questo modo così brutale secondo me non è due mandati poi si ci ferma noi volevamo dire forse Tony ha perso quell'attimo noi volevamo dire che i sindaci che finiscono il loro doppio mandato o diplo mandato non possono far parte di una squadra portandosi sui punti perché condiziona anche perché l'esperienza che tu giustamente hai visto anche nei paesi limiti è andata a finire sempre nelle rute interne di attribui interne di carattere diciamo personalistico che non hanno sfociato in un diciamo in un discorso di programmazione perché io adesso anche il mio comune che io faccio la mia comune non è che si fa una programmazione su interventi qual è la scelta migliore che diamo ai nostri concittadini spesso mettiamo in vetrina il nostro carattere il nostro modo di fare ma non il nostro modo di comunicare ma non veramente l'essenza della politica quella di di creare diciamo nuove formule di partecipazione da parte dei cittadini quindi non spesso come diceva prima gli amici che erano presenti non spesso siamo rappresentanti dei cittadini spesso ahimè lo dico siamo forse anche rappresentanti di noi stessi voi per colpe che non non sempre vengono dettate dalla politica ma da situazioni che si vivono nel contesto perché diciamocela tutta forse a valle non succede ma un comune di mille abitanti non è che si può creare alternative io vi dico che Nemita ha visto ero sicuro guarda ero sicurissimo però insomma adesso siamo proprio sicuri al di là di tutto è sempre una grande intelligenza c'è sempre tempo quindi per candidati no sfruttiamo il sindaco e abbiamo che cosa pensa di questa tornata elettorale a livello europeo a livello amministrativo ma penso che il dato è oggettivo ha stravinto Renzi questo è fuori dubbio anche una vittoria storica perché è molto vicino a quella che fu di De Gasperi no? sì il 41% questo è fuori dubbio se l'aspettava lei questa vittoria? me la auguravo che vincesse uno dei due poli in maniera netta fosse un argine netto ai grillini certamente il centrodestra non lo poteva fare quest'argine lo poteva fare per forza Renzi l'ha fatto ben venga perché non lo poteva fare il centrodestra? perché il centrodestra ha perso l'unità deve voglio dire rinnovare la sua deve rinnovare la sua leadership il coraggio che ha avuto il PD perché il PD l'ha fatto questo io sottolineo un'altra cosa poi molte persone hanno votato a prescindere dalle preferenze perché c'è una grosso divario tra preferenze io ho visto i voti non solo di vallo ma un pochino in giro tra preferenze e voto di lista quindi un voto direttamente a Renzi io penso che hanno votato Renzi anche perché hanno visto in Renzi una persona un leader perché di fatto lo è non moderato non di fatto non possono dire che rende di giro mi sembra molto democristiano non è esageratamente rivoluzionale ma non è di destra no no non sto dicendo che è un moderato allora sto dicendo praticamente che è un moderato e che la gente ha premiato questo perché gli italiani votano moderati non voglio dire adesso che è un voto di centra voglio dire salutiamo intanto un altro ospite Mario Pesca ciao Mario ciao abbiamo cambiato quasi il voto e tra l'altro ha fatto una campagna elettorale ha fatto una campagna elettorale molto simile tra virgolette a quella che era quella di Berlusconi all'arrembaggio propositivo e in verità la gente oggi si è stangata di vedere anche il volto dei politici senza speranza che stanno là sì per l'amor di dirlo possono dire qualcosa anche di bello di positivo ma c'è bisogno anche ogni tanto di un sorriso di far capire alla gente che stiamo uscendo da questa situazione Alfan non potrà essere il volto nuovo del centro-destra e purtroppo i numeri in questo momento qua ci dicono che le cose sono da riguardare da rivedere certamente probabilmente alcune scelte sono state sbagliate probabilmente alcune cose vanno ricambiate assolutamente velocemente però questo divario tra preferenze personali diciamo dei candidati è quello che è il voto di lista è lampante dappertutto attiratorezza è chiaro questo è evidente adesso posso fare la cattiva per un istante tra poco darivo la parola anche a Mario Pesca che ci ha raggiunto quindi ritorneremo sullo risultato elettorale posso fare la cattiva consentimi in questi giorni abbiamo ascoltato a distanza ecco approfitto di questa vetrina ti posso interrompere perché abbiamo tra poco ci torniamo tra qualche istante perché anche i nostri telespettatori sono curiosi di sentirvi su questo argomento Nicola Nicola ci puoi aggiornare su quanto sta succedendo a Salento perché è una lotta bella vincente si gioca davvero sul filo dei punti si è vincente guarda io ho sentito proprio pochi minuti fa dice che erano due schede di differenza cioè in pratica Gianfranco Scalpa aveva due schede di vantaggio sull'avvocato e suo avversario De Marcos però c'era stato un attimo perché le frazioni già sono state completate quindi in pratica era la sezione del capoluogo e c'è stata un attimo di pausa evidentemente come avete già detto in trasmissione una di quelle lotte sulla tricide e mancano ancora circa dovrebbero mancare circa 300 schede alla fine ora è tutto aperto si fa la cena più o meno un paio d'ore quindi è tutto aperto una sfida ancora aperta sì 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 ancora la sospensione dovuta dei problemi o ad un dibattito no la sospensione dovuta a stanchette ragazzi con questo caldo una pausa caffè ci stava dai per ristabilire un po' la serenità sì 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 assolutamente anche perché penso che il clima sarà abbastanza teso va bene Nicola grazie Nicola non so se andremo avanti ancora per due sicuramente aggiorneremo i nostri telespettatori sul paletto buon lavoro nel corso del nostro telegiornale domani grazie grazie allora ritorniamo alla nostra domanda non voglio essere cattiva per i nostri telespettatori in questi giorni hanno sentito a distanza parlare il sindaco di Vallo Tonia Loia e il PD di Vallo della Lucania chiedo scusa agli altri ospiti però facciamo chiarezza su questa vicenda indennità del sindaco Tonia Loia proprio oggi ho letto nel telegiornale l'ultimo documento che ha fatto il sindaco che teniva a precisare solo bugie allora chi inizia il PD perché ha avuto l'esigenza solo bugie inizia sì no io ho già detto quello che devo dire caro Renzo Renzo mi dispiace l'ho già detto se il riferimento era alle indennità no no se il riferimento era ad un comunicato del sindaco Loia a precisazione del fatto che non ci fossero momenti dove si scriveva solo bugie da parte del PD facciamo un passo indietro perché il PD ha avuto l'esigenza di intervenire su questa delibera allora il discorso è molto chiaro e va al di là secondo me dei degli opposti colori politici perché secondo me non è nemmeno né il periodo storico né il momento di creare attriti il PD attraverso la mia voce ha soltanto ritenuto evidenziare che il momento storico fosse particolare fosse diciamo così di quelli un po' che avrebbero magari consigliato un po' di prudenza e abbiamo ritenuto che secondo noi l'adeguamento dell'indennità in questo momento storico era inopportuno quindi non abbiamo parlato di aumenti non abbiamo parlato di illegittimità di normativa abbiamo parlato di inopportunità di un adeguamento voi dite di non voler chiare attrito però quello che arriva a noi a noi cittadini siamo cittadini di Vallo un attimo se Lorenzo sembra che invece in questo momento il PD non sta perdendo un momento per non mettere in evidenza quelli che ritiene essere dei momenti di difficoltà oppure di inefficienza da parte dell'amministrazione Aloia poi c'è il sindaco che risponderà però questo è quello che ci arriva a noi sembra che siamo già in campagna elettorale allora se l'amministrazione se l'amministrazione è in difficoltà questo lasciamolo dire no 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 io da cittadino ma no ma il PD io stavo cogliendo l'assist il PD ha soltanto questa velleità di praticamente punzecchiare no ma perché punzecchiare ma io credo che il pensiero l'unico pensiero non è accettabile una democrazia è ovvio che chi governa deve assumere delle scelte e chi invece non è d'accordo deve magari evidenziare quelle che queste scelte non vanno bene non le condivide noi riteniamo avendo guardato quella delibera avendo guardato il dato normativo riteniamo che in questo momento appesantire il bilancio del Comune di Vallo con un adeguamento normativo che non andava non si verificava da anni è una cosa che non andava fatta apprezziamo anche ma questo l'abbiamo saputo dopo perché non era dato saperlo prima di una rinuncia da parte dell'assessore del vice sindaco Marcello Ametrano con una devoluzione che ovviamente andrà fatta con i crismi di legalità apprezziamo che il sindaco di Aloia abbia parzialmente limitato questa rinuncia ma prendiamo atto che comunque si tratta di un appesantimento del bilancio tutto questo e non sono bugie perché la delibera l'hanno fatta loro io avrei in questi giorni avrei invitato il sindaco Aloia ad un pubblico confronto anche con il capo dell'opposizione per parlare di questo perché definire falsità e accusare di menzogne l'altra componente politica ritengo che sia una cosa un po' pesante quando ci sono degli atti delle carte che parlano diamo subito la parola al sindaco però vorrei aggiornare giusto sul dato di Ascea perché mancano 560 schede però ecco lo scenario potrebbe cambiare perché Gidio Criscuolo 1106 voti Antonio Criscuolo 1136 Pietro Gangiolillo 1235 quindi però voglio dire ne mancano 560 Ascea già eletto Pietro Pietro Gangiolillo però c'è il senso ad Ascea Marina che no no qui è tutta Ascea Marina ma c'è stampella no no tutti chiusi no no è chiuso solo Ascea Marina Ascea Marina a Salento sorpassi e controsorpassi adesso mi dicevano che è davanti De Marco nuovamente con 18 voti dobbiamo aspettare la fine ma perché adesso quando le schede mancheranno ci mancavano Marco a 100 schede dalla fine leggero vantaggio quindi se non ci sarà un altro caffè dovremmo farcela sono parecchi allora torniamo alle nostre a questione di casa nostra poi faremo parlare anche Mario allora ma la situazione dell'indemnità è molto semplice perché noi diciamo che sono falsità e menzogna uno innanzitutto precisiamo sono alcuni esponenti del PD non tutti i PD ringraziando il Dio che esprime questo tipo di concetto ma il manifesto l'ho fatto scusami io ti ho fatto parlare voi parlare io mi fermo no 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 assolutamente era soltanto per noi ci sono povero e quindi bisogna precisare innanzitutto questo come un concetto di fondo seconda cosa noi in quella delibera famosa abbiamo ben precisata e proprio esplicita abbiamo dovuto per una questione di normativa adeguare quelle che erano le indennità dell'assessore sindaco e vice sindaco a quella che è un decreto ministeriale del 2000 non mi ricordo adesso il numero dopodiché finisce la delibera dicendo aspetta i singoli amministratori le scelte opportune noi abbiamo fatto tranquillamente le scelte opportune in cui assolutamente non solo non abbiamo aumentato ma addirittura ridotto le spese le competenze devo precisare anche due cose quando si dice che il sindaco si è aumentato di quattro volte l'indennità io non posso non denunciare la bugia anzi è meno male che mi sono fermato lì perché potevo andare oltre come hanno fatto altri colleghi sindaco rispetto a queste denunze che hanno più che altro il volto del populismo per cavalcare le proteste sulla gente però la gente deve sapere una cosa allora quando io dico caro Renzo lo chiedo a te se mi puoi rispondere se io ti dico ti sei aumentata l'indennità vuol dire che nella tua saccuccia ti vengono quattro volte o sbaglio faccio una domanda ecco ok allora se io vado a prendere l'indennità che prendi dopo le rinunze tutte le cose che abbiamo voluto fare va bene eccettando voglio dire di lettera protocollata io prendo all'ordo 800 euro rispetto ai 1200 euro che prendono che prendevano i miei predecessori da Antonio Sanzoni a Romaniello a Cobelles io le ho ridotte a 800 euro le mie indennità non è perché sto dicendo colpevolizzare gli altri perché erano legittime quelle cose adesso spiego perché quindi di questi 800 euro praticamente al netto e mi vergogno pure di dire queste cose arrivano arrivano al sottoscritto non le metto neanche nella mia tasca consentito non ho volendo offendere nessuno faccio una professione che ringraziando Dio mi da tanti voglio dire è inutile che mi voglio bene non penso che 400 euro le prendi 450 euro che io destino destino unicamente alle spese di rappresentanza del comune spese di rappresentanza che la mia amministrazione per questo sono tanti documenti ha ridotto sensibilmente le abbiamo portate a 1000 euro una spese di rappresentante al comune di Valda e Lucano ma ci rendiamo conto che cos'è quando qua basta una settimana 400 euro voglio dire non ti bastano neanche per una settimana per come stiamo lavorando e per quello che stiamo producendo per questo dico che questo è un falso problema e sono bugie perché alla fine di tutte queste alchimie di tutti questi calcoli che ognuno di loro si diverte a fare anche con rabbia e con odio e non c'è bisogno in questa città di tutto questo vabbè vogliamo fare questo dibattito me lo dicevi ti portavo la documentazione non è un problema va bene allora allora non sono lo ribadisco ci sono i numeri i numeri non sono forse i modi di rispondere non sono stati conto nel quale hanno chiesto ti ho capito bene quanto hanno chiesto la bugia ci hanno affinato un manifesto che ce l'ha scritto posso? che ce l'ha scritto? che io l'ho letto mi dispiace di cogliere un'occasione che doveva essere insomma di chiarezza su altre cose ma io dissento da quello che mi dispiace di dire ma per un motivo molto semplice perché il signor fa una premessa e dice noi ci siamo dovuti ad adeguare ad una normativa non è così nessuna legge ti impugna ti faccio una domanda a te risultati mi sono aumentato di quattro volte l'indennità dove l'hai letto? dove è scritto? in quale atto ufficiale? mi devi dire in quale atto ufficiale del comune? ma chi l'ha detto? no l'avete detto sui giornali l'avete dichiarato e sono venuti altri esponenti del PD qua a dichiarare questo mi devi dire dov'è questo? mi devi dire dov'è questo? dov'è questo? io replico questo dov'è scritto questo? allora la legge addirittura noi abbiamo sceso tra quelle che sono le spese di rappresentanti e quelle che sono le spettanze degli amministratori anzi preciso pure un'altra cosa che nei primi tre anni noi abbiamo tagliato drasticamente anche per la poruscita del pazzo anche questo non è vero sindaco allora se lei mi deve far fare la replica io la faccio allora io dico questo la premessa è sbagliata cioè non esiste una legge che ti dice tu ti devi tanto è vero che la legge dà dei parametri e i famosi ex 5 milioni e 400 sono un parametro massimo quindi la legge non ti dice aumentati è la premessa adeguamento si ma la premessa è sbagliata ho detto adeguamento si ma la premessa di dire ci siamo dovuti adeguamento non è vero adeguamento non gli ho detto aumento lo stai dicendo tu adeguamento io penso che non sia il caso di continuare questa cosa lo so io ti rispondo io sono qua a risponderti allora io dico non è che io subisco allora io dico una cosa ti è chiaro questo il mio linguaggio non è un linguaggio ti dico ancora di più a me mi piace questo clima mi piace quindi puoi continuare fino a domani allora Renzo se ce lo consente no 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 non lo consentiamo più perché per l'amore di la politica che vuol però le bugie io non le consento il mio linguaggio io personalmente non percepisco quello che voi dite ok e c'è tanto di chiarazione e il comune non spende di più i cittadini questo lo devono sapere posso fare una domanda 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 un domanda perché l'atteggiamento del segretario del partito democratico di Rivaldo che non è un atteggiamento di rabbia è un atteggiamento di chiarezza i cittadini secondo me devono sapere io faccio una domanda sindaco ufficialmente allora per effetto di questa delibera adottata agli inizi del mese di aprile il bilancio del comune di Rivaldo si è appesantito di no rispetto a quale al giorno prima della delibera sindaco no tu lo devi dire rispetto perché voi state paragonando rispetto a quello che accadeva rispetto ai precedenti e ai bilanci ti dico no assolutamente no è una falsità quella che stai dicendo è una falsità l'amministrazione ha ridotto i costi della politica l'amministrazione li ha ridotti e i cittadini lo devono sapere questa è una bugia allora io faccio io faccio questa però non è una bugia come sono bugie e tutte le altre che avete scritto sui manifesti e in questi giorni vi verranno contestati una alla volta perché è gente il nostro pubblico lo deve sapere perché poi la pazienza ha un limite e lo dico che ha un limite la pazienza ha un limite voi non siete informati su quello che accade in città perché non siete informati perché quando venite a contestare quello che non abbiamo fatto sulla sanità è vergognoso vuol dire che voi non vivete questa città e non sapete neanche che cosa ha fatto questa amministrazione per la sanità pubblica questa è la dimostrazione che io non sono arrabbiato io no io sono arrabbiato te lo dico io che sono arrabbiato facciamo un altro dibattito le bugie hanno le gambe corte e la gente queste cose qua non le considera la politica non è questa noi potremmo fare perché è vergognoso su proposta del segretario del PD che si assume questa responsabilità io credo che un confronto sereno non arrabbiato io sono sereno lo possiamo fare a 7 tv io sono determinato sono determinato in quello che sta dicendo sono bugie perché chi dice quelle cose sulla sanità pubblica dopo quello che ha fatto questa amministrazione è vergognoso la sanità pubblica è vergognoso è vergognoso ne parlavamo è vergognoso chiudiamo ok il sindaco perché io so non è tanto sereno noi oggi noi oggi vorrei sfidare a te stesso a essere ogni giorno sui giornali su delle bugie che mi sono aumentato 4 metri non li ho letti non lo so io ne ho chiesto per celebrare un fatto straordinario non esiste proprio guardate io sono belle ma ho capito però dopo la pazienza ho un limite noi oggi eravamo qua per celebrare ok allora ce ne vediamo un'altra cosa beh chiudiamo per celebrare un fatto straordinario non è un problema io ti rispondo un po' duro su quello che stai dicendo io non vi temo io non vi temo potete fare quello che volete eravamo qui oggi per celebrare un fatto straordinario un'amministrazione che lavora quotidianamente ma quotidianamente è vergognoso quello che avete scritto tanto con esponenti vostri all'interno dell'amministrazione guardate non considerate dopo 33 anni abbiamo messo un piano regolatore su a ballo della luna manca da 33 anni un piano regolatore facciamo la trasmissione sulla comunità allora io volevo celebrare siamo qui per celebrare un dato e non diciamo così aizzarci o litigare su queste cose perché io ritengo una cosa stiamo celebrando per rispetto anche dei insomma degli elettori del PD un fatto fondamentale importantissimo che dopo tanti anni il partito democratico è il primo partito di questa città e te l'ho conosciuto io e questo stiamo celebrando senza arrabbiarsi e allora siccome il PD non lo so il primo partito di Paolo Lucani senza arrabbiarsi è il primo partito che è a gruppo aspetta un attimino però senza arrabbiarsi guardate ma io non riesco a capire ma avete lapidato ma no in questi eventi ma sindaco un attimo no Riccardo mi credo che fai il punista perché non lo sei tanto buon ma non è cucina poco fa mi hanno detto che c'è stato l'ennesimo attacco sulla sull'intennità ma scusate ma lo voglio dire la partita di un sindaco dove arriva consentitemi farete una trasmissione apposta calmente no ma non sull'intennità se voglio bene come è difficile metterli insieme commentiamo sempre a distanza le varie posizioni no ma io adesso io ti ho detto ma io ti ho detto ma un attimo di sanità noi ad Agropoli siamo stati malatticati da quello che sono state scelte scelerate in una regione che ha chiuso quello che è fatto in verità 60 mili ospedali sono stati chiusi in Italia no non sono stati chiusi 60 no è una bugia in termini perché io ho parlato con Caldoro e gli ho detto voi avete salvato la sanità secondo voi solo chiodendo il pronto soccorso ospedale di Agropoli questo noi ho fatto certo non sono stati chiusi e anzi c'è stato riaperto qualche ospedale questo è certo quindi Agropoli sulla sanità ha subito uno scippo enorme che sta succedendo in Forza Italia ma Forza Italia come dire Gravini no sono due sono due gli elementi se parliamo di alliello nazionale alliello nazionale sta pagando quella che è stata una scelta scelerata della politica delle grandi intese fatta da Berlusconi perché io ritengo che i partiti ognuno deve avere una sua posizione fare quelle larghe intese che ha portato poi al governo Letta ha determinato un venire meno di quello che era la politica su cui si montava il centro-destra di Berlusconi questo è stato il primo errore secondo me basilar successivamente a questo errore quando poi Berlusconi che si è reso conto di quello che era stato commesso ha cercato di tirare i remi in barca cercando di uscire dalla maggioranza purtroppo si è trovato con coloro che si erano attaccati alla poltrona e in primis Alfano suo discepolo che l'ha tradita non può certamente e lo dico con certezza ma qualcuno diceva che si erano messi d'accordo assolutamente non c'è stato mai questo accordo tanto è vero che chi è uscito da Forza Italia per formare quel nuovo partito era tutta gente che era attaccata alla poltrona solo i ministri ed alcune persone che dovevano salvaguardare degli interessi loro ecco perché si è tenuto quel governo di Renzi che naturalmente quella stambella che poi ha retto il governo prima di Letta e poi di Renzi ha determinato questo venirmeno degli elettori perché chiaramente gli elettori vogliono avere un dato preciso o sei di maggioranza o sei di opposizione lo stare da una parte dall'altra e fare praticamente la stambella ad una maggioranza di centro-sinistra ha determinato che ha perso tutti i suoi elettori questa è la verità storica per quanto riguarda poi il dato oggettivo se noi andiamo a sommare i voti presi da parte dei Forza Italia con quello del nuovo centro-destra con quello della cioè non è che si arriva ad un risultato disfacente ma comunque il popolo di centro-destra ha retto per quanto riguarda Agropoli noi abbiamo avuto Forza Italia che ha raggiunto circa un 21% di contente ho ascoltato il film oggi telefonicamente 1700 su 3300 è già avuta la campagna elettorale delle regionali no un 21% di voti Forza Italia ha retto ad Agropoli quindi non è che c'è stata proprio una sconfitta il secondo partito è il partito di Grillo il secondo partito ma per poco quindi Forza Italia rispetto 1758 allora noi dobbiamo immaginare due cose Forza Italia e il centro-destra di Agropoli non governa da oltre 15 anni questo non è fatto oggettivo teniamo un sindaco Franco Alfieri che l'ultima amministrativa è arrivata al 90% con un impegno in questa campagna elettorale fortissima per i suoi candidati Orlacchia e compagnia Farro quindi noi riuscire ad avere e a tenere un consenso con Forza Italia dopo che siamo sentati anche il nuovo centro-destra e i fratelli d'Italia e riuscire a tenere già il 21% secondo me è già un risultato soddisfacente per quello che è stato poi anche a livello di traino nazionale l'andamento verso il PD quindi noi ce li teniamo soddisfatti perché abbiamo retto teniamo conto di un'altra cosa e questo lo dico come critica nei confronti anche del partito stesso purtroppo noi abbiamo avuto un partito che non ci è stato vicino agli attori regionali e nazionali quindi questo non è stato vicino neppure nel problema che accendavo prima dell'ospedale perché tutti i partiti dal PD a Forza Italia a tutti gli altri partiti non sono venuti ad Agropoli a fare squadra e quindi a farti vedere dai cittadini combatti per garantire per tenere e per proteggere l'ospedale di Agropoli che è stata una conquista ma pensate che il sindaco ha lavorato dal senso però dobbiamo dire no io sto dicendo come partiti non sto facendo un'accusa al sindaco di questo però voglio dire la politica si è disinteressata è l'ospedale di Agropoli si è disinteressata è la salute dei cittadini di Agropoli questo è un dato di fatto oggettivo e certo quindi noi a riuscire a raggiungere il 21% in questa tornata elettorale dove il PD ha avuto il 40% il 41% dove praticamente è stata questa porta voti di protesta verso Grillo credo che sia un risultato soddisfacente poi sommavo questo qua se noi prendiamo poi ad Agropoli i voti del 21% di Forza Italia un circa 5% del nuovo centrodestra e un circa 4-5% da parte dei Fratelli d'Italia arriviamo comunque al risultato del 32% quindi il centrodestra di Agropoli ancora è vivo quindi un chiave regionale come la vedrai l'anno prossimo? in chiave regionale chiaramente naturalmente io l'ho detto anche a livello locale no anche a livello regionale l'ho detto anche a livello provinciale il problema è che noi ci troviamo quella difficoltà che anche se non dovuta all'ospedale di Agropoli la chiusura da parte di Forza Italia del centrodestra con una delibera fatta da quando c'era il governo centrosinistra comunque è stato chiuso sotto il governatore di Caldoro penserà a questo fatto anche ad Agropoli e quindi se noi però dico una cosa se il centrodestra si organizza se riusciamo a fare una squadra se riusciamo a venire vengono meno quelle che sono le dettripe interne credo che possiamo fare una buona figura ed avere un'ottima affermazione anche il problema del giro perdonatemi se vi interrompo perché a Salento davvero siamo quasi alle battute finali 30 schede mancano alla fine De Marco Avanti di 7 punti di 7 voti quindi davvero è ancora tutto lì è una cosa simpatica pure questa esatto poi sono due grandi amici sono stati sempre colleghi calciatori della Gelbison che noi salutiamo entrambi quindi Vincere Signore mi raccomando poi che alla fine deve stare quella compattezza Ascea ancora ancora perché abbiamo questi comuni e abbiamo anche Roscigno ci aspettiamo anche Roscigno stavo parlando un attimo con la collega di Ascea che diceva torna sulla situazione di Ascea allora Rosaria che cosa puoi dirci mancano ancora un po' di schede Carmela allora mancano ancora 380 schede 380 e attualmente si continua a mantenere quel plan di cui abbiamo parlato prima e in totale sono 1174 nella lista numero 1 Antonio Criscuolo carità da sindaco 1199 per la lista numero 2 Antonio Criscuolo carità da sindaco e 1291 per Pietro D'Antonio l'ha fatto già tanto già l'ho potuto il 30 e quindi la lista numero la sezione numero 3 di Ascea Marina ha concluso le schede adesso rimangono la sezione numero 4 di Ascea Marina e ancora la sta bella mi non ha concluso quindi mandiamo 380 schede sta bella sono sommissimi noi non diamo una di definitivo perché voglio dire prassi aspettare la fine però l'andamento è quello Maria Rosaria giusto? Noi sono curioso di di Salento perché adesso 30 schede è finita in tempo realo potremmo fare questo così Montano del Gaudio non so se riusciamo a sentirci ancora prima della fine della transizione altrimenti aggiorneremo i nostri telespettatori però tutti ci aggiornati va bene? grazie grazie mille grazie chiamiamo anche il sindaco Mazzei che stavano pace proprio lì X era fino a un certo punto vediamo un po' frattanto facciamo io volevo aggiungere a quello che diceva Mario è condivisibile anche se io analizzando sono d'accordo che Renzi ha portato voti a prescindere dalle preferenze però con il sindaco di Vallo che trovo concordo ho notato anche un'altra cosa perché ho fatto anche un'analisi stamattina del voto diciamo di preferenze quando si vota con le preferenze il centro-sinistra ha un lieve vantaggio non perché me ne voglia perché hanno più attrattori più a pil perché giustamente noi abbiamo lo si vede noi abbiamo 7, 8, 10 candidati che lo conoscevano tutti non è che lo debba dire il sindaco di Stile ma forse Italia che nonostante sia un grande partito onestamente non me ne voglia nessuno ma vedere ancora in lista Mastella è stato quasi un boomerang perché come diceva giustamente prima Tony qua si fa il rinnovamento ma un partito che ancora si presenta con questi elementi ma l'arma vincente di Renzi è quella no ma a parte questo poi dobbiamo dire anche un'altra cosa lo stesso Grillo io penso che il partito il partito democratico se ringorre Berlusconi per quanto riguarda l'assenza di preferenze fa un gioco al centro-destra e anche a Grillo perché proprio questa è la nostra diversità che Renzi è la guida però ci sono tanti altri amministratori e tanti altri uomini politici di centro di sud nel nord perché lei vede benissimo che l'ho detto prima Gianni Pittella è al suo quarto mandato ma ha portato la bellezza di 240.000 circa preferenze e quindi ha scavalcato addirittura un'annione entri tra virgolette nello scenario del partito quindi questo che sta a significare sta a significare che il voto di preferenza è un viatico in più per il partito democratico facciamo le ultime battute l'ultima battuta ma questo perché perché un po' di preferenza perché purtroppo parliamoci sinceramente cioè noi non riusciamo a formare come Forza Italia una classe dirigente vera cioè allora bisogna cominciare a pensare che le persone che sono candidati in Forza Italia nel centro-destra devono avere già di per sé un consenso a livello locale non è possibile che noi ogni volta ci inventiamo qualche candidato e poi scendiamo in campo perché è chiaro che con le preferenze la sinistra che scende con delle persone già collaudate naturalmente vince sempre e ci maltrato questa è la verità storica però ma posso aggiungere una cosa su questa cosa qua che è vera per l'amor di Dio però c'è un dato che viene dalla storia del PD recente cioè prima di Renzi c'era una situazione del PD molto molto critica in cui addirittura si parlava in maniera molto chiara di spaccatura del PD poi hanno trovato questo coraggio c'è stato nuovo questo ha avuto il coraggio nonostante ha perso le primarie perché aveva perso le primarie ricordiamoci bene aveva perso le primarie si è messo là a fare un duro lavoro si è riguadagnato una leadership ha vinto la segreteria ha avuto il coraggio di rinnovare tutto tutto quello che c'era da rinnovare all'interno della sua segreteria poi in modo diciamo tra virgolette non molto voglio dire trasparente abbiamo il sindaco Diomignano Emanuele Malatesta sindaco in diretta telefonica con rete 7 buongiorno buonasera buongiorno 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 perché c'è la luce qua allora cosa ci dice è riconfermato sindaco sta festeggiando eh sì ci abbiamo fatto la sfilata e festeggeremo ancora perché è stato un risultato al di sopra anche delle aspettative una soddisfazione ecco con quali numeri con quali numeri eh 500 voti di scarto rispetto alla lista in onetta vittoria allora c'è il sindaco del 75% c'è il sindaco di Stella qui che dice lo sapevamo già sì lo sapevamo tutti in verità bondà sua bondà sua c'è anche il sindaco di Vallo che le fai auguri Mario Pesta di Agropoli grazie l'ho già sentito grazie grazie allora cosa ti sente di dire ai suoi cittadini eh diciamo che continueremo con il nostro modo di amministrare saremo l'amministrazione di tutti naturalmente come lo siamo accertati in questi 5 anni passati e questa è la prima cosa Omignano ha riacquistato un modo di far politica e diciamo che è stata una campagna elettorale dura ma aperta era un risultato che ci aspettavamo ma non per presunzione perché la gente si era già espressa prima apertamente e trasparentemente e questa è un'altra soddisfazione perché si è ripreso il modo di far politica con dignità grazie grazie auguri ancora grazie grazie auguri ancora auguri grazie incredibile la notizia da Salento De Marco sindaco con tre voti di scarpa ma ci saranno le proteste sarà sicuramente un altro fotofinish sicuramente ricorso al tar già è pronto da Roscinio non riusciamo ad avere notizie ma sei se non risponde è confermato sì prego ma che è Franco Carpinelli sì sì di Carpinelli auguri a Franco io mi informo su Montano così poi ci abbiamo alla chiusura del caudio prego allora fermo restando questo e questo è un coraggio che hanno avuto perché voglio dire il centro d'esternato lo dobbiamo riconoscere non ha avuto questo coraggio probabilmente anche per la presenza incombente di Silvio Berlusconi che è un leader indiscusso del centro d'esternato però probabilmente adesso c'è bisogno un attimino di rinnovamento però insisto a dire questa è una vittoria di Renzi lo dico con molta grazia e con oggettività non c'entrano le preferenze scusami se tu vai a vedere lo ribadisco il divario che c'è tra voti di lista e voti dei candidati è impressionante in tutti i territori ho visto un pochino velocemente i giornali questa mattina ho visto sul web ma è sempre il voto di lista che va avanti se la gente ha scelto la gente ha scelto le Renzi scusami io finisco e lo ha anche legittimato rispetto a colori quali dicevano che Renzi era preso il potere era presente del Consiglio senza passare a terza elezione questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza ma l'italiano poi dimostrato con Berlusconi adesso con Renzi cerca sempre un leader a cui potersi appoggiare per quanto riguarda la politica prima è fondamentale e quindi ormai l'unico leader diciamocelo con umiltà lui io non voglio adesso fare come si dice come diceva il coordinatore cioè sogni di gloria noi dobbiamo stare con i piedi a terra perché i 2000 e i 2 milioni e mezzo di voti che si sono sono passati da Grillo a Renzi diciamo negli ultimi giorni c'è stato una grande fetta di recupero perché se lei vede anche gli ex poll 26, 31, 27, 34 due giorni prima erano tre punti di vantaggio due o tre punti di vantaggio questi sono dati certi perché è successo questo nel momento in cui l'ha detto anche un esperto io chiedo a Renzi per chi voti io voto per Grillo e poi non va a votare oppure viceversa quindi questo questo dato è poi sfumato perché anche c'è da dire anche un'altra cosa che c'è stato pure Zipras che ha preso il 4% ma sappia dei stessi voti che ha preso Selle tra destra è arrivato 4% all'epoca è arrivato 3% cioè voglio dire anche ci sono stati 9% di persone che non hanno votato con bunde al sud io guarderei guarda io parlo da centro-sinistra io guarderei bene alla regione ancora di fare soli pindalici perché i dati del voto di Napoli e provincia sono al di sotto abbondantemente del 50% e nel cilento e nel cilento questo è il 30 nessun comune tranne dove è andato al voto ha raggiunto il più di 50% di affluenza allora io per concludere così concludo ovviamente abbiamo tutti alla conclusione è ovvio ovviamente è d'obbligo dire che qualsiasi altra diciamo così considerazione ecco dovesse giungere all'amministrazione da parte del PD ovviamente non è una cosa mai di carattere personale ma sempre nel recinto questo consentitemi un attimino è personale non è politico scusami ma io su questa cosa qua la mia considerazione è molto personale non è politico però non è un problema quello che quello che no io sono dispiaciuto di questo perché insomma per chiudere dico questo è evidente che il questo per il PD non è un punto sicuramente di arrivo assolutamente il fatto che a Vallo 1400 persone assolutamente no non abbiamo mai spessa la campanita 1400 persone abbiano espresso un gradimento il fatto che sommando i tre pezzi della PDL ex PDL il PD sia ancora avanti non significa assolutamente che da oggi noi dobbiamo diciamo così volare come se ci fosse insomma qualcosa da conquistare nell'immediato io lo ribadisco la nostra ambizione il nostro obiettivo non è gioco forza a voler iniziare una campanita tra le oggi quindi su questo può stare tranquillo il sindaco a Loi stiamo soltanto è cambiato soltanto la considerazione in noi uno scatto generazionale di persone che si vogliono dedicare al bene di questo paese è scattato è un pizzico se fossi nel sindaco a Loi mi preoccuperei perché probabilmente 1400 persone che convintamente votano partito democratico potrebbe essere all'inizio di una mini rivoluzione anche nell'area centrale l'ultima battuta no consentimi a tutti siamo partiti da lì perdonatemi il punto della situazione su Ascea poi il sindaco poi ricordiamo tutti i sindaci eletti e ci salutiamo allora Maria Rosaria giocaci perché poi dopo il più cammela sì allora mancano circa 300 schede la situazione è rimasta come ti avevo detto prima però c'è un po' meno vantaggio da parte della lista numero 13 quindi non diciamo nulla ma voglio sapere quando è meno vantaggio perché di vantaggio ci sono circa 70 voti non più 100 come avevo detto prima ecco però voglio dire su quante schede scrutinate è diminuito di 30 voti lo svantaggio un centinaio sì più o meno da un 150 più o meno non diciamo nulla questo è il dato di Ascea al momento è in testa Pietro D'Angiolillo non diciamo nulla domani nel nostro telegiornale tutti i dettagli io sono sicuro che vince Pietro D'Angiolillo Renzo è sicuro io giornalisticamente non mi sbilancio fino a quando non si chiude lo scrutino non mi sbilancio allora chiudiamo tutto fai una ripetizione allora grazie Maria Rosaria grazie grazie a voi grazie buon lavoro a dopo grazie allora vogliamo far rispondere poi ricordiamo tutti i sindaci così poi ci salutiamo io dico solo questo anche se mi dispiace perché non voglio fare polemica voglio sembrare anche quello che sta là a rintuzzare ogni attacco però delle risposte vanno date il dato europeo non può essere voglio dire è del tutto diverso guardate è la prima persona scusate ma è la prima persona che ho sentito a livello nazionale da ieri sera costantemente collegato che ha trasportato e ha fatto questo paragolo tra il dato europeo e il dato amministrativo non esiste proprio perché è un paragolo che non esiste seconda cosa chiarisco noi abbiamo questo tipo di opposizione secondo me sbagliata come la vedo io di alcuni esponenti di alcuni esponenti del PD perché noi teniamo un'allianza con un'altra parte del PD che è all'interno della nostra amministrazione anzi che ben sta lavorando all'interno della nostra amministrazione la richiesta che faccio è quella per il bene di questa città perché oggi governo io domani mattina può governare un altro all'indomani ancora un'altra persona è quello di guardare sempre la costruzione del bene comune e questo si fa quando si fa un'opposizione ma costruttiva in cui c'è una proposta da quando sono sindaco e sono ormai passati tre anni io ancora non ho visto un barlume neanche di una proposta elaborata un barlume di proposta abbiamo fatto un piano regolatore d'accordo che è stata voglio dire è la fiore di questa di questa amministrazione però di proposte voglio dire importanti dico importanti non ne sono venute sulla sanità siamo intervenuti ripetutamente addirittura non si conoscono neanche gli atti prodotti da questa amministrazione questo è gravissimo vuol dire perché chi sta facendo opposizione o chi si illude di fare opposizione non legge neanche le carte neanche quello che viene prodotto da questa amministrazione che voglio dire è molto per l'amor di Dio può essere contestato non condivisibile ok facciamo una proposta alternativa per costruire insieme qualcosa per i nostri figli perché è questo che è la cosa importante caro Renzo mi serve allora iniziamo a salutare io un saluto però devo dire in questo diciamo in questo contesto mi lega tutto l'affetto ai vincitori per un proficuo lavoro da qui nei prossimi anni e anche a chi ha perso perché l'amarezza in questi momenti è triste chi vi parla conosce un po' queste situazioni dal punto di vista psicologico e quindi io in questo momento mi sento di lanciare un messaggio di abbraccio a tutti quanti più agli sconfitti che ai vincitori veramente dobbiamo essere solidari con tutti perché dobbiamo creare uno spirito nuovo uno spirito di solidarietà di aiuto e di collaborazione perfetto io volevo salutare i sindaci eletti a Franco Carcinelli che conosce personalmente di Gigerare che ha lavorato benissimo e tutti gli altri amici a Maria Ricchiuti di Novi e gli altri amici eletti un saluto a loro a tutti quanti e un augurio di buon lavoro per quanto riguarda Agropoli io credo che risultato che c'è stato non è stato un risultato proprio negativo per cui noi dobbiamo costruire su questo risultato raggiunto un nuovo centrodestra con dei nuovi leader e chiedere con forza che la destra quindi a livello regionale a livello provinciale sia vicina ad Agropoli che ci stia vicino perché teniamo naturalmente un grande un avversario veramente forte che è Frank Alfieri che è Frank Alfieri ma naturalmente la politica se si lavora bene se si fanno dei programmi se si fanno delle proposte alternative sicuramente la gente ci potrà stare vicina e potrà dare un'alternativa alla nostra città benissimo allora Riccardo vogliamo salutare sì io ringrazio pronti ad ospitarvi vi ringrazio di questa opportunità ovviamente il mio augurio a tutti i sindaci eletti vogliamo ricordarvi eccolo qua e ricordiamoli subito ad Albanella Renato Iosca ad Auletta Pietro Pessolano riconfermato a bello sguardo Giuseppe Parenti a buon abitacolo il collega Elia Rinaldi a Caggiano riconfermato Giovanni Caggiano lo confermi anche a Campora con Giuseppe Vitale a Casalbono eletto Attilio Romano a Casaletto Spartano Giacomo Scannelli a Casella Impittari Maurizio Tancredi Castelnuovo Cilento riconferma per Eros Lamaida a Cicerale stesso discorso riconferma per Francesco Carpinelli a Cuccaro Vettere Aldo Luongo a Felitto Maurizio Caronna a Futani Agnello Caputo a Gioia Andrea Salati a Giungano Francesco Palumbo a Laureana Angelo Serra a Maiano Vettere Carmine D'Alessandro altra riconferma esatto sì Carmine D'Alessandro altra riconferma Alberto Del Gaudio mancava qualche scheda sì ma era fatto era fatto era fatto anche qui puoi andare 50 volte a Morigerati sì 50 ma ultime 100 schede a Morigerati Cono Delia a Novivelia Maria Ricchiuti a Dominiano Malatessa come abbiamo ascoltato anche telefonicamente esatto a Ottati Edoardo Doddato a Rofrano Nicola Cammarano a Salento Gabriele De Marca a Sala Consilina Francesco Cavallone a San Mauro Cilento Carlo Pisacane a San Pietro Altanagro Domenico 40 a San Rufo Michele Marmo a Sant'Arsenio Antonio Coiro a Tegiano Rocco Cimino a Torchiara vittoria per Massimo Farro che rappresentava la lista uscente diciamo così a Torri Orsaia vince Pietro Cimino a Torraca Francesco Bianco a Valle dell'Angelo invece Angelo Iannuzzi San Rufo San Rufo Michele Marmo ah San Rufo sì ci manca solo lo scigno ricordiamo non era un comune che chiamava le urne per il rinforzo era un ballottaggio bisognava decidere due voti ecco chiudiamo intanto con la grande incognita di Ascea mancano più o meno 250 schede avanti a Pietro D'Angiolillo quindi noi non ci sbilanciamo domani apriremo il telegiornale con il con Pietro D'Angiolillo con il risultato di Ascea e Renzo ci dice in base alla sua grande esperienza devo dire che già due o tre anni fa quando fu la volta del sindaco Aloia già dopo i primi cento voti di vantaggio ha vinto Aloia ha vinto Aloia purtroppo ha vinto Aloia quindi l'esperienza di Renzo non smentisce questa volta eleggiamo il sindaco Pietro D'Angiolillo di Ascea purtroppo no lo aggiungiamo no 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 non metto lì non metto lì allora siamo pronti naturalmente ad ospitare qualsiasi confronto tra l'amministrazione comunale e il partito democratico quando volete naturalmente con alcuni perché mi confronto quotidianamente non perché voglio mi confronto quotidianamente con Valiante mi confronto quotidianamente è appunto quindi con alcuni quando voglio non è un problema a questo punto vi do una chicca perché probabilmente il nostro caro amico Attilio è stato convocato all'interno del direttivo è autonomo all'interno dell'amministrazione all'oglia l'hanno fatto fuori attilio? no fuori no assolutamente c'è stato un chiaro e sereno confronto che il partito democratico è uscito dalle ambiguità quindi il nostro caro Attilio di oggi in poi parlerà a titolo personale ah benissimo questa è una notizia va bene ok scritto alla burga dicono tu non sei più scritto no 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 assolutamente ma sei stato un compro ma io noto io noto c'è molta curiosità di sapere i fatti del partito democratico benissimo noi c'è un partito che ci riuniamo no no abbiamo avuto un confronto con Attilio serenissimo ovviamente lui per un senso di responsabilità ha ritenuto opportuno dichiararsi civico il nostro partito farà il suo corso c'ha un segretario c'ha 18 membri del direttivo eleggerà una segreteria farà una grande festa fra poco che dire di più forza partito democratico è bravo o in giunta o nel PD non è un ultimatum questa è la chiarezza che vogliono i cittadini dobbiamo dire le cose come è stato siamo in campagna elettorale no assessore Attilio Pir o in giunta o nel partito democratico lei mi dice di no allora perché è stato richiamato no Attilio Molinaro è stato richiamato Attilio Molinaro non piero perdonate Attilio Molinaro non è stato richiamato Attilio Molinaro è stata convocata è una persona con la quale ci confrontiamo spesso e siccome è stato eletto e direi che il PD facesse un confronto programmatico con noi vi ripeto sempre per costruire qualcosa ma lo farei ma lo farei intorno a un tavolo noi sono pochi mesi che ci mancherebbe a fare via è stata la chiarezza finale quindi chiarezza brutta alla finale voglio ringraziare tutti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia in questa lunga diretta ecco non cito nessuno altrimenti rischierai di dimenticarne qualcuno grazie a Renzo De Cesare grazie a voi grazie a chi ci ospita all'editore Giorgio Scelsa e tutti i tecnici Marco Maiesi in redazione Enrico Limoncelli Maria Rosaria Battagliese i colleghi del Vallo di Viano ringraziamo tutti i sindaci che sono intervenuti grazie naturalmente a tutti i nostri telespettatori che con gran pazienza ci hanno seguito grazie Renzo grazie a me grazie arrivederci grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri